che vivono di regione in regione, il paese è proprio specializzato in questo. Ora, lo sguardo che porto e che voglio condividere con voi lanciando anche questa tematica, perché sicuramente qua in mezzo c'è qualcuno che si occupa di spettatori innanzitutto, tra gli artisti e gli operatori, è uno sguardo di chi vive all'interno delle situazioni. Prima parlavamo di militanza, io non ho mai capito realmente che cosa significa, perché forse quando ho cominciato a lavorare era già finito. Insomma, mi piace usare questa espressione di abitare la battaglia che mi ha insegnato un docente che è anche qui oggi, ed è uno sguardo di distanza e di vicinanza insieme, di tentata e di sempre sofferta equidistanza, che è quella che vorrei invitare ad avere oggi in tutti voi. È uno sguardo che partecipa agli eventi e che è necessario per pensare, immaginare, anche sognare soltanto la notte svegliandosi su dati e ogni tipo di cambiamento. Allora, è uno sguardo vicino agli artisti, perché senza gli artisti, come diceva giustamente Andrea, noi dove saremmo? Però è vicino agli spettatori, perché senza gli spettatori gli artisti dove sarebbero? Da nessuna parte. Quindi proviamo a pensare allo spettatore come un vertice in cui un po' ci incontriamo tutti. Tutto quello che animeremo oggi parlerà di opportunità, di possibilità, di emergenza, di resilienza, soprattutto di applicazione, pratica, quindi veramente è con la pratica, quindi con l'azione che dobbiamo fare i conti, secondo me. Io credo che in questo sistema vi sia un gran bisogno di guardare e comprendere la possibilità di azione dello spettatore. Ma quale tipo di azione? Abbiamo detto già development, che potremmo tradurre con grandi difficoltà, insomma come al solito, è una traduzione come sviluppo. Già vengono da fastidio questo termine di sviluppo, perché è un termine poi che viene usato dai decreti, dai ministeri, dai bandi, e che prevede, presuppone che vi sia prima un diluppo da sviluppare, quindi in qualche modo che debba essere sciolto un diluppo. Ora, lo sciogliersi di un vincolo, di un diluppo, richiama un'idea di liberazione, però io credo che lo spettatore sia un ruolo che per propria natura deve essere annodato, un ruolo complesso, avviluppato. E non credo che le arti performative, il teatro, la danza, debbano per forza dimostrare nelle proprie azioni una capacità di semplificare, di sciogliere, anzi, il contrario probabilmente. Cioè un groviglio di cavi che rotola giù da un diluppo, non è che magari non si scioglie, però esprime libertà attraversando degli spazi. Invece sembra esserci una grossa ambiguità in questo paese tra l'idea di capire e l'idea di sentire da parte dello spettatore. Fateci caso, molte persone che non sono abituate come tutti noi oggi ad andare a teatro, ai suoi linguaggi, escono dicendo ma io questo spettacolo non l'ho capito. Come se ci fosse ancora un'idea che lo spettacolo ti debba dire qualcosa, ti debba spiegare qualcosa, ti debba sviluppare e risolvere qualcosa. Ora, spesso molti artisti si lamentano di non essere compresi e molti spettatori di non comprendere. Allora forse il development non dovrebbe essere usato solo in funzione di un allenamento alla visione, che è quello di cui noi ci occupiamo anche quotidianamente scrivendo, ma della costruzione di un linguaggio comune, che è la vera sfida, secondo me. Per questo sono piuttosto restito anche a usare termini usatissimi, tipo accompagnamento, mediazione, coinvolgimento, ingaggio, engagement, no? Mi sembrano tutte azioni vettoriali, cioè che vanno da un A a una B e quindi che riportano un'idea di spettatore disattivato che bisogna attivare, come se ci fosse un interruttore che finalmente attiva l'automa. Io non credo che si tratti di questo, nel momento in cui un'opera si presenta davanti allo spettatore, quello è già uno spettatore attivo, la sua semplice presenza è via testimoniare che è attivo, questa presenza qui. Io credo si tratti appunto di osservare e di comprendere quell'azione innanzitutto, di entrare in dialogo con quell'azione, di far sì che quell'azione parli e sia parlata. Forse parlavamo prima di cultura vivente, no? E non museale. Forse comincia e termina innanzitutto qui. Io uso molto, mi piace tanto, l'espressione di pensare lo sguardo, che ha molto a che fare con l'azione critica, sì, di quello che scriviamo, ma soprattutto di quello che proviamo a scambiare con le persone che magari incontriamo in ambiti paraformativi, chiamiamoli così, insomma, laboratoriali. Quindi il contatto con lo spettatore, secondo me, va pensato come un ascolto innanzitutto. Sappiamo bene quanto presente sia in queste e in altre città il ragionamento intorno allo spettatore, no? Suona nelle cifre degli abbonamenti venduti, se ne parlava della conferenza stampa del triennio, dei biglietti staccati, ultimamente anche molto delle interazioni prodotte, se avete familiarità con i social network, con le comunità virtuali. Il rischio però è che, come spesso capita ultimamente, riduciamo quella risonanza a un'unità numerica che è difficilmente indicativa dei processi, che in quanto processi appunto sono delle strutture complesse. All'Assemblea del Teatro del Lido qualche settimana fa, l'assessore Bergamo, il vice sindaco, parlava della necessità di produrre degli indicatori che misurino la reale ricaduta delle operazioni culturali, indicatori che a quanto pare non esistono ancora. E di certo non basta il dato dell'affluenza di pubblico o le cifre di sbigliettamento dei teatri, perché sono determinati da altre variabili, come il numero degli spettacoli in cartellone, la loro tenitura e di certo la loro qualità artistica, la loro differenziazione, quindi non basta quello. Allora come facciamo? Se non vogliamo misurarla, come la osserviamo? Come la ascoltiamo e dunque come la comprendiamo quell'azione dello spettatore? Innanzitutto entrando nell'ottica che il contatto proposto dal teatro allo spettatore è un contatto che è basato sulla relazione, una relazione che di certo transita e si modifica, ogni volta si forgia, in qualche modo si evolve, attraverso la straordinaria varietà dei linguaggi del teatro. E le presenze oggi lo dimostrano veramente. È una relazione complessa, che non si può racchiudere, e in questo sono d'accordo con Graziano, solo all'interno di processi strategici, quantomeno per quanto riguarda lo spettatore, cioè quelle persone che abitano gli spazi e che cercano continuità. Di certo si può parlare, si deve parlare di pratiche, senza bisogno di metterci per forza buone pratiche davanti. Innanzitutto parliamo di pratiche. Comunque, cerco di essere breve, perché molte cose veramente sono state già dette. Io insisto soltanto che non sappiamo realmente, per la mancanza di questi indicatori, se gli spettatori a Roma, fuori Roma, siano aumentati realmente. Di certo sono aumentate delle camere di dialogo in questo ultimo periodo. Sono esplosi i social media, la facilità con cui tutti usiamo internet e tutti i dispositivi ci hanno portato a riaprire delle camere di dialogo sul teatro, anche, come dicevo prima, in forma formativa, paraformativa. Ora, attorno a questi luoghi di discussione, negli ultimi anni hanno trovato spazio diverse azioni di ragionamento sul ruolo dello spettatore, in particolare. E sono appunto dei percorsi didattici e faccio fatica a parlare di formazione, perché di nuovo è come qualcuno che forma qualcun altro. In realtà mi piace più parlare di trasformazione. A Roma ce ne sono diverse di queste esperienze e ce ne sono in tutta Italia. Quindi se vogliamo parlare della situazione di questa città oggi, delle sue opportunità di rilancio, come scritto nel comunicato, e proporre noi un movimento di studio e di intervento, forse lo spettatore deve avere proprio la prima attenzione, non solo attraverso una programmazione plurale, il compito dei direttori artistici, vincenti, una definizione più sana, più ecologica della geografia degli spazi, o delle azioni profilate per target, come spesso ci capita di vedere, quindi sui migranti, sui diversamente ambiti, eccetera, eccetera. No, ma verso un'animazione che sia realmente partecipata con chi offre quell'offerta artistica, con chi abita quegli spazi. Chiudo dicendo che attraverso delle opportunità di incontro, di messa in crisi, perché forse è di questo che parlo, dello spirito critico che sta alla base di ogni esperimento teatrale, quella capacità di dividere lo sguardo, no? Crino, dividere. È da lì che io vorrei che si ripartisse oggi. Non sono discorsi teorici, attenzione, sto parlando di pratiche, sono cose che già si fanno, che facciamo, che se ci conosciamo di vista, non è solo perché frequentiamo lo stesso teatro, ma perché parliamo dello stesso teatro. E spesso non siamo d'accordo, e ci interroghiamo sullo stesso teatro. Quindi a chi è venuto qui oggi, porto la necessità di immaginare delle strutture più solide, provando a passare in termini operativi, più aperte a una sinergia, che creino dei presupposti per coltivare un vero e proprio terreno critico, che proteggano questo tipo di relazione, come con i binari, di diavolo, di messa in crisi, di trasformazione, tutti i processi dai quali è possibile far esplodere un fuoco che è già lì. Non è che lo dobbiamo riattivare, sta lì. Cioè, non solo, e non tanto come un antidoto a questa fantomatica scomparsa dello spettatore, ma un punto di vista che si soffermi sull'organismo primario, quello che sposta l'indicatore numerico sul lago della qualità spirituale, che è quello che lo spettatore dimostra, dell'arricchimento non solo più della visione, ma quello dello stesso vissuto, quindi dell'esperienza, e che si chiama, in due parole, cultura teatrale. Perdonate l'anarchia dei relatori, non solo l'anarchia dell'Assemblea. Invece, l'Assemblea, diciamo, la cominciamo con un gruppo di tre interventi, sono Stefania Minciullo, Fabrizio Parenti, e facciamola con la. Forse potete usare anche un terzo microfono, non ne abbiamo voi, direi che basta, c'è una delle maschere che ci vediamo. Se volete venire qui, peraltro c'è anche quello alla GIO, forse è meglio, così siete tutti visibili. Mi dispiace dovervi ricordare il tempo, siccome sono molti iscritti a parlare, il tempo di 10 minuti entro cui dovresti, diciamo, ottenerli. interventi detti, era bello. Sì, non pensavo di fare un intervento, pensavo di partecipare a un tavolo. Il suo non l'ha ancora fatto. Dunque, oddio, è difficile però, dover fare un intervento in questo momento. Dunque, perché ho chiesto di partecipare? Mi dite tutti quanti che sono sempre arrabbiata, volevo dire, non sono arrabbiata, semplicemente cerco di appunto tenere il punto sulle situazioni, forse dire più spesso degli altri che il re è nudo e penso che ogni tanto ce lo dobbiamo ricordare. Ultimamente sento che siamo tutti quanti un po' appunto spaventati da tanti problemi e perdiamo il punto sulle cose reali. Io credo di essere un po' il prodotto di 10 anni di politiche che sono state fatte in questa città, inerenti ai teatri di cintura e devo dire che dopo 10 anni ho attraversato esattamente tutto quello che è successo, quindi dall'apertura del teatro biblioteca Quarticciolo con la gestione del teatro di Roma in cui parenti se mi venivano fatti dei contratti annuali in cosa si potevano fare, no? Spot. Poi a ottobre ti chiamavano, l'assessore ha deciso di riaprire i teatri, tra due settimane riapriamo, insomma, in quel periodo di continuità del teatro di Roma e poi non era una vera continuità, cioè venivano riaffidati di volta in volta. Poi a febbraio del 2013 l'era Gasperini con l'idea di impostare questi bandi, dall'oggi al domani mi sono trovata a essere sullo stesso posto ma non più a lavorare per il teatro di Roma ma per Zetema, dall'oggi al domani veramente e da lì è partito il processo di questi bandi, di questi sistemi. Ricordo che dal 2013 ad oggi ce ne sono già stati due e ora forse ci ripetiamo al terzo se ho capito bene. Quello però è successo oltre a livello istituzionale e reale oltre al fatto che io ho perso il lavoro un anno fa perché vabbè questo problema è mio quello che veramente è successo è quello che avete raccontato voi cioè non è stato dato veramente il tempo alle persone che ci sono state a gestire degli spazi per poter creare un rapporto con i territori di riferimento. Questo perché è connotato nella natura del bando cioè il bando è annuale poi l'assessore ce l'ha spiegato l'altra volta a Ostia ci serve proprio da cambiare una legge di bilancio non so se questo sarà possibile poi forse ce lo racconterà per far sì che i bando non siano annuali ma siano almeno trimestrali io non voglio mettere triennali triennali scusate non voglio mettere in dubbio questo voglio però ricordare che questi ultimi quattro anni sono effettivamente sono stati messi realizzati dei modelli di gestione di questi spazi l'unico modello particolare è stato quello del teatro del Lido ma so che poi faranno un intervento perché loro lo hanno difeso quello spazio e hanno potuto applicare delle politiche che per quattro anni e anche di più sono state continuative per la presenza delle stesse persone che ci lavoravano per la presenza di un operatore culturale di rete che ha creato dei pieni rapporti con il territorio che non sono stati interrotti annualmente come purtroppo è successo negli altri spazi come è successo dopo la chiusura tramite il teatro di Roma quattro anni fa quando forse avevamo ancora voglia forse quando c'era un teatro valle occupato che ha dato tanto a questa città e se parliamo di efficacia l'efficacia l'abbiamo riscontato su tante cose tra queste ci avevamo tanta voglia di incontrarci abbiamo anche scritto un manifesto di teatro pubblico partecipato che in un anno ci siamo incontrati in realtà diverse dall'insegnante della scuola agli occupanti di altri spazi ai lavoratori di quegli stessi spazi per interrogarci qual era il modello giusto per quei teatri noi lì abbiamo parlato di un teatro di Roma che era è vero sì un gestore ma non soltanto formalmente perché a me personalmente leggere che il teatro di Roma si deve occupare di bandi un po' mi fa paura io vorrei che il teatro di Roma fosse veramente ispiratore e guida di questi spazi perché ci dovrebbe essere un vero sistema teatrale in questa città di coordinamento e di cooperativa tra tutti quanti noi attori di questa città e allora vorrei essere un po' prepositiva non soltanto tirare avanti dei problemi forse dobbiamo tornare a quattro anni fa e ritrovarci tutti quanti insieme anche a chiederci insieme qual è il futuro e il ruolo di questi spazi io ora parlo dei teatri di cintura ma parlo di tutta la città parlo anche di questo teatro perché direttore non basta farci vedere le foto di Marsiglia e di altre città non è lo spazio che ci manca ci manca il cuore ci manca chi effettivamente fa delle proposte e si mette in campo noi siamo tutti qui perché siamo pronti a metterci in campo non vogliamo essere consultati vogliamo essere coinvolti nella politica di questa città e quindi io quello che propongo è magari trovare iniziare a fare chiamando anche chi effettivamente per 12 anni passa a gestire e ha lavorato in questi spazi e quindi io mi propongo sono la memoria storica di questi teatri mettiamoci al pari a fare una riflessione su quello che può essere non basiamoci soltanto sull'idea di fare un nuovo bando per i teatri di cintura pensiamo a una politica un po' diversa perché il bando mi sembra molto riduttivo guarderei più a un confronto con le altre realtà che ci sono state il primo probabilmente è il modello del teatro del Lido che ci ha fatto una presentazione stupenda l'altro giorno il modello del teatro pubblico partecipato gli ha funzionato non può funzionare negli altri teatri non lo so chiediamoci verifichiamolo verifichiamolo insieme ritorniamo ad essere attori attivi di questa città vi ricordo è una città in cui invitiamo le compagnie a venire a incasso però poi noi non garantiamo la presenza di un pubblico perché non stiamo facendo un vero lavoro sul territorio sul pubblico e se non portiamo il pubblico al teatro le compagnie vengono a zero ci stiamo credendo di venire a lavorare gratis come stiamo facendo tutti quanti noi quindi ripartiamo da creare delle vere solide basi per capire quali sono gli spazi su cui possiamo agire e lavorare tutti quanti insieme grazie è stata assolutamente lì voglio segnare soltanto due temi che stanno uscendo il primo è quello della continuità e dell'insufficienza dello strumento del bando mi sembra che sia un tema assodato su quale quindi possiamo segnare così e il secondo è quello evidentemente voglio dire di una crisi proprio di rappresentanza a questo momento perché mancano degli strumenti di collegamento tra istituzioni compagnie teatri cioè diciamo tra mondo istituzionale e invece creatività diffusa come viene come è stata designata ciò detto abbiamo proprio il rappresentante invece di un ultimo spazio che è che è arrivato Sant'Ambrogio che è Fabrizio Parenti grazie a Centro grazie a Graziano grazie a Andrea grazie a Tiglio e grazie al direttore Calvi per l'ospitalità per questa iniziativa che giudico non dico fondamentale ma comunque molto importante allora io del rialto parlerò poco perché c'è lui Luigi Tamborino che è il nostro presidente e lascerò più a lui le riflessioni sui atto c'è un qualche breaking news insomma da ieri siamo dentro di nuovo e si è aperta una trattativa grazie si è aperta una trattativa con la Sessione Mazzillo in un 18 tavolo tecnico questo appunto lascio tutto a Luigi che è anche più presente di me perché sono stato bloccato da Minerusi Celerini e quindi mi è stato anche il pericolo di arrivarci e diciamo questo e ieri anche se ne discuteva insomma un po' gli assisti da questa diretta abbastanza surreale in alcuni momenti iniziali del confronto ma si discuteva questo discorso dicendo però il problema è che qui bisogna riprendere a fare le cose in legalità e io partirei da questo perché una cosa che io sento profondamente è che a Roma c'è stato per anni un grande problema di legalità ma soprattutto c'è un enorme problema di giustizia e giustizia e legalità non sono la stessa cosa assolutamente in questa città la giustizia non esiste non è mai esistita soprattutto per quello che riguarda le attività culturali e chi l'ha prodotta e chi l'ha portata avanti chi se l'ha inventata io vorrei partire a fare un po' di giustizia quindi direi una cosa per il primo punto negli ultimi diciamo quasi 30 anni ormai parliamo dei primi anni 90 chi ha prodotto cultura contemporanea ha sperimentato ha dato spazi creatività non è stato il pubblico il pubblico non è esistito sono stati sono privati sono stati centri sociali sono stati compagnie sono stati piccoli teatri che hanno fatto questo lavoro qui al posto del pubblico il pubblico si è limitato a un certo punto a dare gli spazi ed è stata forse una cosa importante che è avvenuta ma quando è intervenuto è intervenuto con festival con cose ma non con la creazione della cultura contemporanea teatrale e non solo tutto questo è stato fatto da privati questi privati in questo momento non hanno avuto nessun tipo di riconoscimento per quello che hanno fatto per questa città per questo territorio in questi anni anzi vengono perseguitati come fosse per il problema noi veniamo accomunati a mafia capitale questo è indegno è indegno che chi ha prodotto cultura chi ha prodotto socialità chi ha prodotto comunque una discussione e ha creato compagnie ha creato artisti e ha permesso a questi di formarsi di lavorare che venga trattato come mafia capitale che venga trattata come forse la banda della maiana questo è follia e su questo c'è un problema forte della politica perché non c'è stata una politica in questi anni che ha riconosciuto il valore a tutta questa situazione questa cosa non può più esistere cioè non si può isolare dal fatto che queste cose qui sono stato un bene comune per questa città sono stato un prodotto offerto a questa città gratuitamente anche rischiando le condanne rischiando le denunce molte volte dentro questa situazione qui e questa cosa non si può più non possiamo più esimerci di dirla perché in questo momento è il primo punto da cui partire bene secondo punto appunto la politica diciamo che cosa è successo se si è partiti in anni passati con una polma politica leggermente più appunto come la regola con la conoscenza degli spazi occupati e così via man mano è stata questa in cima in dissolvenza incrociata fra un salire di un potere della magistratura e un scendere di un potere della politica ora però se la politica non fa la politica perché deve esistere la politica cioè in pratica se io sono governato la Corte dei Conti forse è meglio che vada a eleggere i giudici della Corte dei Conti e non gli assessori e non i sindaci e non i consiglieri comunali che se non le chitrano se non cambiano le leggi esistenti se non modificano le specie attuali non si sa che cosa stanno facendo lì perché se poi l'assessore il sindaco il consigliere deve rimuoverci soltanto sull'indicazione della Corte dei Conti ma non vi serve un passamano in mezzo a queste due figure la Corte dei Conti me lo dice a me io parlo con la Corte dei Conti e lì risolviamo i problemi partiamo da quest'altra considerazione seconda considerazione terza considerazione altra cosa che qui è mancata in maniera assoluta e qui abbiamo alcune di Albi che io ho conosciuto in varie forme tra le altre anche come direttore del Dipartimento allo spettacolo del Comune di Milano e per esempio la minima volontà da parte politica che qui parliamo di varie amministrazioni anche di vario colore di avere una concertazione una discussione ma non casuale così al pari ma istituzionale con le realtà operanti con gli operatori con le compagnie con questi spazi in modo da definire criticità e soluzioni delle quali in maniera unitaria questa cosa a Milano c'è stata è stata inventata da Antonio praticamente e questo discorso qui però è un cambiamento radicale di prospettiva perché vuol dire che io non sono governato ma che io governo con chi è delegato a governare praticamente ovvero chi è eletto ma io come operatore perché lui sta governando il mio territorio le mie esigenze se non c'è un confronto su questo non si sa su cosa governa perché non si può essere una politica che è fatta solo nella testa degli assessori non ci può essere una politica culturale che è fatta solo nella testa di chi governa la politica culturale è una cosa che parte dal basso perché se non parte dal basso non sarà mai inclusiva non sarà mai condivisiva e quindi sarà praticamente inubile sarà un'esibizione di ego di qualcuno ma appunto sarà quello quindi questo è un altro discorso da affrontare in maniera assolutamente diretta cioè quindi bisogna creare una situazione permanente di confronto fra tutte le realtà secondo me si parli di sistema internazionale ma si può anche parlare di sistema culturale comprendendo tutto perché per quanto mi riguarda il problema è molto più ampio che riguarda in generale tutta la cultura contemporanea quindi chi da TAS vuole parlare di sistema culturale di sistema internazionale e così via però secondo me le cose più sono continuamente messe insieme più messe in relazione e in anche trasversalità più è importante per una crescita che accomuni le cose che mischi differenti pubblici che mischi differenti realtà da cui si viene che non chiudano gli orticelli perché questo è un altro problema di questa vita gli orticelli molto pericolosa perché tutto questo che è avvenuto una politica che ha fatto questo un'assoluta assenza di pubblico in un momento della creatività e della costruzione di qualche cosa e è avvenuto pure perché metà e bisogna dircelo perché se no qui ci stiamo prendendo per i frontelli metà se non più degli operatori di questa città si è chiusa con il proprio orticello e ha pensato soltanto a cortivalsero ma questa non è più possibile signori qui bisogna avere dei progetti comuni per poter andare a discutere con la politica e per chiedere delle cose ben precise per esempio noi comunque siamo sempre dentro una logica anche come reale di non chiedere soldi pubblici ma chiedere l'agibilità l'agibilità c'è avere uno spazio per noi vuol dire io non vengo a chiedere il finanziamento il bandino io voglio l'agibilità poi mi invento io come procedere però è un altro discorso perché anche in quello c'è bisogno di intervento della politica bisogna cambiare le regole bisogna cambiare numerose regole ora è ovvio che alcune regole sono su un piano nazionale e certo un potere locale non può fare molto però può iniziare a fare quello che può fare che può essere un segnale a livello nazionale e poi cambiare a livello nazionale perché se nessuno inizia a fare nulla chiaramente nulla verrà fatto cioè se non inizia a livello nazionale non va a livello locale se non inizia a livello locale non va a livello nazionale e allora agli regolini grazie questa cosa è proprio appunto da ripartire un altro vicino cosa posso fare io per cambiare il concetto di associazionismo perché è una cosa folle perché è una cosa folle per cambiare una serie di cose che vanno cambiare va bene per cui partendo da questo ripeto la principale la principale forma da iniziare è quella del confronto del confronto che viene istituzionalizzato non creato così ma istituzionalizzato ultima cosa e poi di tutto India d'accordissimo con quello che dice Antonio ma questo posto qui è un posto che deve andare oltre le dimensioni in cui è stato iscatolato perché è un posto che deve contenere tutto deve contenere musica performance mostre teatro deve diventare un vero centro di evoluzione culturale contemporanea aperto alla gestione che non può essere soltanto questa perché non è un problema di Antonio e non è un problema di qualcuno ma è un problema delle strutture perché una struttura come il Tarlo di Roma non può gestire questa situazione al meglio delle possibilità da sola o con l'attuale situazione statutaria e comunque di struttura quindi questa cosa qui va aperta va aperta alle varie possibilità che ha e va aperta a vari soggetti che ci possano intervenire chiaramente tutto questo stiamo parlando di qualche cosa in cui non c'entrano i panni qui c'entra scusate anche questo quegli spazi che hanno prodotto tutte queste cose qui c'è andato qualcuno con il frullino tipo noi ieri è entrato va bene e ha fatto quello e si è creato su un campo un pedigree e questo è venuto al Colatino è venuto da noi è venuto all'Angelo Mai è venuto al Val e così via questa cosa qui non è stata fatta con un bando è stata fatta con un gruppo di persone che si è messa lì a lavorare e dimostrano sul campo che la proposta che faceva era valida perché questo è un discorso da fare allora pure in questo discorso qui va capito come organizzare l'assegnazione e l'uso degli spazi ma va data la possibilità che queste cose avvengano partendo ripeto da confronto 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 grazie grazie a Fabrizio Parenti direi che possiamo sintetizzare i temi di appuntari parecchi però diciamo possiamo sintetizzare che Sergio ha fatto sempre nell'eventuale documento che stileviamo alla fine il discorso appunto del confronto con la politica che usciva fuori anche dal mio intervento il discorso del contemporaneo che sarebbe anche un'altra che pone altri interrogativi dal punto di vista delle norme perché io vorrei ricordare che abbiamo parlato e giustamente perché è il DNA di questa città di spazi occupati di spazi autogestiti di spazi assegnati ma quando fu sgomberato nel 2009 contestualmente se non ricordo male anche il Madre c'è un museo a Napoli subiva un procedimento analogo con la stessa modalità e la stessa giustificazione di legge perché aveva fatto delle serate aperto alla musica quindi è immaginabile come dire che gestire nella maniera che prefigurava Fabrizio Parenti il teatro India comporterebbe una serie di problematiche normative decisamente molto pesanti quindi questo è un aspetto su cui riflettere assieme a quello della vocazione degli spazi perché il tema di suggerimento dei bandi passa anche da un discorso di vocazione quello che Fabrizio Parenti diciamo sintetizzava chiamandolo percorso è anche diciamo legato al termine della vocazione la vocazione sui territori oppure la vocazione a livello cittadino di alcuni spazi per quanto riguarda l'assistenza alla creazione contemporanea abbiamo un terzo intervento che è quello di Facciamo la Conta non so a chi mi metto qua sarò meno sarò meno disincontro e tranquillo di chi mi ha preceduto eccoci qua colorato colorato parlo io per tutti loro sarò meno disincontro e tranquillo di chi mi ha preceduto anche perché sono un attore e sono emozionato ma figuri e qua dietro toro disoccupato o sottooccupato allora buongiorno siamo le attrici e gli attori professionisti di Facciamo la Conta al momento più di mille che valutando la grave crisi del nostro comparto si sono riuniti per studiare ed entrare nel merito attraverso il monitoraggio e l'elaborazione di proposte delle molte problematiche di sistema che riguardano la nostra categoria l'Italia è l'unico paese europeo che ancora non ha dato una definizione giuridica dello status dell'attore non riconoscendo al nostro lavoro altamente specializzato un ruolo chiave nel processo di costruzione di una società democratica con una serie di pesanti conseguenze in termini di mancanza di diritti e di svantaggi sociali ed economici su noi attori lavoratori e nel 2017 affermiamo che questo vuoto legislativo è cosciente e colpevole ci sono tante figure necessarie allo spettacolo dal vivo ma solo due indispensabili senza l'attore e lo spettatore il teatro non esisterebbe eppure le figure artistiche sono relegate ai margini registriamo un'oggettiva diminuzione delle opportunità di accesso al lavoro e il decreto Franceschini e tutte le normative locali collegate si sono immesse in una già drammatica crisi occupazionale in modo assolutamente nocivo criteri come le quote riservate agli under 35 e l'obbligo di istituire scuole di formazione in ogni teatro nazionale creano sacche di lavoro sottopagato invece di introdurre forme di protezione del lavoratore per tutto il corso della sua carriera riteniamo le agevolazioni under 35 così come sono concepite dal decreto e attuate incostituzionali infatti la normativa che regola l'erogazione di finanziamenti pubblici fatte salve eventuali eccezioni che possono riguardare specifici progetti dedicati ad artisti under 35 o ad altre categorie deboli dovrebbe attenersi al principio costituzionale uguali diritti uguali opportunità prescindendo dall'età e dal sesso dei soggetti destinatari qui invece rappresentano solo un mezzo a disposizione dell'impresa per fare soldi tagliando il costo del lavoro con l'aggravante di interrompere quel fondamentale rapporto di trasmissione di saperi e competenze tra generazioni che l'arte e i mestieri hanno come ontologica forma di relazione e quale vantaggio hanno i teatri in una realtà di altissima disoccupazione tra i professionisti con un panorama nazionale già saturo di scuole di teatro e corsi di formazione a crearne altri se non di mettere sul mercato un flusso sempre nuovo di lavoratori a basso costo e senza tutele il labile confine tra formazione e produzione formazione e produzione porta a situazioni ambigue di sfruttamento lavorativo in cui il lavoro le prove in primis non è pagato o è sottopagato si sta sdoganando l'idea che gli artisti e lo stavamo dicendo debbano lavorare gratis da una parte c'è il culto della personalità con cascerri conosciuti solo ad alcuni professionisti di chiamata dall'altra la pretesa che il lavoro di altri professionisti non abbia un valore da remunerare adeguatamente arrivando talvolta persino a sostituirli con amatoriali e dopo lavoristi è un mal costume che deve finire sia a livello nazionale che locale portiamo ad esempio il capodanno del comune di Roma di cui già molto si è discusso o la festa del teatro del 22 ottobre del ministro Franceschini così come gli avvisi pubblici del comune di Roma per le attività di spettacoli e culturali alla sala sanitarita e al teatro di Villa Torlonia che non prevedono finanziamenti ma solo oneri per le compagnie noi riteniamo che all'Italia manchi una politica di investimenti sulla cultura di tutela della professionalità e di creazione di lavoro a beneficio non solo dei lavoratori dello spettacolo ma di tutto il paese a partire dalla sua capitale noi attori non parliamo solo come scritturali ma anche lo sappiamo in molti come persone che trovano il coraggio di fare impresa e spesso vi sono costrette all'attuale assessore alla cultura e vice sindaco del comune di Roma chiediamo qual è la vostra politica vi pregherei se potreste risponderci immediatamente dopo l'intervento visto che finirò a breve chiediamo qual è la vostra politica nei confronti delle associazioni culturali anche quelle che non hanno finanziamenti ministeriali e delle compagnie teatrali indipendenti a Roma attori e associazioni di attori a quale forme di finanziamento e distribuzione possono accedere noi denunciamo 1 la mancanza di bandi e avvisi pubblici adeguatamente finanziati destinati alle compagnie indipendenti che fanno spettacoli dal vivo sul territorio 2 la totale mancanza per le compagnie indipendenti di agevolazioni fiscali so che non è un problema che riguarda solamente come dire il locale semplificazioni procedurali messa a disposizione gratuita di spazi teatrali pubblici all'attuale direttore del teatro di Roma invece chiediamo trasparenza nell'impiego degli artisti tramite audizioni adeguatamente pubblicizzate e non solo chiamate a persona chiediamo quanti sono gli attori over 35 scritturati stagionalmente in rapporto al totale degli artisti impiegati chiediamo inoltre scusatele molte domande quali sono i canali per proporre e realizzare negli spazi del teatro di Roma i propri progetti artistici sembra anche che qui anche qui che conti solo il rapporto personale e non criteri oggettivi e una valutazione qualitativa delle proposte chiediamo ancora perché il teatro di Roma è l'unico che ancora obblighi gli attori a lavorare con partita IVA quando il nostro lavoro indica il rispetto di orari e condizioni tipici del lavoro subordinato infine visto che siamo in fase di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale approfittiamo di questa occasione per dire all'attuale direttore del teatro di Roma che se vuole può esprimere in sede agis una posizione netta a favore del lavoro degli artisti non ostacolando le nostre seguenti richieste rinnovo del contratto nazionale del lavoro fermo dal 2010 obbligo per le aziende di impiegare un numero di attori di tutte le fasce d'età congruo rispetto al fusso ricevuto e infine sanzioni fino alla revoca del contributo fusso alle aziende che non applicano il contratto nazionale grazie abbiamo dovuto fare alcune inversioni diciamo per dare spazio a Luca Bergamo che interverrà questa mattina e non questo pomeriggio come era previsto quindi abbiamo ancora tre interventi che chiederei brevi insomma brevi dieci minuti ma insomma di stare nei tempi perché entro luna daremo la parola appunto all'assessore che dopo di che penso resterà per questa mattina ma dopo non sarà presente nella sessione pomeridiana quindi Attilio abbiamo Valentina Salerno credono gli artisti anche altri interventi devono fare comunque domande al è poco tempo chiederemo una risposta collettiva ovviamente sicuramente l'assessore Bergamo ha segnato diciamo tutte le domande a cui intende rispondere allora buongiorno a tutti io mi chiamo Valentina Salerno sono diciamo una piccola compagnia che è nata a Roma tre anni fa teatro dell'illusione il mio nome insomma omen omen dice già una una prospettiva penso che in pochi mi conoscano sono felice di questo perché non amo frequentare i salotti quello che diceva adesso l'intervento prima di me spesso molte situazioni nascono anche sul contatto personale insomma c'è tanto da fare c'è tanto da scardinare perché il sistema e soprattutto dobbiamo dire la verità il sistema a livello nazionale non funziona non funziona come vengono amministrati questi soldi ma io oggi non voglio parlare di questo perché sono veramente tantissime le cose gli argomenti che dovremmo affrontare e mi auguro che questo bell'incontro sia il primo di una lunga serie perché appunto ce ne sono tante di cose da dipanare e mi ricollego per iniziare il discorso che voglio portare avanti alla metafora che ha fatto Andrea Porchedu all'inizio della giornata cioè quella della fermata dell'autobus con tante persone ferme che aspettano e l'autobus non passa e quindi alcuni vanno a piedi io per vocazione naturale sono una di quelle persone che non aspetta troppo la fermata dell'autobus che non va a piedi ma che magari si mette lì con quello che trova e cerca di costruire un mezzo di locomozione alternativo perché credo che la dignità che è una parola fondamentale che dovremmo recuperare tutti attori organizzatori chi gestisce i fondi pubblici gli amministratori dovrebbero recuperare la parola etica e dignità perché troppo spesso la dimentichiamo in nome dell'arte in nome dei fantastici sentimenti che ci abitano spesso a volte dimentichiamo qual è la regola essenziale che diceva anche Peter Brook ragionare per tu e non per io perché il discorso degli orticelli del del non dire no spesso a delle condizioni che sappiamo tutti essere inadeguati sono quelli che ci hanno anche condotto fin qui Crepino gli artisti che questa pagina che ho creato negli ultimi cinque giorni ha registrato 1300 adesioni chiaramente virtuali al momento ma che mi hanno aiutato a capire che quello che io penso abbia un reale una reale attinenza con la realtà cioè l'urgenza da parte degli operatori del settore dello spettacolo dal vivo di una tutela perché non siamo più tutelati non siamo tutelati in prima persona perché appunto spesso abbiamo paura di dire no abbiamo paura di denunciare cose in la palissiana che sono all'ordine del giorno e che conosciamo tutti qui dentro lo sappiamo tutti benissimo come funziona siamo tutti in attesa dall'alto di questi finanziamenti che poi vengono più o meno gestiti bene ai quali tutte le sottocategorie da chi gestisce i bandi a chi poi vince i bandi sono imbrigliate in determinate situazioni che sono molto spesso fessatorie quantitative e non qualitative come dicevamo io penso che dobbiamo scardinare questa situazione ci sono tante possibilità i ragazzi dell'intervento precedente mi trovano completamente d'accordo su tutta una serie di questioni io credo che continuare ad insistere con le istituzioni sia importante ma credo anche che bisogna trovare delle situazioni pratiche reali urgenti alternative quello che noi stiamo cercando di elaborare in questi giorni con crepinogli artisti che è chiaramente un nome di denuncia di contrasto nonché ispirato a canto è creare uno sportello qualcosa di immediato di pratico non ancora parole parole discorsi uno sportello di tutela per gli operatori dello spettacolo dal vivo perché io sono un'attrice sono una regista a me sono un'organizzatrice anche perché credo che l'impresa altra dicitura spesso temuta da noi artisti imprenditoria in realtà sono dei termini secondo me molto giusti e molto calzanti perché invece di aspettare come gli uccellini il cibo dall'alto e spesso raccogliere solo le briciole per tutta una serie di motivi dovremmo iniziare ad investire su noi stessi sul nostro lavoro a rivendicare una dignità professionale perché non l'abbiamo perché tutto il sistema fa sì che l'amatore sia alla stregua del professionista perché è utile perché è economicamente fruttuoso per chi sta ai vertici di questa piramide allora ripartiamo dal basso confederiamoci tuteliamoci creiamo anche un'impresa vera e propria di tutela perché gli scenografi i costumisti i tecnici i facchini sono tutti alla stessa stregua cioè alla fame alla canna del gas l'altro anno vi ricordate si sono suicidati due attori durante le tournee l'altro erano pure in tournee quindi lavoravano pure per carità un tecnico me lo ricordo perché mi ha colpita tantissimo questa cosa è molto soffocato dalle scenografie che gli sono cadute addosso mentre faceva dei carichi e scarichi in orari improbabili da solo queste morti pesano pesano su tutto il sistema perché c'è una una mancanza reale di tutela e chi parla come diceva Andrea io varie volte ce ne sono tanti di argomenti da tirare fuori ho rotto le scatole anche su Facebook viene bollato e eliminato allora quello che noi proponiamo con Crepino e gli artisti è quello di creare uno sportello che poi possa essere più o meno istituzionale questo lo capiremo perché troppo spesso si mette anche il cappello partitico su determinate iniziative l'importante è riuscire a trovare il modo di fare uno sportello di tutela un po' come doveva essere la SIAE anche inizialmente al di là di quello che poi è diventata nel tempo uno strumento di tutela visto che i sindacati dicono che la nostra paga professionale è di 65 euro l'orde al giorno insomma io penso che ci sia ben poco da dire in questo senso quindi continuare sulle istituzioni ma iniziare ad agire per tutelarci l'un l'altro per non essere più delle voci isolate singole ma una chiamiamola federazione non abbiamo ancora trovato un nome giusto di tutela nella quale noi ci uniamo e ci difendiamo reciprocamente soprattutto iniziamo a dire dei no che sono no cioè in Francia questa situazione farebbe ridere perché sappiamo benissimo quello che fanno i nostri colleghi all'estero quando qualcosa non va quindi lasciamo i nostri urticelli questa è il mio la mia richiesta il mio appello lasciamo i nostri urticelli iniziamo a ritrovare la dignità che siamo artisti ognuno di noi ce l'ha ritiriamola fuori e mettiamola al servizio veramente del bene comune non che domani credono gli artisti diventa magari un ente più o meno efficiente più o meno scomodo allora viene tra virgolette inglobato in una istituzione no lavoriamo con coscienza e con onestà per migliorare le condizioni di tutti noi lo faremo nei prossimi mesi definiremo perché c'è un apparato legale commerciale di commercialisti di tecnici che vanno messi in opera però questo è quello che noi vogliamo fare come ad esempio ha fatto questo ragazzo non so se ne conoscete il nome o la storia questa Sound Reef che adesso senza entrare nel merito dell'imprenditoria giovane delle idee o meno del business che si fa dietro ha comunque creato un'alternativa alla SIAE che è un colosso gigantesco in Italia noi abbiamo il monopodo mentre in altri paesi assolutamente non è così quindi ripartiamo dal basso perché dall'alto continuare ad aspettare le brisciole credo che non sia utile non ci porti da nessuna parte e non sia dignitoso quindi quello che noi proponiamo è ripartiamo dal basso e cerchiamo di sfondare il piano piano sistema che non funziona e questo lo sappiamo tutti a livello nazionale oltre che locale non so quanto ho parlato allora io ho anche l'altro intervento quindi volevo solo dire che se sforzo no è per Dario Agioli che mi ha chiesto di leggere però non è della nostro gruppo ma io ti aveva parlato se riesci in due minuti leggo perché era per l'assessore Bergamo questa non è cosa mia faccio la portavoce per un ragazzo che neanche conosco e che mi ha chiesto di leggere allora è perché è la libertà non ci facciamo noi non ci facciamo noi non ci facciamo noi devo leggere scusate perché credo che il rispetto sia anche questo io questo ragazzo magari dice cose diverse dalle mie ma adesso leggerò quello che mi ha chiesto di leggere allora buongiorno sono Dario Agioli un teatrante mi dispiace non essere con voi ma ho ritenuto importante scrivere due parole avrei preferito che questo incontro fosse avvenuto dopo un dibattito interno alla nostra categoria ma l'occasione si spera sia proficua e lo spero più per voi care istituzioni che per noi teatranti per dare modo almeno una volta di non deluderci e non dimostrare come al solito di brancolare nel buio quando parlate del nostro settore mi rivolgo direttamente al vice sindaco Luca Bergamo con tre domande uno è possibile avere chiarezza sul concetto di efficacia scritto in maiuscolo tanto sbaglierato nei suoi ultimi discorsi chiedo di concordare insieme una definizione reale di effettiva applicandola agli spazi teatrali almeno a quelli che sono in affitto instabili del comune a l'uno ha una serie di punti a per noi non è efficace un teatro che sub-affitta le sale alle compagnie tra parentesi anche mascherando questo affitto con un minimo garantito perciò teatri che pagano 650-700 euro di affitto al comune penso ad Agorà e Sala Petrolini ricordo io sono un portaposce no scherzo e che in uno o due giorni si ripagano tale affitto sulle spalle delle compagnie e sulle spalle di una progettualità teatrale della città non devono esistere o devono pagare molto di più perché inefficaci B per noi è efficace un teatro uno spazio che fa una programmazione rischiando economicamente o accogliendo anche scusate la delazione è fuori dall'orizzonte io sto leggendo lo sa io sto leggendo questa cosa lo recuperiamo successivamente perché il tempo è scaduto facciamo una cosa io lo lascio a voi abbiamo detto no ragazzi non c'è nessuno ci sono dieci minuti e sono finiti scusate non li leggiamo scusate non era previsto che si facessero due interventi uno c'è stato c'è stato fino alla fine chiamate la censura fate come mi pare ma nessuno ce l'ha detto a noi però scusami ma se tu ti scrivi con due interventi ce lo dici prima io lo sapevo me l'ha detto Valentina semplicemente immaginavo che si riuscisse a stare dentro no no ha detto semplicemente che avrebbe consegnato stiamo perdendo tempo lo leggeremo lo leggeremo o glielo daremo direttamente a qui l'assessore consegna il documento all'assessore esatto direttamente consegnato all'assessore ma lei il significato delle parole le conosce noi abbiamo dato un ordinamento ci sono dieci minuti di intervento l'intervento è stato letto in otto minuti nessuno ha censurato nessuno e abbiamo detto che successivamente sentiremo il secondo intervento la ringrazio siamo andati per cortesia Tiziano Parici del teatro del loro scusate del teatro del loro scusate abita anche il nome il lapsus ci sta direi era fondamentale niente mi tocca subentrare nel momento caldo e va bene così in realtà va bene così perché intanto mi fa piacere iniziare con questa immagine che Sergio ha scelto Sergio e gli altri hanno scelto per rappresentare questa giornata che è evidentemente l'immagine di una minoranza che è quella appunto che è qui rappresentata ma mi sembra in grande numero ed è vero anche una minoranza che esprime una resistenza quindi un'azione che forse sarebbe appunto il caso di mettere in atto che soprattutto deve in qualche modo rappresentare e dare valore ad un'identità profonda sono già state dette moltissime cose però ringrazio Graziano per averci ricordato che sono 12 anni 12 che stiamo chiacchierando a proposito della questione del valore e simbolico concreto reale progettuale degli spazi a Roma io ho iniziato che ero un giovane operatore ora mi ci sto invecchiando dentro ma dopo di me verranno tanti altri quindi questa non è una questione che si risolverà ancora una volta all'interno di questa assemblea non si risolverà in un giorno ma da qualcosa dobbiamo partire ho appreso da poco che appunto rispetto anche all'intervento di Fabrizio Parenti di prima il rialto di nuovo grazie ad un frullino armato poi dalle persone appunto che l'hanno accompagnato ha riaperto lo spazio del rialto finalmente si è aperto un tavolo tecnico di discussione con la sovraintendenza con i vigili con la procura e con appunto il comune e questo mi auguro che sarà anche uno dei appunto principali scusatemi Luca e Antonio ma la domanda è rivolta a Luca in particolare rispetto alla situazione del teatro dell'orologio che fino adesso non è stata citata forse perché giustamente tutti la danno per scontato io non la do per scontato perché il teatro dell'orologio è uno spazio storico appartiene alla città da 30 anni al di là di questo è uno spazio attivo fa parte di un progetto di cui faccio parte anch'io dominio pubblico che poggia su tre gambe una è Largo Studio che è uno spazio analogo simile a quello del teatro dell'orologio anche se privato è di proprietà privata e non la nostra tra l'altro quella dell'orologio è quella del teatro di Roma che è una delle istituzioni pubbliche di questa città e all'associazione che gestisce quello spazio viene riconosciuto un ruolo pubblico attraverso un finanziamento che viene dal ministero dei beni e delle attività culturali viene dalla regione Lazio è venuto in passato dal comune di Roma quindi è chiaro che ci si trova davanti ancora una volta ad un gap molto forte e che va risolto quindi la creazione di un tavolo di interlocuzione permanente è una questione che viene chiesta da diverso tempo viene posta con forza e ancora ad oggi non si è riuscito ad iniziare tornando alle parole di Graziano scusami se richiamo la tua attenzione ma è fondamentale perché manca la continuità perché ogni volta i processi si riazzerano perché io ho detto 12 anni ma sono 40 perché Fabio Morgan che non è qui oggi mi tocca fare il Morgan della situazione tra le altre cose perché se veniva gli sarebbe preso un colpo apoplettico forse avrebbe fatto anche un certo effetto un infarto in piena sembra cittadina ma appunto si è preso denunce penali per gestire uno spazio appunto che di fatto è riconosciuto di pubblico spettacolo anche se poi legalmente non lo è anche se poi non lo può dichiarare anche se poi deve essere aperto ai suoi soli soci così come anni prima ne ha prese mio padre che ha aperto il teatro a go come l'hanno presi tantissimi spazi che adesso hanno chiuso all'interno della città e quindi ecco sarebbe l'ora di darsi una mossa da questo punto di vista capisco perfettamente e sono perfettamente convinto del fatto che l'amministrazione pubblica in questo momento non abbia nessun interesse nessuna voglia nessuno scopo a chiudere spazi sono altresì convinto che il teatro dell'orologio come in rialto come molti appunto dei casi citati come al solito siano cadaveri all'interno di una guerra che non ci riguarda o che se ci riguarda allora ci deve chiamare in causa e rendere partecipi e rendere protagonisti perché altrimenti si è soltanto vittime e allora la reazione che io mi auguro e spero non sarà violenta perché ce l'hanno insegnato i tassisti pochi giorni fa dobbiamo farci ascoltare in questo modo dobbiamo scendere in strada entrare negli uffici dei funzionari a piccare fuoco alle scrivanie per farci ascoltare è questo che ci viene chiesto ci viene chiesta una risposta violenta per poter essere in qualche modo presenti vivi coscienti e lucidi su quello che stiamo facendo si è parlato di modelli io trovo che i modelli di cui ha parlato Antonio all'inizio siano fondamentali io alla Frischi di Marziglia ci sono stato quell'occupazione Antonio tu non l'hai detto è durata un anno non venti un anno dopo un anno lo Stato ha detto c'avete così tanta voglia di fare va bene ve lo sistemiamo questo posto ve lo mettiamo a norma i soldi che ci mettiamo dentro sono questi poi sono cazzi vostri campate con le vostre gambe lì dentro ad oggi nel 2017 collaborano insieme 61 associazioni ok 61 associazioni dentro un unico spazio di un Stato quindi questa è la seconda richiesta per il Comune per l'assessore Bergamo mi dispiace che sia qui da solo perché ci vorrebbe anche l'assessore Lavera ci vorrebbe il Ministero appunto delle politiche e dei beni culturali il Ministro Franceschini non sono qui non reputano che questa sia una giornata nazionale e non solo locale non importa glielo faremo arrivare glielo faremo capire ecco la seconda emergenza è che nel momento in cui comprensibilissimo un locale come il Teatro dell'Orologio non ha le uscite di sicurezza non ce l'ha da 30 anni ma non soffermiamoci sulle questioni di Lana Caprina è stato aperto fino a una settimana fa ok è chiaro che adesso quello sarà un problema rappresenterà un problema Antonio ha dato un segnale ha ospitato una settimana di programmazione per ora non potrà fare più di quello benissimo come per il caso dell'Orologio deve essere un simbolo che vale per tutti tutte le associazioni che lavorano all'interno di spazi del comune che non possono essere resi agibili in tempi brevi necessitano a di una promessa dell'apertura dell'apertura del tavolo tecnico per renderli agibili di poter dare continuità al proprio lavoro quelle attività perché il mio socio non presente Morgan in questo momento avrebbe detto noi abbiamo investito dei soldi dentro quel teatro ci sono persone che lavorano che sono messe in regola a norma ed è vero perché la procura questo l'ha verificato ci sono dei dipendenti che lavorano lì dentro che percepiscono stipendi e che non capiscono la sera in cui stavano lavorando lì e sono state chiuse perché si devono sentire in colpa per questo e questa stessa cosa potrebbe succedere a noi dell'argo domani con altri motivi con altri momenti ma alla pipa è la stessa ma io mi posso sentire un criminale perché faccio entrare dentro al mio locale 50 persone che stai lì a rastrellare con tutte le tue forze e a convincerle a entrare in un processo stanno lì a parlarsi a vedersi a discutere e tu mi vieni a dire che io non lo posso fare perché sto facendo qualcosa che va contro la legge io non me lo riesco a spiegare non riesco più a stare calmo davanti a tutto questo anche perché ormai appunto dopo i 12 anni che sono quelli che ho vissuto io mi sento incastrato in un loop è una sorta di interazione continua questa e è il momento di interromperlo è il momento di veramente concretizzare le azioni quindi queste sono le principali due questioni che volevo porre all'assessore e di me le dovuti sì sì e chiudo anche io ho la citazione me la sono tenuta attreziosa visto che ci riguarda riguarda tutti ed è importante anche saper usare le parole giuste degli altri per valorizzare quello che è il senso e vedo voi tre moschettieri più uno perché Sergio ha parlato per ultimo e quello del tamponamento ricordiamoci questa questione della responsabilità quanto alla responsabilità degli intellettuali perché poi bisogna anche vedere qual è la responsabilità dall'altra parte non c'è molto altro da aggiungere dice Noam Cioschi a parte una semplice verità gli intellettuali sono dei privilegiati il privilegio porta delle opportunità le opportunità a loro volta implicano delle responsabilità è a quel punto che un individuo deve scegliere penso che sia arrivato il tempo di scegliere grazie se è possibile per Carlo Romano Antonini e per Luigi D'Amborrino intervenire con un intervento un po' più breve di 10 minuti Carlo Romano Antonini è tutta vostra 5 molto meglio sarà rapidissima vorrei parlare di questa continuità per tante cose come il teatro Elsa Morante come il progetto Black Reality come il teatro del Lido come tante cose ma sono qui per tutto teatro premio alle arti sceniche e anche cappelletti alla campagna di crowdfunding che abbiamo attivato e a raccontarvi la nostra storia non ho mai voglia di pentirmi questo verso di Alda Merini del titolo alla campagna di rapporto a fondi che tutto teatro.com ha avviato per realizzare l'evento assenza presenza trasparenza l'installazione sonora data dalla chiamata lanciata da alcuni artisti in segno di protesta per la mancata di realizzazione nel 2016 del premio tutto teatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti proprio nell'anno in cui ricordevano i vent'anni della morte dello studioso e critico tebrale la raccolta fondi servirà anche alla realizzazione della quinta edizione del premio tutto teatro.com Renato Nicolini da due anni di disinteresse le alternanze politiche e i vuoti istituzionali in particolare romani ci hanno costretti a rimescolare i tempi di svolgimento e la consueta cadenza del premio vogliamo sganciarci da questa deriva e insieme alle donne e agli uomini che dell'arte scenica hanno fatto una pratica quotidiana incidere nel presente col segno del nostro operare non possiamo accettare di sospendere l'attività e cancellare un prezioso osservatorio sulle arti sceniche che tanta visibilità ha dato ai progetti di spettacolo di artisti e compagnie sparsi in tutta Italia allora il primo appuntamento in programma il 6 marzo qui al Teatro India l'installazione allestita dello spazio scenico di Marcello Sambati è affidata a due diversi musicisti Antonia Gozzi e Martiz M Maurizio Martuscello che stanno cercando creando ciascuno la propria opera sui materiali vocali di attrici e attori che hanno voluto esprimere vicinanza al fattoreato.com e l'indignazione per la perdita dei capelletti l'insieme delle loro voci da certi di memoria di oltre dieci anni di teatro italiano andrà a comporre una sorta di opera documento che tenterà di dare un senso anche artistico a questa assenza presenza trasparenza per riprendere il titolo del fortunato convegno che concluse nel 2004 la prima edizione del premio o forse dar voce collettiva al silenzio all'abbandono al confino cui parte destinato il teatro contemporaneo italiano l'associazione tuttoteatro.com continua a osservare la scena contemporanea e propone dal 2004 il premio tuttoteatro.com alle artesceniche Dante Cappelletti per sostenere progetti di spettacolo o ancora idee inenti e comunque mai allestiti in forma scenica in questi anni il premio è stato un importante luogo di visibilità il confronto per gli artisti che hanno partecipato un sostegno concreto per le compagnie che sono state selezionate per le fasi conclusive ma è stato anche un importante monitoraggio del teatro contemporaneo italiano per tutto il pubblico numeroso che ha seguito le scorse edizioni e che ha avuto la possibilità di fare ci siamo breve viaggio nella produzione contemporanea scoprendo nelle urgenze espressive di chi vuole continuare ad osservare l'oggi e le sue continue mutazioni attraverso il teatro la danza la musica e l'arte visiva linguaggi evoluzioni dinamiche che contengono cambiamenti e nuovi futuri possibili in questa assemblea invitiamo la politica capitolina a conoscere quanto in questi anni è accaduto in città e ad ascoltare la nostra accanto alle altre voci che hanno animato la vita culturale romana la invitiamo a rendersi conto del vuoto lasciato dalle tante iniziative scomparse negli ultimi mesi e degli spazi che continuano a chiudere ci vengono annunciati grossi cambiamenti ma nel frattempo ci troviamo bloccati da mesi marzo è arrivato e se non accadrà nulla nei prossimi giorni anche il 2017 sarà un anno vuoto perduto noi siamo con tre bandi attraverso i quali dovrebbero selezionare i migliori progetti per la cittadinanza sgravando la politica della propria responsabilità ma nel frattempo neanche questo strumento è stato messo a punto per il 2017 non servono strategie per capire che i bandi vanno indetti almeno un anno per l'altro e non benedici a raccontare che state provvedendo a cambiare un sistema per chi lavorate se alla fine ci ritroverete tutti i morti questa città è composta da grosse istituzioni e da una moltitudine di piccole realtà che sono la ricchezza maggiore del territorio riuscite a vederle? mettetevi in ascolte proprio di queste imparate da quanti vi hanno proceduto e quali senza barchetta magica hanno realizzato davvero se non l'unico almeno l'ultimo cambiamento degno di essere così infinito così ci ripeniamo a Venato Nipolini torniamo a riflettere sulla sua visione di città e sulle modalità di immaginare e realizzare luoghi di aggregazione siate curiosi di conoscere e non stancatevi di ripetere quello che a voi apparechiamo fate come noi imparate da noi che oggi siamo qui a ripetere per l'ennesima volta le nostre solite storie Luigi Tamborini Rialto Sant'Ambrogio io sarò molto breve così facciamo l'assessore che mi pare più interessante le risposte allora velocemente Rialto sapete tutto l'ho detto bene prima Fabrizia Varenti la nostra storia insomma è quella che nasce dalle occupazioni quindi io penso che anche la storia delle realtà indipendenti romane abbia quella base siamo rientrati Frullino o meno io penso però la riflessione può riportare io credo che questo atto che oggi Rialto è di nuovo occupato è una sconfitta per tutti noi perché se stiamo di nuovo con Tronchesi Frullino in mano è evidente che il dialogo degli ultimi vent'anni dalla delibera 2695 sugli spazi ad oggi è andato disperso cioè non ha portato a nulla di che quindi prima riflessione sarebbe il caso di mettersi intorno al tavolo per l'ennesima volta ma forse quella definitiva per definire per capire comprendere Luca Bergamo ha una certa esperienza sul sistema Roma culturale giovanile e quant'altro bisogna capire che le realtà indipendenti debbano avere agibilità tramite avere spazi non soldi spazi spazi agibili spazi che siano indipendenti perché il termine che forse manca un po' in questa discussione è l'indipendenza io non voglio né commissioni che valmi perché ho visto il regolamento che sta circuitando sull'assegnazione degli spazi vabbè comitati che dicono questo spazio sì questo spazio no questa realtà diciamo se paga con 36 comoderate tutti i progressi gli diamo lo spazio quindi è evidente che diciamo abbiamo due possibilità ora ricominciamo a ragionare tutti quanti noi e poi voglio accendere un'altra cosa su questo a rientrare nei meccanismi di occupazione demandano a Roma è tanto le aree militari dismesse insomma c'è tanta roba non è che ci sono di altro oggi abbiamo questa dinamica sicuramente penso che sia sbagliato perché oggi bisogna invece trovare un punto perché la gente che sta in questa sala Luca non è che sta qui perché deve essere esperta in materia amministrativa e giuridica è gente che vuole fare teatro vuole produrre cultura non deve essere obbligata a discutere tutti i giorni dei sistemi amministrativi se ho fatto un reato se non l'ho fatto io non l'ho portato citazione perché mi cita la procura da anni o si torna un ragionamento di spazi luoghi di indipendenti indipendenti che non siano fattori mercantili perché non è il vantaggio della città evidente a tutti questi luoghi cosa hanno prodotto l'angelo maio rialto il valle occupato lo sappiamo tutti che continuiamo a dire eh no bisogna capire quali sono le attività che danno lustro alla città allora ribaltiamo anche il ragionamento io vorrei sapere quanto spende il comune sul teatro di Roma sul teatro dell'Opera su tutta una serie di altri interventi che finanzia regolarmente quindi i valori che noi portiamo non vi facciamo spendere niente e produciamo un'enormità che poi voi attivete perché questi luoghi intermedi tra i livelli istituzionali puri e importanti e l'underground totale sono luoghi dove voi avete attinto per anni giustamente perché sono laboratori indispensabili per la democrazia di questa città grazie grazie a tutti grazie a tutti della sessione mattutina per lo meno no? guardiamo che mi hanno prestato ho scritto talmente tanto intanto comincio da da una richiesta oggi la discussione ha coinvolto riflessioni su welfare alla riflessioni su enormemente incendio e sono tutti problemi che esistono e sono anche legati l'uno all'altro se c'è disponibilità penso che ci sia io vorrei queste discussioni riuscissimo a farle anche prendendo un pezzo per volta sapendo che sono collegati ma parlandone a fondo perché confesso che è una diciamo una tentazione ma anche una difficoltà anche in questo momento è che vorrei parlare di una quantità di cose diverse che ne sento la necessità sento io la necessità del confronto come mi pare che la sentiate voi e non credo di riuscire a farlo né in un tempo umano né in un modo ordinato per cui devo andare a pescare delle cose comincio da da quelle più più pratiche poi magari ne dico qualcuna un po' un po' più di di quadro il tema della continuità è un tema questo il tema fischia lo stesso il tema il tema della continuità è un tema di cui sono siamo perfettamente consapevoli ed è fondamentale tant'è che nella fase che ha portato alla diciamo faticosa approvazione del bilancio del Comune di Roma che comunque a di là di tutte le polemiche è stato il primo ad essere provato dalle grandi città d'Italia uno dei temi per l'accelerazione era esattamente quello di darci strumenti per avviare non il dodicesimo in gestione ma con una continuità triannale le attività e la famosa delibera discussa di riorganizzazione però prova di costruire un ponte tra i teati così detti chiamati una volta cintura poi in Comune e il teatro di Roma è inclusa in questa delibera nasce esattamente la necessità da un lato di provare a mettere ordine uno scenario che è un disastro di disordine se non fosse altro poi non è solo disordine perché i problemi che affronta Antonio del custode in cima al teatro sono moltiplicati per un milione in tutta la città su qualunque cosa ma è quello di consentire di agire con gli strumenti che abbiamo a disposizione di dare tempo tant'è che noi stiamo lavorando e dobbiamo provare dentro marzo a tutti i contatti di servizi e d'azienda che sono almeno triennali e dare gli strumenti al teatro di Roma per fare gli avvisi sui teatri in modo che siano triennali o possibilmente stanno cercando di capire se si faceva quinquennale o cosennale perché il problema non solo della legacy cioè della continuità istituzionale ma il problema di un'attività culturale che non può svolgersi in particolare con un rapporto con un territorio che non può svolgersi con una programmazione è un problema fondamentale ora questo l'assenza di queste condizioni non è solo dovuta non è stata solo dovuta a problemi di bilancio è stata anche dovuta a una secondo me profonda incomprensione della funzione che la cultura svolge nello sviluppo di una città relegando la vita culturale è un elemento del modello economico io sono totalmente d'accordo e vorrei che fosse del tutto chiaro che nel dibattito che si fa anche in consiglio comunale io sono sistematicamente e penso che alla fine otterrò il risultato un sostenitore fermo che il patrimonio indisponibile del comune di Roma serve per assicurare che vengano ascolte funzioni sussidiarie dell'interesse pubblico e che questo significa l'intensità sussidiarie vuol dire che fanno parte dell'interesse pubblico nel comune tra questo c'è la vita culturale fondamentale la vita associativa e che le interpretazioni che sono state date anche nelle bolse di regolamento preparate dagli uffici del comune di Roma che dicono entro nel dettaglio ma è importante loro dicono il patrimonio essenzio articolo 119 della costituzione il patrimonio serve per garantire l'equilibrio economico del comune non dice questo la costituzione ma la corte dei conti dice questo la corte dei conti dice questo e lo dice impugnando tutte le situazioni che decenni di assenza di governo hanno generato in modo tale che la corte dei conti possa impugnare il problema che esiste oggi no? su fortissimo no? di anche di insomma è un confronto non è insomma non è inerzia è un confronto tira e molla ogni giorno con 70 soggetti diversi è che l'assenza di un'interpretazione del patrimonio pubblico come strumento fondamentale di costruzione della trama sociale della città ha prodotto la gestione del patrimonio pubblico per relazioni più o meno informali o concessioni verbali o qualunque altra cosa che crea dei presupposti di illegittimità delle assegnazioni su cui agisce la magistratura qual è il problema? è che siccome in questo paese noi abbiamo fatto per decenni finta che non esistessero le norme oppure ce ne abbiamo talmente tante che ne abbiamo interpretate a seconda del caso siccome prima gli organi preposti all'amministrazione giudiziaria non intervenivano sul corpo amministrativo tutto si faceva adesso che cosa succede? succede che la magistratura contabile emette degli ordini perentori che non arrivano ai soggetti puliti arrivano ai dirigenti a cui la Passanini e le leggi seguenti hanno attribuito responsabilità specifiche di gestione in cui dicono guarda che tu quel fabbricatore lo devi sgomberare e siccome quel fabbricatore perché quello non ha più una concessione valida e dal momento in cui quello non ha una concessione valida allora tu devi recuperare il cano che non è stato pagato dal momento in cui la concessione è valida nel valore al 100% di mercato se non lo fai io perseguo te questo è il meccanismo vorrei che fosse chiaro e questa cosa non è diciamo è assai complicata tanto ed è il prodotto di un'assenza di governo che questa città ha dagli inizi dell'anno 2000 sottoscrivo in cui con la tesi del modello Roma si è deciso di farla funzionare sotto un principio di grande marketing e anche di idea che quello fosse un volano economico con una gestione assolutamente reformalizzata allora lì il passaggio fondamentale su cui stiamo lavorando ma guardate sono anche battaglie nel senso che per fare queste cose qua significa che uno non solo convince la politica i numeri eccetera ma che deve trovare il consenso dei dirigenti della pubblica amministrazione perché loro devono mettere dei film su degli atti di cui possono responsabili la produzione di un regolamento della gestione del patrimonio in cui il principio di sussidiarietà sia il principio fondamentale in base a cui viene gestito il patrimonio disponibile il patrimonio disponibile vuol dire quello che non si può vendere e allenare che è gran parte di quello che oggi è utilizzato o assegnato da soggetti che oggi non hanno più assegnazioni ma che sono soggetti che hanno svolto una funzione di presidio culturale del territorio fondamentale ma questa è una battaglia mia è una battaglia di fa l'assessore della cultura non mi aiuta bene di chi sta in quella posizione oggi se no vuol dire che non capisce di chi sta parlando sul tema del culturale ma è una battaglia non è l'esercizio di una volontà politica astranta è un processo terribilmente complicato su cui ogni centimetro si guadagna un pezzo e si fa un passo avanti un pezzo avanti un pezzo questo ovviamente è accettato dal fatto che ci sono tensioni politiche di sottofondo ma non è solo questo è il prodotto di un assenza lo dico perché io sono peraltro consapevole che quello che viene diciamo urlato come illegalità nel 90% dei casi non è tale anche perché esiste un accarrastamento di rapporti formali informali che crea delle situazioni paradossali che ci sono e che ci sono soggetti che hanno continuato a pagare i cammi che il comune non chiedeva attraverso un concessionario senza che la concessione venisse rinnovata poi interviene la corte dei conti e dice magari la concessione non era rinnovata quindi quello lo devi sgomberare ma siccome la concessione era rinnovata doveva pagare il 100% non solo lo devi sgomberare gli devi chiedere tutti gli arretrati dal momento da un momento a zero allora di chi è la colpa là dentro e di chi stava dentro di chi pagava di chi faceva l'attività del comune del comune sul fatto che questa roba e chi non rinnova il canone eh? e chi non rinnova il canone certo non c'è dubbio sto dicendo questa cosa qua io sto dicendo che c'è una responsabilità di fondo dell'amministrazione comunale che si è sottratta alla responsabilità di fare l'assegnazione del patrimonio e questo crea ovviamente è una situazione di ingiustizia reale perché dopodiché il magistrato la legge in un altro modo ci sono questi questi piani si sovrappongono l'uno all'altro allora appunto perché secondo me è importante capire con tutto il livello di confronto critico dialettico positivo quello che si vuole ma capire dentro quale anche scenario tecnico ci si muove perché dico questo perché ci aggancio una cosa un po' più generale e cioè noi abbiamo prodotto attraverso una serie di scelte in questo paese una distinzione teoricamente netta dalla funzione politica dalla funzione amministrativa e dalla funzione dell'autorità giudiziale la realtà è che oggi esiste un livello di separazione tra la funzione politica e la funzione amministrativa in termini di competenze che riduce al di là come dire secondo me mettendo in discussione l'esercizio della funzione politica la capacità della funzione politica di agire sulla funzione amministrativa quando ci sono i dirigenti che compiono gli atti per esecuzione con le autorità giudiziarie senza informare l'organo politico perché questo è il leader amministrativo noi stiamo sottraendo il processo sta sottraendo alla autorità politica la legittimità di intervenire con gli strumenti propri dentro quella cosa lì questo problema è un problema che si sta aggravando per effetto delle norme perché le norme antipoluzioni o l'interpretazione delle norme antipoluzioni spinge sistematicamente in quella direzione come se il fattore che ha prodotto corruzione nel paese che c'è ed è pesante in questa città particolarmente pesante fosse solo il prodotto di una interferenza della politica nella vita amministrativa non è così anzi il problema se vogliamo oggi è il contrario è esattamente il contrario e quando si parlava di Bambi una continuo parlo la tecnica e poi provo a rispondere a tutte le domande noi abbiamo fatto un processo partecipativo per discutere cosa fare all'agra fatto bene fatto male si può discutere quello che vuole ma c'era una decisione una scelta che riguarda il fatto che quello è un bene sottratto la mafia e quindi deve essere utilizzato in un certo modo abbiamo fatto un processo partecipativo abbiamo raccolto una serie di osservazioni abbiamo deciso che quel luogo lì deve essere un luogo in cui l'elemento economico non è prevalente nel modello di gestione e questo ha una serie di conseguenze anche sul fatto che noi dobbiamo poterci mettere dei soldi che la norma ci dice che forse non ci possono mettere ma il problema complicato è che l'ANA anche dell'autorità nazionale anticorruzione emana norme su meccanismi con cui si debbano giudicare le cose che vengono valutate in cui chiede indicatori oggettivi frammentati che vuol dire indicatori frammentati tu mi devi dire oggettivamente che se fai spettacoli addentro quello che conta è che sono 105 non se sono 53 75 che cosa fanno sono 105 il modello economico il modello organizzativo scegliete quando noi dobbiamo invece costruire un rapporto di sussidiarietà il tema non è la massimizzazione di ciascuno dei parametri ma è la coerenza del progetto insieme perché io devo poter valutare soggetto pubblico se quella logica di programmazione quel modello organizzativo quel modello finanziario si reggono insieme e soprattutto se dico che il modello finanziario è subordinato al fatto che ci sia una dimensione sociale di apertura del posto non posso essere costretto a giudicare in base al fatto che chi mi ha presentato il modello finanziario migliore di quell'altro perché se no non riesco a fare queste cose cascano nella cosa quando voi dite dicevi panici fuoco ferro non è fuoco e ferro ma ha una voce politica che non è solo dei soggetti politici ma è dei cittadini e degli intellettuali che interviene su questi temi in che modo facendo politica la politica non è solo verso l'amministrazione rispetto a tanti soggetti al ministero nel dibattito pubblico perché nel dibattito pubblico le cose vanno dette e difficilmente si riesce a dirle scrivendo parlando lo stiamo facendo qui insieme oggi ma io sto qua non ci stanno gli altri io ci sto ma è con tutta la responsabilità dell'esserci del dire cose sgradevoli convincenti non convincenti quindi questa alleanza serve alle istituzioni lasciamo perdere istituzioni come il soggetto più alle istituzioni che vogliono fare un certo tipo politica perché le istituzioni che vogliono fare quella politica da soli non hanno tutti gli strumenti per fare in più ovviamente c'è una situazione di confusione politica generale anche dal punto di vista dei valori vera che ha bisogno dell'emersione di una voce intellettuale che non si è sentita in questa città io scusate l'ho detto una volta lo ripeto quando io ho fatto non c'entra con il dibattito ma ho fatto una discussione con Franceschini sulla questione dei fogli che sta parlando esattamente dello stesso tema non si è alzata una voce non si è alzata una voce ha scritto Settis ha scritto Tommaso Montanari forse Sergio Rizzo non ci ha messo il suo fine quella è una discussione che ha esattamente a che fare con no perché il modello che Franceschini impone è un modello in cui l'elemento prevalente è la massimizzazione del profitto e l'uso dei beni culturali della città il modello di cui io discuto è che l'uso del patrimonio della vita della cultura della città è un elemento di riempimento del capitale sociale e della capacità di sviluppo della città e che cazzo le vanno che si tratta qua serve la voce serve in questo dibattito io sono stracontento che vi l'avete chiesto e mi sento incapace io perché non l'avevo provocato direttamente ma serve anche fuori da una serie di questo genere e chi dice non solo il teatro ma in generale la cultura dice bene c'è un problema profondo di rendere esplicito che la partecipazione alla vita culturale dei cittadini dovunque non sono negli spazi fisici centrali e qui torna tutto il tema del patrimonio è una condizione fondamentale per la nostra società per uscire dal casino dal budello in cui siamo infilati che è il crollo del web a fare in un certo momento storico questa discussione che è interamente politica e richiede un livello intellettuale forte va fatta va fatta su tutti gli strumenti pubblici non può essere che la discussione sia sempre a porta la cosa eccetera ci sono tutte queste cose ma dobbiamo provare a fare un'altra io sono integralmente disponibile credo di averle dato ogni dimostrazione a farla questa cosa a sostenerla a sostenerla anche con atti amministrativi con atti politici mettendoci la faccia a loro ma certamente non può essere rimandata questa cosa serve di nuovo una forte presenza politica delle persone nel mondo della cultura è fondamentale se il fatto che voi lo facciate oggi in questo modo secondo me è un fatto grandemente positivo grandemente positivo e se con tutta l'autonomia di Fabio non è un voto in cui lo vuole fare se per la mente dall'istituzione e via scorre ma se volete costruire un meccanismo permanente strutturato con dei cibi di diavolo con l'istituzione io ci sto vorrei che questo fosse assolutamente però un modo di farlo che sia sostenibile perché c'è un problema non di sostenibilità per voi ma esiste anche dal lato nostro se questa è la sede in cui si può fare civicamente una cosa di questo genere è una bella sede noi stiamo lavorando alla trasformazione del polo contemporaneo e penso che il macro per come lo stiamo concependo potrà essere un'altra sede che ha certe caratteristiche o una parte del mattaruglio però questo esercizio dargli continuità a struttura non istituzionalizzandolo perché se istituzionalizzare diventa un affare in cui non sono sempre gli stessi aprendolo io ci sto creando una camera di discussione sì ci sto io lo desidero ne ho bisogno ne ho bisogno di istituzione perché è giusto ma non possiamo fare cioè la domanda completa è questa noi siamo contenti che lei lo desideri ma lo possiamo fare cioè si può fare si può fare si può allora scusate perché non lo proponete eh ho capito io lo proponete io ci sto discutiamo lo facciamo io non c'ho nessun problema voi siete anni io ai me perdonami voi siete anni io l'ho fatto come dire ho provato a farlo l'anti anni fa io non sono anni che sto qui sono alcuni mesi che ho una funzione che cerco di esercitare negli spazi e nell'angolo di questa funzione che non ho mai avuto prima sto dicendo una cosa sul teatro e l'orologio ci sono una serie di domande specifiche che sono state fatte sul teatro e l'orologio allora il teatro e l'orologio non andava chiuso l'hanno chiuso divinge il fuoco mandando un'ispezione divinge il fuoco questura e spettorale perché ci sta evidentemente un accelerazione dell'attenzione da parte delle istituzioni e vigilanza nei confronti degli spazi non ritengo che l'interpretazione data l'uso del patrimonio agli uffici del Comune di Roma sia del tutto estranea questa cosa qui non la posso neanche provare al contrario però certamente il fenomeno c'è dopo dico qual è il problema è che stante norme vigenti e sono norme cervellotiche quindi c'è un altro livello di discussione il teatro dell'orologio non ha le condizioni di sicurezza norme legge non è illegale c'è perfettamente ragione quindi quell'autorità lì che è preposta a dire se ci sono le condizioni di sicurezza ti dice non ci sono le condizioni di sicurezza e ci mette un sigillo che cosa facciamo noi abbiamo cominciato a lavorarci prima su altri problemi di funzionamento del teatro dell'orologio che con Emiliano abbiamo cercato di risolvere disminando cose adesso noi abbiamo visto alla sovrintendenza di Stato di lavorare con noi e con il teatro dell'orologio per capire in che modo la sovrintendenza di Stato perché quello è un bene vincolato perché sta sotto il volatore filippini e ci sta un pezzo di una scala che è sottoposto da vincoli pare in modo che il progetto di messa a norma delle uscite di sicurezza sia approvato dalla sovrintendenza di Stato perché la sovrintendenza di Stato dice a me non mi hanno mai mandato un progetto lo so ti sto dicendo quello che ti voglio però nulla che noi potessimo approvare noi questo lo stiamo facendo Calvi ha dato una disponibilità temporanea noi stiamo cercando di trovare una soluzione per far continuare l'attività e allo stesso tempo c'è stata una riunione l'altro ieri nei miei uffici in cui abbiamo fatto venire la sovrintendenza di Stato per parlare di questa roba sono tutte così sono centinaia in assenza di un quadro dentro cui muoversi è evidente che chi fa delle norme continua a fare norme sulla sicurezza prescindendo dal fatto che queste si applicano su spazi che stanno all'interno di fabbricati storici crea una situazione di inagibilità il problema del Teatro Valle a netto di tutto è esattamente lo stesso genere perché secondo la norma sicuramente tu dovessi allargare le porte del Teatro Valle ma è così e la sovrintendenza ti dice no le porte del Teatro Valle non le può allargare stai scherzando quello è un bene di 1700 che faccio loco le porte allora che cosa succede che qualcuno fa una scala da una parte non la registra il canastro per dieci anni noi proviamo a rimettere insieme tutto il coso scopriamo che il catastro del Teatro Valle c'è l'ultima mappatura catastrale del Teatro Valle del 1949 quindi tutti i lavori che sono stati fatti dentro il Teatro Valle leti non li ha mai scritti da nessuna parte e se tu non li hai scritti da nessuna parte la commissione di pubblico spettacolo non ti dà l'organizzazione quindi devi andare a capare tutta questa roba in giro sembri Schliman a Troia cercando di cassetti per riuscire a raccogliere gli elementi che ti consentono di prendere in possesso il teatro perché se non prendi in possesso se non hai gli elementi non lo puoi prendere in possesso non puoi spenderci solo i soldi per mettere a posto che lo stesso comune prima ha scritto che avrebbe messo il bilancio ma non senza avere l'impossesso qui la verità è che chi ha governato questa città ha fatto una quantità di cazzate che non ci si crede non ci si crede in totale allora noi stiamo giuro noi stiamo facendo un lavoro folle per cercare di recuperare tutte quante qual è il problema grosso che vivete voi che io vedo è che naturalmente secondo noi veniamo succhiati da questa roba diventiamo totalmente incapaci di confrontarci su questo terreno di confrontarci non di cercare soluzioni ma di confrontarci per fare per distribuire soldi in un modo anche attraverso contributi che è per cui io ho chiesto delle dotazioni in bilancio e ci ho messo un po' di soldi che non c'erano nel bilancio noi abbiamo un altro problemino è che il regolamento dei contributi è come Roma risale all'anno domini 1980 non so che cosa e quindi quello non solo più non è a norma delle leggi successive regole contributi ma crea dei meccanismi per cui se tu benefici di un altro spazio gratuito non puoi avere i soldi devi rendicontare in un modo cioè è un delitto quindi abbiamo finalmente riscritto al regolamento dei contributi che spero di portare in consiglio comunale molto rapidamente e nel frattempo abbiamo costruito dei bandi che sono per l'estate e per l'autunno cioè quindi non limitarci semplicemente al pezzo dell'estate abbiamo distinto tra estate e autunno perché per l'estate vogliamo lavorare soprattutto sugli spazi aperti ci sono criteri differenti poi lasciando la possibilità di presentare ipotesi annuali e triennali cercando di incentivare la distribuzione sul territorio della città perché un problema è di portare la vita culturale le opportunità di partecipazione culturale anche fuori dagli spazi classici e in modo tale che possono essere presentati progetti di natura annuale o di natura triennale su luoghi che sono già identificati e certificati perché poi c'è il problema di certificazione dei luoghi ma anche su luoghi che sono individuati e altri che vengono proposti questi bandi sono più o meno in fondo e spero di riuscire a pubblicarli cioè spero devono essere pubblicati hanno mandato pubblicatori pubblicarli entro il mese di marzo da lì verranno un po' di risorse stiamo parlando sempre di dimensioni un milione e mezzo due milioni di euro che sono questi di grandezza ma non sono grandi cifre ma sono le grandi cifre che ci sono oggi per mese dal fatto che il 92% del bilancio del Comune di Roma nell'attività culturali è assorbito dal fatto che a partire da quegli anni lì purtroppo c'è una differenza uno evoca Nicolini ma Nicolini non aveva 14 istituzioni culturali partecipato il Comune di Roma oggi ce ne ha 14 che si assorbono il 92% del bilancio il che vuol dire che la parte restante va a coprire tutto il resto ora e vuol dire che scusi se era interrompo e vuol dire che proprio che e lo so che non è colpa sua che agli artisti non rimane niente no lo so scusi non lo dico scusi devo intervenire non avevo spazio vorrei spiegare questa breve cosa è che di fronte a questo castello taschiano no ma lo stiamo smontando il castello taschiano no scusate Villa Torlonia perché se avesse letto il libro 126 avessi scoperto che Villa Torlonia e Santa Rita rientrano negli spazi che vengono il cui coordinamento è conferito al Teatro di Roma a partire dal momento in cui questo entra in trecone quelli c'erano c'è un bambino che chiude gli ultimi mesi e poi passa la gestione al Teatro di Roma a decorre dal primo dal primo di marzo dal primo di aprile il primo bando era giugno tant'è che noi abbiamo scritto che non abbiamo la scuola senza ricevere mai risposta a qualcuno rispondiamo rispondiamo tantissimi a qualcuno lo so perché in più non abbiamo ricevuto risposta e lo abbiamo rivisto uguale a prima di tutto si prende un colpo perché si ha le compagnie di questa città chiedete di vi danno le sale gratuite no però scusate magari si chiedono le sale di vi danno le sale gratuite in cambio di biglietteria a pagamento agibilità di tutto a pagamento si ha a pagamento della compagnia assicurazione dello spazio assicurazione dello spazio per un valore di un milione di euro di che stiamo parlando stiamo parlando che il meccanismo lì non esiste più a decorrere la prima di aprile perché il primo di aprile intanto c'è e noi abbiamo chiesto di fermare questi bandi scempio le abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere che sono bandi scempio si può si non funzionano si possono abrogare magari proponiamoci di fare delle proposte appena detto che non sarà io direi scusa non è prevista per fatto neanche la biglietteria cioè tu non ti puoi vendere i biglietti allora ragazzi cerchiamo di fare un ordine perché le questioni sono tante e effettivamente io se voi siete d'accordo potremo anche trasformare la seconda parte diciamo di questa giornata in una serie di proposte che possono essere stilate e raccolte dal documento che diceva Attilio Scampolini e farei finire Luca Bergamo chiaramente che ha poco di tutto no io mi sono allungato ma sto cercando di dare insomma siccome sono tante le questioni chiaramente nelle varie riforme trasformazioni interne che non si vede noi abbiamo costruito una direzione per riformare l'ufficio spettacolo perché l'ufficio spettacolo come Roma ma come l'ufficio cinema sono due strumenti di impedimento dell'attività questa cosa qui è in corso è stata insegnata in seguita una unità organizzativa con un dirigente per fare questo corso c'è un obiettivo per completare questa trasformazione entro la metà del semestre del secondo semestre ci sono passaggi sono lenti infinitamente lenti ma questa è una lentezza che sta dentro l'amministrazione umana io inviterei veramente chiunque a passare tre giorni da dentro forse del giorno non basta no perché le aggeversioni fiscali che sono un tema un tema vero segnavo che quest'anno c'è stata una discussione in cui io sono diventato perdente ma per ragioni di fretta nell'approvazione della proposta del bilancio e cioè che si era creato lo spazio per una minima riduzione della tarea piccola è stata scelta anche grazie è stata scelta alla fine di fare una redistribuzione Erga-Omes invece di fare come proponevo io su attività di pubblico spettacolo e libreria per in realtà ragioni di rapidità del procedimento che era io sono piuttosto fiducioso siccome il tema è stato discusso che dal bilancio dell'anno prossimo sia possibile introdurre delle riduzioni della fiscalità specifica che sta a carico del comune per le attività di pubblico spettacolo private per le librerie vorrevo capire anche per le salle cinematografiche entro certe caratteristiche certi divini però di nuovo queste discussioni qui che se mi sembra facile dice lo vuoi fare poi lavori lavori con un comune che ha un bilancio in dissesto cioè non è bilancio in dissesto io vorrei per approvare il bilancio noi abbiamo potuto diciamo riconoscere perché questa è stata un'osservazione che ha fermato la discussione 113 milioni di euro di debiti fuori bilancio debiti fuori bilancio sono spese che sono fatte dall'amministrazione per ragioni e non vengono scritte nel bilancio quindi li vai a debito in cui la gran parte era lavori di sommorgenza cioè vuol dire interventi di messa in sicurezza di edifici fabbricati mascherati da tali perché non si fa manutenzione neordinaria che straordinaria da anni e quindi il teatro di Roma ha il problema di manutenzione straordinaria del teatro di Roma è il pazzo di esposizione della facciata qui come si recupera lo spazio da fuori come si trovano i soldi e da costi di utenze a CEA e ACAC per decine di milioni che sono stati falsamente non iscritti nei bilanci del Comune di Roma ma iscritti nei bilanci delle società controllate che poi sono stati approvati dal Comune di Roma quindi che faceva chi approvava il bilancio del Comune di Roma diceva che quei soldi non c'erano quei costi poi si spostava si sedeva nel Consiglio di Amministrazione di ACAC e diceva il Comune di Roma mi deve dare 50 milioni quindi lo scriveva nel bilancio del Comune di Roma tornava di qua andava in assemblea capitolina e diceva ho approvato il bilancio di ACAC peccato che tra il bilancio di previsione del Comune e il bilancio di ACAC ci stavano 30, 50, 70 milioni questo produce sul Comune una situazione devastante di cui giustamente siano occupate tante autorità questo per dire che tutte queste cose che sono piccole fare delle riduzioni di contribuzione di incarico fiscale sulle associazioni che sono numeri piccoli si scontrano dopo il fatto che ci sono dei numeri giganteschi che nessuno ha presidiato quindi sono anche queste sono discussioni avere un'interlocuzione degli interlocutori politici che domandano domandano politica aiuta nelle discussioni interne perché finisco non ho risposto neanche un decimo di quello che risponde perché per anni per anni il tema cultura che è stato percepito come un elemento del prodotto interno l'orlo ed è stato argomentato dal mondo culturale con il tema del prodotto interno l'orlo è scomparso dalla discussione e nel momento in cui nel 2007 è cascato tutto il castello su cui si era costruito la distribuzione dei soldi con cui anch'io potevo fare enzimi le cose distribuzioni perché c'era un meccanismo di indebitamento a cui abbiamo partecipato tutti quanti più o meno in consapevolezza quello che è successo è che le spese culturali sono state tagliate immediatamente a livello degli stati ma il problema è che sono stati tagliati i trasferimenti dagli stati agli antilocali massicciamente cosa che non si è vista e questi tagli sono andati sistematicamente in prima istanza sulle spese per le attività culturali considerate non fondamentali perché oggi è il 92% il costo di istituzioni culturali era sei anni fa il 75 eppure si pigliavano più soldi perché il meccanismo è che nella negoziazione interna la politica culturale o quella che io chiamo crescita culturale perché l'emancipazione umana non è considerata non è stata considerata come un elemento fondamentale dello sviluppo perché se ha legge in chiave i prodotti interno lordo non è fondamentale diventa le industrie creative e nel teatro le industrie creative non ci sta l'intero settore culturale si è agganciato a questa roba delle industrie culturali e creative per dimostrare che era capace e si è fatto un autocolo stratosferico perché ha cancellato la dimensione sociale della partecipazione alla vita culturale noi stiamo facendo esattamente il contrario in questo momento tutti e tutti i singoli atti incluso il modo in cui abbiamo concepito strutturalmente il Capodanno anche i difetti di cui abbiamo fatto sono tutti atti in cui l'elemento del ciclo economico non c'è e c'è l'elemento di ricostruzione e di partecipazione cittadina e a politica quello che stiamo facendo è gravemente insufficiente rispetto alla realtà è gravemente insufficiente ma è la prima volta che in questa città ci si prova a farlo in questa chiave dai tempi di Nicolini ma in una società che è completamente diversa da politica questa roba cioè leggere i singoli passi con tutte le carenze perché diciamo tutte le carenze che voi non tutte molte le carenze che voi avete segnalato ci stanno ma stanno dentro questo tragitto e per colmare quelle carenze noi ci abbiamo io personalmente e chi amministra con me abbiamo bisogno di una interlocuzione forte politica anzi della cultura con la politica ma su un terreno il più alto possibile scusate la lunghezza allora vediamo che può inserire di due e io direi raccogliamo raccogliamo questo anche la provocazione che ha fatto l'Italiano rispetto agli intellettuali di portare il discorso a un piano più alto e di portarlo anche a un piano comunicativo però direi che poi l'istituzione comunale deve anche cercare non soltanto di dialogare ma di portare questo discorso a un piano nazionale perché se il comune non agisce in questo senso Luca permettimi se faccio questo noi possiamo anche rivederci tra tre mesi noi stessi noi quattro possiamo renderci la responsabilità di segnare le domande e gli interrogativi che questa assemblea continuerà a fare nel pomeriggio e consegnarle all'istituzione comunale però poi l'istituzione comunale dovrà a sua volta e penso dovremmo farlo insieme portare questo dibattito a livello nazionale perché se non portiamo il dibattito a livello nazionale non andiamo da nessuna parte ma io vorrei aggiungere un po' così emotivamente qualche considerazione ma io sicuramente ringraziare l'assessore perché appunto è qua e ci parla e ci invita la discussione però purtroppo devo dire Luca che temo che queste tue risposte siano insufficienti per questa per questa salida mi scusi di poter dire che stai a fare questa parte ma credo che capiamo benissimo e devo dirti siamo con te siamo con te in questo in quello che stai facendo e possiamo essere ancora di più con te però forse i problemi sono più urgenti e più seri per ciascuno di di noi tutti quelli che sono seduti qui in questa sala non so quante domande ulteriori potranno farti perché poi le domande lasciano il tempo che trovano però credo che veramente questo tavolo sia di discussione che tu proponi e che noi accettiamo tutti noi una sia urgente deve essere concreto fattivo immediato rigoroso e deve avere delle risposte perché purtroppo sai tu vieni da questo mondo lo conosci l'hai visto l'hai frequentato purtroppo tante volte la politica è venuta in queste assemblee a fare promesse a fare considerazioni a spiegarci il grande labirinto che c'è sopra la nostra testa però noi questo labirinto lo possiamo anche percorrere e affrontare non so come dobbiamo trovare uno strumento possiamo farlo oggi pomeriggio come diceva Graziano possiamo veramente concretizzare qualcosa ma penso che questa tua disponibilità debba essere fattiva immediata concreta e reale e reale se metti in discussione la realtà io non so non metto in discussione il labirinto della burocrazia della politica e dell'amministrazione che ci hai tratteggiato ma appunto se le cose sono così non è detto che non cambino tu stai provando a cambiarle noi siamo contenti di questa cosa siamo convinti che tu stia agendo per il meglio però forse servono risposte immediata anche da parte di questa assemblea che non deve avere paura di fare domande che non deve avere paura di esporsi altrettanto come ti stai esponendo tu? posso dire una cosa non so dal punto di vista di struttura non so se l'assessore se Luca Bergamo sta effettivamente andando via se non è così io proporrei di mandare un po' avanti la pausa e invece continuare un po' a discutere se c'è qualcuno per assolutamente sì abbiamo diciamo scusate io volevo scusate diciamo tentiamo di avere un approccio dialogico però anche rispetto di chi giustamente si è prenotato magari una settimana fa un intervento io non tendrei a non mi ricupo di una mi ero prenotata via web sì con un intervento che era diretto veramente all'assessore alla cultura si chiede il nome a chi Anna Maria sì l'avevamo programmato per il pomeriggio pensando che ci fosse l'assessore purtroppo è quello il problema che quasi tutti gli interventi sono diretti all'assessore assolutamente sì allora non dimenticate che gli interventi non sono semplicemente diretti ad una sorta diciamo di risposta contraddittorio con l'assessore Luca Bergamo perché quello che un po' mi infastidisce alle volte in queste occasioni è che gli artisti hanno diciamo un rapporto duplice ambivalente con il potere cioè da una parte da una parte quando tanti lo attaccano e quando c'è però si 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 ammazza a me quando c'è c'è anche scusa no c'è anche scusa è inaccettabile che tu dica questo solo gli artisti no io ho detto gli artisti ma anche gli intellettuali ma ok va bene voglio dire ma poi cioè abbia pazienza Lucia non è proprio ecco ho detto comunque sia voglio dire ci sono artisti e intellettuali scusami Lucia perdonami Lucia non voglio in alcun modo polemizzare il secondo puntamento di dubbio di ambiguità perché Andrea Porchetto quando è finito il suo intervento con quelle domandine maliziose siete in grado voi rispondi rispondi ad Andrea rispondi ad Andrea e rispondo se permetti anche a te un attimo ma benissimo guarda se il fatto che c'è allora noi gli artisti gli intellettuali chi volete d'accordo hanno un rapporto ambivalente con il potere e questo dimostra purtroppo cioè il fatto che quel patto per così dire sbilanciato tra l'amministrazione e la cultura di cui parlava Adorno addirittura nel primo dopo guerra ha continuato a produrre i suoi frutti e anche a produrre dei frutti avverenati alle volte quello che volevo semplicemente richiamare è il fatto che questa assemblea visto che io sono uno che crede nell'autonomia sociale tanto per dirla voglio dire sono stato un allievo di Castoriatis ha una sua autonomia da esprimere e la può esprimere continuando diciamo non solo a discutere rispetto a quello che anche Luca Bergamo poi ha detto ma continuando anche a proporre temi che devono rientrare nel documento finale perché ci sono anche argomenti che fino adesso non sono stati ad affrontare e per questo abbiamo scelto diciamo uno sviluppo così lungo allora a questo punto voglio dire come andiamo verso una pausa perché una pausa la dobbiamo però scende chi vuole ancora diciamo replicare o comunque sia prendere spunto dal lungo intervento di Bergamo può farlo in uno spazio di tempo però abbastanza limitato vuol dire altrimenti andremo diciamo alla pausa e riprenderemo poi tenderei comunque a seguire un elenco che c'è che riporta il gruppo di resilienza artistica grazie qui vuole parlare voi potete passare avanti Giulio Stasi avremmo eccolo grazie Giulio vieni Giulio no io in realtà non posso sbagliare no in realtà grazie a questo spazio e tutto quello che avevo portato qua tutto quello che avevo portato qua ora perde un po' il senso e il ritmo della cosa quindi lascio da parte queste pagine cerco di agganciarmi con quello che avevo pensato per una settimana e su cui ho lavorato per tanti mesi e di dire qualcosa di nuovo e di concreto io sono risultato vincitore del bando estate romana 2016 abbiamo ricevuto un contributo ancora non erogato di 15.000 euro a fronte di un budget di 37.000 euro totale per quella differenza l'abbiamo messa noi abbiamo portato qua aperto la stagione di questo teatro a settembre con un progetto che parlava anche del dono e non è un caso che abbiamo scelto di offrirlo gratuitamente al pubblico ora nel momento in cui siamo risultati lincitori di questo bando per noi è iniziato un calvario incredibile io avevo scritto qui ma sarei veramente noioso se mi mettessi a leggere tutto quello che abbiamo le vessazioni che abbiamo dovuto sopportare e quello che così ecco io facevo anche una parentesi in cui parlavo di alcune esperienze che ho avuto perché come molti nel mio settore ho dovuto fare un altro lavoro devo fare un altro lavoro per mantenermi e per finanziare i miei progetti e le conclusioni che traevo ho lavorato all'ONU a New York in un ufficio che si chiamava Efficiency Board che aveva proprio il compito di migliorare l'efficienza e l'efficacia di quel palazzone di vetro ho lavorato per la due diligenze di società quotate in borsa ho lavorato all'audit di altre società ecco la conclusione era che io non ho mai incontrato una burocrazia così inefficiente che non ha persato alcun orecchio ma soprattutto in conflitto di interessi perché gli stessi che fanno il bando poi sono quelli che lo controllano ma soprattutto questa burocrazia si appropria di tutte le risorse che sarebbero destinate all'arte e lancia agli artisti delle bricioli su cui noi come stupi ci accattarriamo allora quello che io veramente avevo qui fatto nomi e cognomi ora veramente in un clima di distensione che penso comunque di aver ritrovato che penso che possiamo e dobbiamo cercare ecco io questo vorrei io vorrei che ci fosse veramente una riforma perché non c'è c'è una fortezza vuota ma c'è veramente un castello kafkiano di burocrati che autoalimenta il proprio essere cioè a me i documenti che hanno richiesto hanno dell'allucinante ma faccio dei piccoli esempi qui ci sarebbero a centinaia io ho portato gli scontrini in originale l'estratto conto bancario delle uscite in originale e scannerizzato tutto e ora mi stanno chiedendo mi hanno chiesto la copia autentica copia conforme con timbro e scritta di ogni scontrino e l'acquitanza di pagamento di tutte le spese anche quelle che erano certificate dall'uscita dell'estratto conto bancario hanno chiesto dei documenti qua ringrazio l'intervento di Antonio Calvi perché questo teatro c'è una situazione simile a quella dell'orologio mancano delle agibilità del piancretico in seguito a dei lavori fatti dal comune e quindi il comune mi ha chiesto dei documenti che non potevano essere rilasciati perché il comune stesso non li aveva rilasciati io fino al giorno prima non sapevo se potevo andare io qui ci ho messo la mia vita io qui come tutti noi quindi non ne voglio fare un caso personale io però vorrei sapere vorrei sapere sul cento che viene speso dal pubblico dal comune di Roma quanto arriva agli artisti perché la cosa terribile è che io ancora non ho ricevuto questi soldi ho pagato tutti gli artisti ma la cosa terribile è che molte compagnie di fronte a queste difficoltà non pagano gli artisti al comune lo stipendio lo prendono tutti anzi c'è l'interesse a portare avanti questo processo perché loro hanno uno stipendio fisso quindi prima facciamo il bando diamo delle bricio e distribuite a tutti io ho visto veramente gente che lavorava come pazzi anche dentro al comune ma per cosa cioè si parla di efficacia cioè di raggiungere date un certo risorse certi fini allora se all'artista arriva uno e 99 lo prendono i burocrati io credo che questa sia veramente la proporzione io credo che sia questa la proporzione allora qual è il futuro dell'arte chiedo scusa però vi devo aggiungere a quello che ha detto Giulio perché il problema della condivisione scusatevi dov'è il potere scusatevi no 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 è chiaro ma dov'è il potere non è un'assemblea democratica questa mi dispiace però scusatevi io su questo devo invitare non mi perresti devo invitare tutti una riflessione e mi insistisco qui dentro manca il potere non stiamo discutendo con questo cioè Luca che sta andando via che ha parlato Luca Bergamo come vice sindaco di questa città e come assessore va benissimo tutto quello che ha detto da quello che hai detto siamo tutti insieme e siamo insieme a fare questo percorso ma non abbiamo il potere con cui confrontarci qui non mi sembra che ci sia una un'istituzione in grado di portarci una risposta cioè i problemi che sono stati appunto 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 ma la politica non è in grado di darci una risposta allora prima che Luca Bergamo se ne vada volevo capire anche da lui e poi magari seguiamo l'ordine di interventi perché hanno ragione anche loro bisogna seguire chi si è scritto un criterio bisogna rispettarlo se è disposto comunque ad aprire o un tavolo tecnico vedremo quello che esce da questa assemblea io non propongo un tavolo tecnico era stato fatto scusate io sono in elenco adesso dimostra era stato fatto un incontro al Teatro Quarticciolo qualche tempo fa in cui c'era Luca Bergamo ma anche molti molti di voi tra cui anche Roberta in cui si era proposto questo incontro di tavoli lavori di lavoro nel senso che questi incontri appunto in questa modalità sono utili ma abbiamo anche verificato che i temi sono tanti quindi la proposta era di fare un incontro a tavoli di lavoro con temi diversi e di approfondimento Luca Bergamo già all'epoca si era dichiarato disponibile quindi a questo punto io proporrei di passare concretamente all'organizzazione di questa cosa diciamo io mi stavo allora mi esprimo meglio a calendarizzare chi dà definite gli ambiti definite gli ambiti oppure definite una cura serie di ambiti su cui vogliamo discutere si confrontiamo al momento la cosa è una cosa che ci siamo in data l'altra volta la cosa non è stata fatta per un motivo specifico le persone che dovevano organizzare questa cosa dovevamo essere noi artisti non possiamo farlo siamo sottopagati facciamo un altro mestiere quindi la questione facciamolo ci vuole un metodo a chi lo fa però la definizione degli ambiti la definizione degli ambiti di discussione non vorrei che fosse proposta da me vorrei che fosse proposta da voi definite degli ambiti non 57 no degli ambiti che sono di sconfronto su quello ci facciamo un calendario un incontro ci si incontra ci si discute però serve che qualcuno indichi gli ambiti non è non è dal lato mio in questo momento io poi le proporrò eventualmente degli altri se voi da oggi riuscite a definire degli ambiti e anche eventualmente delle cose specifiche distruiamo un calendario il conto ci sarò io ci sarò Emiliano ci sarò chi di noi ci deve stare secondo me il tema e lo facciamo e ci sarò ho detto chi di noi ci deve stare quindi non siamo solamente veronica scusa ma io non ce la faccio termine come mentre se mi va grazie a tutti possiamo assolutamente fare la pausa vi chiedo soltanto chiedo veramente un po' di pazienza a tutti scusate un po' di pazienza a tutti significa che delle persone che hanno come la signora che è intervenuta prima mi ha chiesto espressamente nella mail di intervenire dalle 15 in poi e ora chiedo un intervente adesso io chiedo veramente pazienza a tutti chi deve fuggire perché ha bambini e nonne sul fuoco o farlo è responsabilità individuale chiedo un po' di pazienza un po' di pausa ce la meritiamo tutti ci rivediamo qui e cerchiamo di seguire l'ordine di intervento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti sentono la voce ma sono fuori anche questo esatto grazie a tutti 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 nel senso delle singole strutture di carattere personale, cioè i psicodrammi, nel senso che abbiamo tre ore di tempo, in queste due ore di tempo potremmo provare, se siamo tutti d'accordo, a cercare di capire come rendere concreti gli interrogativi che abbiamo posto all'interno di questa conversazione, cioè attiviamo questi tavoli, in realtà ci sono dei percorsi precedenti che sono stati già elaborati in altre assemblee, se qualcuno c'è in quell'assemblea può farci un resume di questo, è invitato a parlare, a dirci, vogliamo darci una tempistica, cioè che contattiamo l'assessore per un tavolo tecnico quando? A marzo, ad aprile, elaboriamo, qualcuno di noi si può anche prendere la responsabilità di sintetizzare gli interrogativi, anche in maniera molto sintetica, almeno per arrivare con dei temi chiaro. Io ho, insomma, mi sembra che i temi che sono su di fuori sono sostanzialmente tre, che sono le risorse, la burocrazia e gli spazi, ai quali aggiungerei forse, ora vediamo se Antonio è d'accordo, anche il discorso di governance teatrale nella città, visto che poi il teatro di Roma avrà altre competenze ancora più diffuse, forse, vedremo, non lo so, però potrebbe essere anche interessante mantenere un dialogo, diciamo, cittadino attorno a quello che è il teatro che vorremmo, visto che poi se questa cosa la riusciamo a tradurre in dei dati molto chiari, il teatro di Roma può essere anche quell'istituzione faro di cui parlavi tu, no? Che è un po' fan che è un interlocutore su certi aspetti. Quindi capiamo se ci sono altre problematiche, Veronica Cruciani che era il primo intervento, se non sbaglio, faccio io il Sergio Locatto della situazione, tu ci stai parlando anche dell'altra assemblea, giusto? Quindi ci puoi fare questa azione di sintesi così siamo tutti informati anche come sono andate. Anche Fabrizio? Guardate, sì. Quella che fa il picciolo. Ah, certo. Ciao a tutti. Allora, io, siccome appunto, dicevo prima che avevamo provato già appunto a settembre c'era stato già un incontro appunto con Luca Bergamo, abbiamo già proposto di fare questi tavoli, poi abbiamo provato anche a chiedere dei nuovi incontri, però mi sembra evidente che, come dire, da soli loro non ce la fanno, no? Non lo so, comunque non ce la fanno organizzarli. Forse potremmo, questa è una proposta che vi faccio, poi, insomma, ditemi voi, concentrarci in queste ore che mancano a fare un po' una cosa a metà, nel senso se noi individuiamo adesso i temi, i macro temi, questi tavoli che non servono solo a fare quattro ghiacchiere, diciamo, servono anche concretamente a risolvere delle questioni importanti e loro si occupano di calendarizzare questi incontri, secondo me può essere fatto un passo in avanti, io penso. Quindi vi faccio questa proposta, nel senso di usare anche questo tempo insieme per individuare quelli che sono i temi importanti di questa città, perché sono tanti, come avete visto, lui non poteva rispondere a tutti, ogni tema poi ha dettagli particolari, sono tematiche, appunto, complesse. Quindi, dico, questo forse, secondo me, potrebbe essere una possibilità per fare un passetto in avanti rispetto alla situazione generale, anche rispetto, capito, alla riunione che era già stata fatta a settembre e poi non ha portato, come dire, attivamente a questi, scusa Sergio, a questi tavoli. Ditemi, che ne pensate? Questa è la mia proposta. Sì, questo futuro che ci si prospetta di lavoro sui tavoli, che siamo tutti consapevoli che non ci si sottrarà, ma richiederà tanto tempo. L'assessore ha detto una cosa giusta, ha detto bisogna trovare una sostenibilità a questo e su questo anche, non so, bisogna pensarci un metodo. Poi forse le cose possono funzionare, provando a lavorare su delle cose concrete. L'altra cosa che raccoglie forse anche delle criticità che sono emerse oggi, per esempio, l'assessore ha detto, forse è una cosa che aspettavamo, quindi in parte una buona notizia, dovrebbero uscire i nuovi bandi dell'estate romana, dell'autunno, eccetera. Ho provato a chiedere, cioè nessuno di noi ha visto niente, non che sia dovuto conoscere prima, ma avere un'introduzione su quali saranno le nuove procedure, per esempio potrebbe essere utile. Quindi un incontro, forse io lo chiederei con l'assessore nuovamente, più urgentemente di quanto stiamo dicendo, provando magari a lavorare già su una simulazione, su quello che ha già del bando che ci può dare un'azione concreta di misurarci su una cosa. Perché vi ricordo che il bando che è uscito precedentemente, che appartiene ad un'altra storia, ad un'altra amministrazione, è uscito 30 giorni per farlo, tutti firmiamo perché in corsa, diciamo, in accelerata di risorse economiche e poi dopodiché ci arrivano le decole sulla testa e tutti noi oggi non rifirmeremo i bando. Siccome poi ci saranno di nuovo solo 30 giorni per accettare o non accettare una procedura che se tanto mi dà tanto, anche rispetto a quello che ha detto Luca, non potrà cambiare più di tanto perché le procedure amministrative, la burocrazia ci tiene sotto scacco a livelli esasperati, tanti, quindi forse una sequenza di tavoli da qua a ottobre, come sarà un primo tavolo possiamo farlo più sul locale, che capisco che è parziale anche rispetto alle problematiche, però magari ci dà già il disegno di quelle che possono essere intanto anche le competenze in capo e le nostre esigenze, perché questo però parliamo di marzo che è già arrivato. Considerate che quasi tutti di noi nessuno ha chiuso le procedure di rendocontazione dell'estate romana precedente, quindi la situazione è grave e non dipende tutta dall'assessore, quindi forse lavorare su questi temi ci potrebbe essere utile, ma sono d'accordo che già da oggi pomeriggio potrebbe essere una strada. Io ho indirittuato, però vediamo se siamo tutti d'accordo con questi temi, la burocrazia che è il tema locale che dice Roberta sostanzialmente, cioè anche forse potrebbe diventare conoscere, ma forse potrebbe diventare anche un appuntamento fisso in cui il settore si confronta con l'amministrazione anche a livello progettuale sui prossimi bandi, cioè nell'ora di un band magari può diventare un know-how del band successivo, non lo so, però chiaramente questo significherebbe che ogni tot mesi il settore che si occupa di questo, appunto gli operatori, soprattutto ma anche gli artisti operatori, si incontrassero con il comune, quindi questo potrebbe essere un tavolo che ambisce in un futuro ipotetico a diventare permanente, forse. Chiudo gli altri due, gli altri due temi erano invece il discorso degli spazi che si articolano in una maniera molto diversa, come anche dagli interventi che sono signifoni, gli spazi possono avere anche una loro rendibilità che li mette fuori dal discorso dei bandi e quindi però sono anche degli spazi, come dire, dei luoghi che riescono a mantenere quella continuità, soprattutto ad esempio per le prove e per la produzione degli artisti, perché io vi ricordo insomma, ma lo sapete tutti, dieci anni fa avevamo molti due spazi, voi avevate molti due spazi a disposizione dove provare a delle condizioni non di mercato, oggi questo non succede perché gli stessi spazi hanno una, come dire, una gestione burocratica che non dico sempre sostanzialmente di stare aperti se non in termini di mercato, perché anche l'associazione culturale è uno strumento che non funziona più. Il terzo punto è il discorso delle risorse, quello è un discorso più ampio perché ci troviamo un comune che non ne ha, non ne ha strutturalmente perché ha un bilancio di se stato, però chiaramente questo non può essere un alibi, è un discorso che può essere rimandato a livello nazionale, io penso che tutto questo, a un certo punto lo dicevamo prima quando c'era Bergamo, deve essere rimandato a livello nazionale, perché se non facciamo questo salto ci sarà comunque poi uno stop che arriverà dal comune, io questo non lo posso fare, qui se ne occupa la Corte dei Conti, qui se ne occupa il governo. D'altra parte il comune di Roma che è il comune più grande di questo paese, nonché l'ente che amministra la capitale di questo paese ha la possibilità di rimandare una tematica a livello nazionale, quindi dobbiamo chiedere non da solo, non Luca Bergamo o la maggioranza del comune, ma l'assessorato sul reazione di un'assemblea cittadina chiede l'apertura di un tavolo tecnico nazionale, questo potrebbe per essere un percorso interessante, però va messo, va in qualche modo governato. Scusami Guido, posso dire anche per esempio a livello internazionale, ci sono fiori di capitali europei che sono sostenute, le municipalità delle capitali da fondi europei, ci sono dei progetti nati apposta, quindi è chiaro che non possiamo aprire un tavolo internazionale, però possiamo proporre a una sorta di ordine del giorno di questo tavolo di considerare per esempio sia, così come mi è capitato di parlare anche con il direttore Garbi, insomma sia per le risorse del teatro nazionale e per i suoi spazi soprattutto, ma anche per quelle del comune e di come deve fronteggiare una situazione culturale in dissesto tanto quanto il suo bilancio. Allora, io sono stata invitata a fare un intervento rispetto alla questione che secondo noi è tutto assurgente, dei teatri dell'ex cintura, Quarticciolo, Torbella Monaca, Ostia eccetera, in senso io parlo del teatro biblioteca Quarticciolo, noi abbiamo, penso sia una questione importante perché a giugno scade il mandato, noi abbiamo aperto il teatro il 18 agosto e quindi scadiamo dopo meno di un anno, quindi abbiamo gestito quel teatro per meno di un anno, dove apriva il gennaio invece ci hanno fatto aprire il 18 agosto. Secondo me è un tema che riguarda la città, è piuttosto importante perché quei teatri possono essere, hanno un potenziale enorme che in parte è stato sfruttato e in parte secondo me ancora no. Allora, adesso come è stato accennato c'è stata appunto una delibera che è appunto però piuttosto generica che dice che quei teatri andranno al teatro di Roma. Se tra quattro mesi noi scadiamo il rischio più grande, se non c'è una velocità nel fare uscire, nel fare un ragionamento, un tavolo di lavoro intorno a questa cosa, nel fare uscire un mando vuol dire che quei teatri ancora per una volta saranno di nuovo chiusi. Quando io sono entrata il 18 agosto, non da sola ma con una squadra di persone, insieme a c'è Ascanio Celestini, Federica Migliotti, Antonino, Giorgio, siamo un gruppo di persone che lavora quotidianamente in quel posto. Quel teatro era chiuso da un anno e mezzo. Io sto lì da quando hanno inaugurato quei teatri. Sì, è stata una piccola attività Stefania, ma non era un'attività, come dire, reale. Si faceva uno spettacolo ogni tanto, non c'era un'attività. Sì, il punto, ecco, io mi riscontro al tuo intervento, perché vorrei chiarire delle cose che mi sembrano anche importanti. Se non ci si sbriga, quei teatri richiudono. Quando un teatro richiude, quando tu lo vai a aprire, ricominci da capo, totalmente da capo, ti perdi pezzi di cittadinanza, pezzi di pubblico, artisti. Artisti, ho vissuto dei mesi da incubo dove gli artisti in tutta Italia mi telefonavano ma allora che facciamo? Veniamo a Roma, ma il teatro riapre, non riapre, dei momenti veramente drammatici dove poi sappiamo, essendo io anche una compagnia, anche io lavorando, quanto poi su certe date legate a Roma, gli artisti ci costruiscono anche una tournée, ci costruiscono comunque un progetto di circuitazione dei loro lavori. Quindi, secondo me, se appunto non si accelera un ragionamento intorno a questa cosa, che sia far uscire un bando, che sia, non lo so, ragionare su qualcos'altro, forse questa stessa cosa di cui io sto parlando potrebbe essere un tavolo di lavoro. Perché la delibera è piuttosto generica. Vanno al teatro di Roma, ma in che termini, in che modo, in che maniera? Il teatro di Roma non è una società di servizi, è un teatro. Quindi bisogna capire come. Io vi dico, nel senso che io sono stata presente in quel teatro in varie forme. Quando c'era il teatro di Roma facevo dei laboratori per i cittadini nel quartiere. Poi ho partecipato al bando come direttore artistico, come consulente esterno. Non ero io a gestirlo, ma ero un consulente con una squadra di persone che ora non ci sono più, con cui non mi sono trovata bene. E oggi invece gestisce, la compagnia Veronica Cruciani, insieme a Fabrica SRL e al teatro gestisce il teatro. La cosa di cui sono sicura, e questo ve lo dico, è che quel teatro, in quel posto, in quella periferia, che è piena di vitalità, ma anche piena di problematiche reali, spaccio, prostituzione, eccetera, deve essere, ci deve avere un direttore artistico, una squadra di lavoro che quotidianamente sta lì sul posto, perché le persone che stanno lì, come dire, per il loro centro, per loro è quello, e non perché quello è un teatro di quartiere, quello è un teatro che fa una programmazione nazionale dove vengono tutta Italia, ma ci devono essere due cose che vanno salvaguardate, a prescindere da me, a prescindere da chi c'è adesso, la qualità artistica e il lavoro sul territorio. Il lavoro sul territorio noi stiamo provando a farlo, è chiaro che se un'amministrazione ti dice, gestisci quel teatro per dieci mesi, farò un lavoro sul territorio, io ci posso provare, ho aperto il teatro con un mese di lavori fatti dalle associazioni del territorio, ma diventa difficile, è chiaro che ci vuole una continuità, quindi ci sono queste due cose che vanno salvaguardate, dopodiché voi pensate a questa cosa, quei teatri, a secondo di quando cambia il sindaco e quando cambia l'assessore, cambia gestione, prima erano del teatro di Roma, poi sono passati a Zetema, dopo poco tempo sono passati al dipartimento, adesso passano al teatro di Roma, ma allora vogliamo concentrarci a capire al di là di chi c'è, al di là di me, al di là di chi è direttore, qual è il modello più giusto per quel luogo? Io mi agito quando sento dire Stefania e Ostia sono gli unici che hanno difeso il loro spazio, no, non è così, lo difendo io con il mio lavoro ogni giorno da anni, perché stiamo lavorando lì e abbiamo investito soldi, tempo e energia, Ostia fa un teatro importantissimo, io ammiro il lavoro di Ostia, mi piace il lavoro che fanno, ma Ostia è un territorio particolare, che ha di esempio un livello di associazionismo maturo, ha un livello di partecipazione matura, perché dal 2000, o non so da quando mi possono correggere se sono qui, c'è un'abitudine a lavorare in un certo modo, dove c'è un dialogo con le associazioni che si è creato, allora questo è il quatticciolo, così, in questo modo, oggi non c'è, fa creato, fa costruito, quindi io mi sono stancata di sentire che Ostia è l'unico che ha difeso il suo spazio, no, non è così, l'abbiamo difeso pure noi, lo stiamo difendendo con il nostro lavoro, e quel modello lì, quel modello lì è un modello che a me piace, eh no, Stefania, però c'è una ritorica su questa cosa in soffortabile, e andiamo avanti, io siedo, che, sì, no, scusami, però, fico, fico, a livello generale, sicuramente, in realtà, sicura sono un tema generale, sono un tema generale, anche perché non sono mai diventato, e passano al proprio momento, una vera e propria rete metropolitana, l'intenzione era di creare una rete, una rete non l'ho mai stata, allora, da una parte io vi dico che Roma è una città, non è una città, sono tante città messe insieme, alcuni quartieri ragionano con regole a sé stanti, quindi, ad esempio, far calare dall'alto un modello, senza capire dove quel modello lo stai calando, è sbagliato, il modello di Ostia è nato dal basso, e si vede che è nato dal basso, non è stato calato dall'alto, scusa Stefania, quasi poi intervieni, sei già intervenuta, fammi finire, allora, non si può calare dall'alto, è un modello che è nato appunto dal basso, allora dico, bisogna ragionare, secondo me, in fretta, perché a giugno scade, se quel teatro chiude veramente, ve lo dico sinceramente, se chiude ancora una volta, veramente è un dramma, per tutti, per gli artisti, la gente che viene lì a fare laboratori, ma ci devono essere persone che quotidianamente, io sono direttore artistico, ma non lì faccio la stagione teatrale e basta, sono lì faccio di tutto, cioè, mi occupo pure dei ragazzetti per strada, che non sanno dove andare, entrano al teatro e mi combinano una dietro l'altra, nel senso, ci vogliono persone che abbiano la vocazione e che per storia si occupano di luoghi di quel tipo, io lancio la proposta di fare un tavolo di lavoro su questa cosa e di capire poi, concretamente, di creare un sistema gestionale che duri tre anni, cinque anni, che non è che cambia assessore, cambia sindaco, ogni volta lo spostano dai qua, di là non si capisce niente, riaprirà, non riaprirà, chi lo gestirà, chi non lo gestirà, è un incubo, vi assicuro, e non diventa una risorsa per la città, diventa un'emergenza continua. Allora, questo è uno dei tavoli che spero su cui riusciremo a discutere, grazie, grazie a tutti. Questo potrebbe essere anche il tema di quello che dicevo un quarto tavolo, tra virgolette, quello sulla governanza, cioè su un tipo di mondo teatrale che vogliamo a Roma, nel quale magari cerchiamo anche la complicità di Antonio Calvi, visto che comunque si ritroverà la parola bollente, forse, diciamo, di questa delibera. Abbiamo iscritto a parlare Silvia Rappelli, se c'è. C'è? Ecco. Sì, sì, Guido di Vanto, lo so, abbiamo pure un elenco molto lungo. Vieni, come facciamo un chiuso a parlare con chi non è iscritto a parlare con l'intervento del mare? Grazie. C'è un chiuso a venire, ma non è iscritto a parlare. Ci sono interventi brevi, c'è di intervento. Il mio è un intervento breve, l'assicuro, durerà neanche cinque minuti. Lei dovrebbe essere... Orfeo, vale il senso. Sì, sì. Forse facciamo così, insomma, chi non ha avuto modo, ha preferito non segnarsi, ma vuole intervenire, a questi chiediamo che sia un intervento molto breve, magari in risposta a qualcosa che è già uscito, insomma, più in maniera interlocutoria, piuttosto che proprio un vero e proprio intervento, altrimenti immagino vi sareste segnati. Quindi, se Silvia Rappelli c'è, possiamo... Ah, scusate, non l'avevo proprio vista. Buonasera. Diciamo, quello che dirò... Buonasera. Quello che dirò a questo punto è tendenzialmente inutile, inutile. Quindi vorrei provare a fare tre piccoli ragionamenti inutili insieme, che, diciamo, costituiscono un passo indietro rispetto, diciamo, alle proposte e ai capoli, e forse anche un presupposto. Allora, la prima domanda da cui parto è se pensiamo che il teatro possa essere arte. Se pensiamo che il teatro possa potenzialmente essere arte, cioè potenzialmente, non in tutte le sue manifestazioni, ma potenzialmente possa esserlo, dobbiamo poter immaginare una economia dell'arte. E in che cosa possiamo dire che sia arte? Come lo definiamo, come lo riconosciamo un fatto, un evento d'arte? Diciamo, un fatto d'arte presuppone una riorganizzazione percettiva, una riorganizzazione estetica. Quindi è qualche cosa che, in qualche modo, riorganizzando, si pone in una relazione con il passato di novità. Quindi, in qualche modo, contraddice, rompe, un'abitudine percettiva. Rompendo un'abitudine percettiva, viene meno a delle regole. Quindi, se la pensiamo in questi termini, e rompendo delle regole e proponendo una riorganizzazione percettiva, costituisce un ampliamento nelle coscienze e anche nella conoscenza delle persone. Se la pensiamo in questi termini, dobbiamo pensare un'economia che, da una parte, garantisca la continuità, cioè il rapporto con il passato, il rapporto con il presente, che è quello che è anche stato ribadito nella mattinata. Dall'altra, dobbiamo pensare un sistema paradossale che sia in grado di sviluppare strumenti che vadano a sostenere l'elemento di rottura, cioè l'elemento che distrugge il sistema. Quindi, è un pensiero complesso, rischioso, coraggioso, anomalo. Per poter fare questo, abbiamo bisogno, secondo me, innanzitutto della flessibilità. Quindi, da una parte, garantire la continuità. Quindi, sistema di tutela del lavoratore, siamo tutti dei lavoratori, o almeno abbiamo ad esserlo, e quindi di tutela della continuità, perché il lavoro, i processi, richiedono tempo. Il tempo è la materia della processualità e anche della novità. Cioè, ci sono trasformazioni che avvengono improvvisamente, ma questo improvviso, nella maggior parte dei casi, è preparato e predisposto da un lavoro nel tempo. Quindi, la continuità è un punto. L'altro punto è la flessibilità, cioè poter riconoscere il lavoro di improvviso, il lavoro che rompe. Il lavoro che rompe, in tutti i sensi, è un lavoro che deve poter essere riconosciuto, cioè che non è facilmente riconoscibile, è proprio perché si oppone a una modalità condivisa. Quindi, per poterlo riconoscere, c'è bisogno di un occhio che sappia riconoscere. Secondo me, questo occhio si incarna, storica, se vogliamo, se non altro, storicamente, di certo nella figura del critico, che ha quella capacità di cogliere, proprio, quell'elemento di innovazione. Cioè, l'oggetto artistico è quell'oggetto che, mettendo in crisi, in un certo senso, il presente, è in grado, tuttavia, di riassumerlo, di sintetizzarlo, di porsi in rapporto con il passato, perché è come una storia, ma anche di porsi in relazione con il futuro, con quello che non è. Quindi è in grado di stabilire una dialettica nel tempo. C'è bisogno di qualcuno così predisposto da saper cogliere questo elemento di spasatura temporale, cioè questo anticipo. Questa figura, solitamente, è il critico, ma questa figura, concretamente, è anche il direttore artistico. Quindi, in un sistema dell'arte, se pensiamo che il teatro possa, potenzialmente, esserlo, c'è bisogno, naturalmente, dell'autore, ma c'è bisogno anche dell'oggetto, ma c'è bisogno anche di chi, delle figure che sanno riconoscere la potenzialità di quell'oggetto. In questo senso, vi aggancio al discorso di, anzi, al discorso non pienamente sviluppato da Graziano, delle persone, le persone, le persone in questi ruoli, con questa responsabilità di assumersi questo ruolo. Questa piccola riflessione non ha nessuna utilità, come dicevo, ma forse può essere uno stimolo per pensare, per pensare, la nostra funzione intesa come il nostro posto nella comunità, il nostro posto di autori, artisti, eccetera, il nostro posto di critici, il nostro posto di direttori artistici, il nostro posto di spettatori. E qui vengo all'idea dello spazio. Naturalmente, il discorso del spazio è un discorso che ha una valenza sociale, reale, storica, eccetera, eccetera, che lascio, di cui in parte si è parlato, in parte non ne parlerò io, ne parleranno persone che giustamente ne possono parlare in modo più circostanziato, ma vorrei fare anche qui una piccola riflessione insieme. Che cos'è uno spettacolo teatrale? Un spettacolo teatrale, un cosiddetto spettacolo, è un'ipotesi percettiva. Cioè, cosa fa un autore? Un autore che crea un dispositivo, cioè predispone delle condizioni per cui un certo qualcosa sia visto proprio in quel modo. È un dispositivo percettivo, un dispositivo visivo, non solo visivo, naturalmente, sensoriale. Allora, che cos'è lo spazio? Oltre a essere il luogo dove lavoriamo, oltre a essere il presupposto della possibilità perché qualcosa si è visto, due minuti, ok. Lo spazio è esattamente un'ipotesi. È un progetto stesso. L'autore decide quel qualcosa che deve essere visto e come deve essere percepito, ucciso, vissuto, avvicinato. Allora, non possiamo ragionare soltanto, unicamente, sulla base di due spazi. Io credo che questo sia un punto che è veramente diciamo fondamentale perché altrimenti stiamo sempre a fare i ragionamenti sulla spartizione. Questa la prendi tu, questo la do ad amico mio e questa la prendo io. Allora, c'è bisogno di un pensiero che si sposta, c'è bisogno di un pensiero che prenda in considerazione la radice stessa del fare artistico, la radice stessa del progetto, la radice stessa dell'istanza. Altrimenti questo spazio potenziale utopico di immaginazione di progetto si riduce sempre di più all'esistente. L'ultima cosa che voglio dire è 30 secondi tanto è bene è giusto. Ok, un minuto. Il pubblico. Allora, il discorso del pubblico è un'altra cosa che a me personalmente diciamo mi crea molto cioè sono in generale in misaccordo con quanto si dice il pubblico faccio solo un esempio short theater fa il sold out tutte le sere ok, sono solo 200 posti ma la questione non sono i 200 posti la questione è aprire delle porte quando apro delle porte aprire una porta è anche per me che lo ricevo mi è stata aperta una porta io entro permetto alle persone di esserci aprire una porta significa parlare significa dare delle possibilità significa non proporre tutti i lavori perfetti o tutti i lavori belli o tutti i lavori che abbiano il consenso significa aprire degli spazi di lavoro le persone vanno felicemente a short theater non a vedere cose belle ma a vedere lavoro e si sentono incluse e ci sono dei tempi e degli spazi vuoti tra uno spettacolo e un'altra tra una sale e l'altra e questi spazi vuoti sono gli spazi della comunicazione sono gli spazi dell'incontro allora cos'è che fa il pubblico il pubblico lo fa un luogo di accoglienza un luogo di apertura io credo che ci sia bisogno di apertura grazie bravo grazie 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 io sono un intervento abbastanza breve un intervento così si vuole limitare proprio alle identità perché io sono io mi debito un artigiano e quindi vorrei recuperare quel valore nobile che è il laboratorio il laboratorio che è un patrimonio della mia generazione che nasce come modello produttivo non come modello di formazione o come modello di intrattenimento dopo lavoro corristico perché invece oggi abbiamo infinità di laboratori abbiamo infinità di cose di didattiche ma non c'entra nulla col teatro il laboratorio nobile è un processo è un metodo produttivo e su questo mi soffermo a dare un mio contributo che hanno ragione gli attori che il laboratorio viene sfruttato anche per creare dei lavori gratis amatoriali io vorrei veramente ripristinare recuperare il valore nobile del laboratorio e allora non c'è più tempo il tempo è scavuto questo lo sappiamo tutti e tutti ce lo rivediamo da tempo gli spazi di osso di Roma hanno fatto la storia culturale di questa città laboratori creativi nuovi talenti volamo di sviluppo e crescita dell'intera comunità teatrale italiana sin dagli anni settanta eppure oggi sembrano oggetti lontani dal mondo quasi dei reperti archeologici negli anni il graduale disinteresse delle amministrazioni cittadine e la frammentazione progettuale dei singoli operatori hanno contribuito a questo sfacero che sembra inarrestabile si occorre un ripensamento integrale della loro funzione non una specie di toppa per rimediare l'incuria delle classi politiche che ci sono succedute nel tempo voi sapete che ogni volta quando si presentava un problema di chiusura e cosa eccetera non si affrontava mai si metteva la toppa e quindi cambiava l'amministratore cambiava il turno il politico benevolo di turno e si andava avanti lasciando sempre le situazioni dello stato incerto e del precario la recente chiusura dell'orologio si si signor mi ha dolorato molto ma molto come voi tutti sapete io l'ho fondato assieme al compianto Mario Moretti nel lontano 1982 grazie all'interessamento di allora assessore Renato Nicolini per 30 anni lo abbiamo gestito come una vera bottega d'arte un'officina dove le gioie in leve del teatro potessero mettersi alla prova in un luogo che garantiva una sicura cassa di risonanza a ripensarci oggi eh quanta fatica quanta sofferenza reumatismi un mare di problemi economici e burocratici ci ispirava però la voglia di dare continuità a quella meravigliosa stagione che fu il teatro d'avanguardia in particolare di quella che fu la cosiddetta scuola romana di cui sono di cui resto uno degli ultimi testimoni il principio guida è stato per tanti anni la libertà di ricercare forme e linguaggi nuovi senza l'assiglio di una produzione seriale tipico del teatro istituzionale o del teatro commerciale o come volete in quest'ottica ho deciso pochi anni fa ti farà associare due giovani in qualità di soci perché si creasse un naturale vicendamento anche a vista l'età una sorta di ricambio generazionale che trasmettesse il patrimonio culturale e artistico che il teatro dell'orologio San Orfeo aveva rappresentato e che oggi finalmente vedo che tutti riconoscono quella valenza di eccellenza purtroppo dal fondatore di una tale eccellenza in poco tempo mi sono ritrovato come ospite indesiderato privato della mia dignità di teatrante senza lavoro senza poter più accedere a quel luogo cui ho dedicato una vita io ho pulsato in vamo alle porte dell'amministrazione comunale ho cercato ascolto presso la comunità politica civile culturale romana tutto inutile non sono non avevo non sono capace non ho la possibilità di combattere contro un potere ormai contro muro vabbè ho assistito impotente alla trasformazione dell'orologio da bottega d'arte a un teatro che e signori si improvvisa teatro d'impresa teatro d'impresa all'orologio è una bestemmia e questo vale per molti altri teatri osteromani eh signori ha un senso tutto questo perché un luogo deputato alla ricerca deve entrare in competizione con organismi assai diversi per risolvere potenzialità ma soprattutto vocazione bene per contribuire alla risoluzione del problema io propongo la seguente cosa gli spazi off devono tornare alla loro vocazione di ricerca e sperimentazione pertanto devono essere svincolati dagli obblighi della programmazione tipica del cartellone di un teatro stabile o istituzionale o come si vuol dire e cessare di essere luoghi a gestione privata il comune deve assegnarli i compagni pubblici trasparenti per un periodo di tempo di un minimo di tre anni e di un massimo di cinque al termine non dobbiamo grazie finito al termine si valuterà passando alla proposta io do i tempi a tutti i guardi al termine si valuterà il momento dei singoli amministratori o dei direttori artistici nel caso si confermerà l'incarico o non si assegnerà ad altri la qualità artistica e culturale di tali spazi deve essere l'elemento guida non la quantità di borderogli spettacoli o di contributi previdenziali versati un conto è un ospedale generalista attrezzato per cure per tutti i tipi come lo è un teatro stabile un altro conto è un laboratorio di analisi clinica che cerca di scoprire nuove cure come uno spazio off ecco io mi auguro che il teatro dell'orologio come tutti gli altri spazi off possano essere possano avere una seconda vita energica e vitale come è tutto che sia ecco questo è il concorso della politica se vuole davvero perseguire obiettivi culturali deve consentire agli artisti di esprimere liberamente il suo ingegno grazie buon lavoro grazie una cosa in buono scusate io vorrei fare una proposta molto concreta dalla suggestione di Valentina e prima dal bellissimo intervento di Silvia se insieme ai tavoli burocrazia spazi e risorse proponessimo un tavolo poesia cioè un tavolo creatività un tavolo arte io non so se quanti di noi vogliono morire come imprenditori morire sotto il peso dei bandi sotto il peso delle virgole delle rendicantazioni siete artisti io non lo sono voi siete artisti per questo prima dicevo chiamavo la responsabilità siete 10 km avanti a noi ci moriamo e vi vediamo però ecco non lo so lanciamo anche un po' una visione del mondo grazie allora io non ho capito se Giorgina Vilosi deve intervenire o no perché io qui ce l'ho segnata ma c'è no quindi saltiamo Carlo Infante no dopo Valentino feo e guarda feo ospiti sarà dura si può mettere un'altra si da mio radio ok riesco a radio micro ma dopo Valentino feo rischiamo di essere quelli che parlano solo della memoria della vanguardia ma se avete conto che un buon modo per trattare la questione della memoria e di ciò che accade nella nostra vita è ricicciare quella splendida citazione di Mahler che era legata sia alla tradizione che riguarda il fatto che non si tratta di conservare le scendere ma di mantenere il fuoco acceso Roma questa città ha una vocazione non a caso il teatro di ricerca e dell'avanguardia nasce qui non è che nasce a Milano o nasce a Londra c'è una piccoliarità in questa città e secondo me su questo farebbe la pena veramente scandagliare prima parlando con alcuni amici proprio della con la tipologia della stratigrafia no? cioè i sedimenti avete presente dobbiamo fare i carotaggi non ricostruire i percorsi di memoria i tracciati storici carotaggi per cercare la pena le doppie metafore ma ci sta eh ci sta per cercare la pena di questa città da rigenerare questa città ma non solo questa città l'intero sistema è in caduta libera non solo il teatro non è solo un problema che non c'è il lavoro per gli attori o per le maestranze il problema è di carattere generale e attenti a non cadere nell'equivoco agli intellettuali della base che attissi all'altra questa immagine non so se siete richiesti perché campeggia no Sergio la scelta io lo so perché campeggia perché due settimane fa di 40 anni fa a Roma abbiamo inventato gli indiani metropolitani io ero tra i 5 3, 4 che abbiamo coniato il termine allora si pescava ma proprio dentro un pozzo dentro una consapevolezza inquietante che io poi recentemente poi se fate indiani metropolitani su google trovate subito questa cosa che ho scritto qualche settimana fa l'inizio della fine allora si inizia a parlare di proletariato giovanile oggi il termine preciso più preciso è il conitariato è il proletariato cognitivo in cui rientriamo un po' tutti io che ho 60 anni e alcuni di voi che ne hanno 30 40 questa cosa è non riguarda solo i laureati disoccupati quanto è urgente questa cosa per un sistema che non si sta più pensando il teatro è questo chi pensa che il teatro è solo drastico su questo sia solo un'arte sbaglia il teatro nasce prima la parola arse in latina arriva secoli dopo ma non è solo un problema che i latini nominano arse no è che grazie al teatro nasce la cittadinanza è una condizione attiva molto a molto più ampia non dico migliore sicuramente più ampia e precedente questa cosa mi conforta da quando io mi sono smarcato dal teatro io ero un critico dell'avanguardia negli anni 70 80 era un critico dell'apposta avanguardia dato che sarebbe importante e con Calvi ne ho parlato più di una volta e speriamo di farlo un'azione in città che possa anche ricordare meglio una figura come Peppe Bartolucci io definisco un rabdomante uno di quei critici militanti che hanno proprio contribuito a fondare un ambito chiudo la parentesi perché è importante queste tracce di memoria e individuare e io l'encarno questa cosa io so che dentro di me dentro la mia sensibilità dentro la mia intelligenza dentro il mio coraggio c'è quella vocazione teatrale d'Avi quale? è di un teatro che cerca c'è un concetto bellissimo che ci aiuta a capire che cosa sia il teatro è percezione condivisa non solo di oggetti ma di tempo e di spazio mettere nello spazio il teatro è ciò che fa la differenza quando Antonio Calvi ci fa vedere quelle immagini interessanti ci fa capire molti di noi lo sanno e come se lo sanno è da un pezzo di come il teatro sia funzionale alla rigenerazione urbana svolge una funzione paradossale paradossalmente economica ecco quanto sarebbe interessante interrogarci su come oggi un teatro che deve ripristinare le sue valenze perdute perché si è persa un po' e si è avizzita e diventava sterile la vocazione sociale del teatro io non credo alla vocazione sociale del teatro io quando nel 74 mi ritrovai 74 ero minorenne ma allora si diventava maggiorenne a 21 anni avevo 19 anni dentro l'ospedale psichiatrico di Trieste con il collettivo Majatoski noi e Scabia avevamo contribuito quella volta era il 74 a chiedere degli happening e delle azioni teatro dove il teatro contribuiva a innalzare la sticella il livello di percezione dove è il livello di percezione ma di percezione condivisa che non è solo un problema di verticalità anzi è un bel mix un bel trossover tra il verticale perché il verticale ci vuole devi leggere vedere sapere fare esperienza ma è quello orizzontale pervasivo includere quanto è importante tutto quanto questo e vado a chiudere io in tutti questi anni molti di voi non lo sanno io per 16 anni non ho vissuto a Roma ho vissuto a Torino e molti dicono ma questo chi è io ho quegli anni negli anni 80 90 in questa realtà ero molto ma molto attivo e rappresentavo con la figura di congiunzione tra il mondo della performance e i nuovi media prima elettronici e poi digitali allora io dentro il mondo dell'innovazione ho portato dentro il daimon dell'avanguardia noi dell'avanguardia abbiamo anticipato l'innovazione chi si è occupato di performance in quegli anni ha delle chiavi di volta ha degli enzimi che servono ecco io penso che sia determinante strategico ma per noi tutti anche per immettere e questo riguarderà gli ultimi secondi no sì due minuti sono 120 secondi dentro uno dei tavoli non metterei la parola innovazione perché non se ne può più c'è una parola che tra l'altro riguarda anche qualcuno di voi che ci sta lavorando e di cui mi sto occupando da una vicina di anni a 8-9 anni la resilienza la resilienza non è un ambito è un'attitudine è un comportamento creativo è la capacità di rimettersi in discussione non è solo adattamento è la risposta creativa è la mossa del cavallo ecco dentro questo ambito io proporrei che proprio un tavolo riguardasse la resilienza urbana e di come oggi le intelligenze le competenze del teatro e della performance eccetera possono essere funzionali alla città tutta a sopravvivere a questa crisi di transizione grazie 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 allora poi capiremo come armonizzare tutte le suggestioni non vorrei se ci lo vediamo possiamo aprire 12 tavoli chiaramente alcune cose andranno un po' sovrapposte non vorrei fare proprio io come dire il ruolo arido del sintetizzatore quindi vedremo come farlo Roberta Scaglione è intervenuta quindi ti togliamo tre minuti così d'ufficio ce ne hai sette invece di dieci anche meno forse volevo solo ripetere quello che ci siamo già detti nel senso che a me mi prego un po' c'è l'urgenza di concretizzare un po' di mettersi al lavoro quindi la questione che ho posto prima del bando però per me come dire è fondante non tanto perché può essere una cosa su cui sperimentarci veramente perché crea poi dei problemi sul lavoro vero quindi noi veniamo da mesi di resilienza da una parte di grosso impegno quindi non di stanchezza per cercare di capire quali sono le risorse e affrontare le procedure al meglio sicuramente rispetto anche ai discursi che sono stati fatti oggi e quindi anche il motivo del mio intervento in realtà adesso sono molto soddisfatta di quello che è stato enunciato in partenza dalla relazione di Andrea da quelli di Graziano di Sergio penso che queste contengano già molti eventi importanti forse in qualche modo giusto per ribadire uno stato di emergenza si parla di spazi eccetera condividevamo anche prima all'esterno c'è uno stato di emergenza associativo perché magari se chiude un teatro è più evidente stanno chiudendo o rischiano di chiudere molte associazioni proprio per la mancanza di risorse la mancanza di facilitazioni quindi queste non sono situazioni da cui se ne esce facilmente per questo questa ansia di mettermi al lavoro perché penso che in una sorta di tavolo perché esistono già molti di noi qui condividono tante giornate e tanti tavoli insieme quindi abbiamo un po' al momento bisogno credo di concretizzare il lavoro che stiamo già facendo da anni ma anche da mesi in particolare su quelle che sono le questioni che oggi ci vedono partecipi quindi questa urgenza associativa c'è appunto senza risorse le associazioni perdono capacità progettuale e questo poi va a incidere anche sulla qualità della vita diciamo in generale perché il lavoro che fanno le associazioni è stato sempre molto importante quindi poter prevedere insieme qual è il futuro quindi lavorare insieme sui prossimi bandi lavorare insieme sulla vicenda dei teatri di cintura conoscere quali saranno che un conto è leggere le delibere un conto è capire quali saranno gli attuativi di queste delibere potrebbe essere molto importante un'altra cosa importante che metterei al centro di un qualunque tavolo a questo punto è che è importante che queste associazioni che già lavorano in rete quindi non c'è come dire bisogno a mio avviso di creare una rete che in qualche modo c'è ma di lavorare in rete con le istituzioni perché se tanto mi dà tanto anche leggendo le tracce delle nuove delibere le istituzioni comunque come ha detto anche l'assessore Berga a Roma ce ne sono 14 15 non mi ricordo quel numero ha detto e loro si devono occupare di quelle e di quelle si stanno occupando ancora non sono arrivati ad occuparsi della piccola impresa della piccola associazione ma anche capisco che le risorse probabilmente non saranno poi sufficienti per ridare energia e qualità del lavoro a queste associazioni potrebbe essere una strada di creare una relazione forte di lavoro tra le associazioni e le istituzioni perché le associazioni in questo noi ne abbiamo tanta esperienza perché chissà che tipo di lavoro facciamo abbiamo la particolarità di lavorare tanto diciamo sia come associazione come piccola impresa ma anche tanto in relazione con le istituzioni e io spesso diciamo seduta come lo vediamo quanto sarebbe diciamo quanto quella connessione di lavoro tra le associazioni e le istituzioni potrebbe essere non dico una svolta ma sicuramente una chiave di lavoro perché le istituzioni oltretutto spesso non hanno qualcuna non ha le competenze perché magari gli vengono attribuite non voglio criticare le istituzioni in sé magari gli vengono attribuite anche delle competenze a un certo punto non le hanno o non hanno anche risorse sufficienti per assumere sappiamo che in alcune istituzioni c'è anche il blocco delle assunzioni eccetera ma nel lavoro invece in sinergia considerare anche in un futuro forse le associazioni anche proprio delle braccia operative dove è possibile però come si incontrano anche le progettualità quindi forse un tavolo un pensiero che vada concretamente al lavoro su questo a mio avviso potrebbe essere utile ma non mi sarebbe appunto condividerlo anche con gli altri se è un pensiero che hanno un senso grazie la cosa che a me preoccupa a questo punto del percorso è una soltanto è l'idea che è vero che noi siamo qui chiamati chiaramente a mettere in campo la nostra esperienza però come cercavo di dire prima brutalmente il fatto che personalmente io non posso come molti di noi non possono permettersi di mettere a disposizione troppo tempo o tempo per occuparsi appunto e far sì che questa città vada avanti dal punto di vista culturale quindi la questione la mia preoccupazione è questa sì ok decidiamo i temi dei tavoli però il metodo con cui questo lavoro si porterà avanti mi preoccupa perché tante volte riunioni come queste che sembravano essere in qualche modo non un punto di svolta perché insomma semmo stati tratti forse all'inizio un po' di ottimismo c'era adesso ok vediamo cosa succede dopo ma dopo non succedeva nulla e diciamo da un certo punto di vista ho riflettuto sul perché tutto questo non portava effettivamente a niente di concreto e la risposta che mi sono un po' dato è che poi alla fine si parla sempre dei temi e dei problemi che più o meno insomma conosciamo tutti ognuno con competenze specifiche molto chiare io quando parlo con i miei colleghi mi impressiono ma anche i colleghi artisti non solo organizzatori della capacità e della puntualità con cui sanno delle cose a me completamente oscuro immagino che anch'io dall'altra parte saprò mettere a disposizione altre tante competenze però il tempo non c'è più le competenze sono tante sappiamo rispondere o comunque sia a tanti questi rispondere a questi no però sappiamo diciamo dove sono dove si ingarbugliano alcuni sistemi alcune problematiche la cosa che proprio mi manca alla fine è mettere a sistema tutto questo sapere in un tempo ovviamente è limitato perché non possiamo fare riunioni ottavoli è diventato complicato quindi la domanda che io mi pongo qui nel senso tra le altre cose è possiamo immaginare un metodo per interfacciarci in questo caso con un assessorato con un assessore Luca Bergano che penso che per noi in questo momento è un'opportunità perché è una persona in grado di ascoltare come ci ha spiegato non è in grado di agire completamente ma forse insieme possiamo aiutarlo la domanda è come qual è il metodo che ci mette in relazione con l'istituzione e io credo che questo metodo non dobbiamo necessariamente essere noi a darlo io penso che ci sono delle competenze specifiche molto chiare all'interno dell'assessorato che potrebbero essere messe a disposizione di questo persone con uno stipendio e diciamo chi più di me in questa sala sa che ci sono delle persone secondo me adeguate che possono portare avanti non dico un pensiero il pensiero possiamo portarlo avanti noi a seconda delle nostre competenze ma ci serve un metodo perché se no non andiamo da nessuna parte allora io riso che è stato molto veloce e provo a rispondere sulla questione del metodo sono d'accordo con quello che dici Fabrizio però temo che se noi deleghiamo a qualcuno interno a un dipartimento un assessorato l'elaborazione di un metodo quel metodo non si elabora mai perché purtroppo non è l'interesse Fabrizio e lo stile mi sono volendo comunque e soprattutto il dipartimento non è che deve essere che gli ha letto quindi non gliene prega veramente un cazzo ma non perché siano persone come dire svogliate ma perché hanno altri problemi noi siamo uno di un miliardo di problemi allora il punto è che ovviamente è difficile fare dei tavoli tecnici che risolvano tutte queste cose questo lo cerchiamo di sintetizzare su alcune problematiche che peraltro come vedi hanno un livello proprio molto differente perché il tavolo sulla burocrazia che più o meno proponeva Roberta e che a questo punto potrebbe anche prendersi il carico come dire la responsabilità di creare un appuntamento con l'assessorato per questo tavolo ha una specificità che è quella locale no? cioè come dire è quasi di categoria abbiamo dei problemi cioè una macchina ingolfata gli diciamo con il nostro know-how dove si ingolfa tu ce lo risolvi per la volta successiva e questa cosa si fa ogni sei mesi dico per dire sto dicendo cazzato mentre il discorso sul patrimonio è già tutta un'altra cosa perché come diceva Luigi dall'intervento che aveva fatto prima gli spazi fino a qualche tempo fa funzionavano si funzionavano senza chiedere soldi ed era pure una risorsa della città perché tu venivi a fare le prove di alto facevi le prove all'angelo mai l'angelo mai non costa però restituisce alla cittadinanza attraverso il lavoro lo spazio che ti dà gratis e quindi quello è già un altro ancora di settore e poi c'è il problema di riportare tutto questo a livello nazionale io lo ridico per la terza volta ma io penso che se non facciamo questo passaggio comunque tutto si bloccherà a un livello di normative che Bergamo ma che ci vuole fare è un assessore al comune di Roma che è una carica importante ma rimane un assessore al comune di Roma cioè la normativa poi va cambiata a livello non so se vi ricordate vent'anni fa quando si parlava di leggi sullo spettacolo se fecero dei processi partecipati che portarono in Parlamento però delle proposte non so se ve lo ricordate col PRC che era? Alessandra c'eri tu? dove è Alessandra Ferrano? non vedo più chi era la deputata che aveva portato in Parlamento? te lo ricordi? ricorda manco più la di Simone si chiamava di Simone? vabbè comunque sia cioè c'è stato fatto un passaggio assembleare che ha prodotto delle problematiche che poi sono finite in Parlamento ora noi abbiamo fatica ad avere dei referenti da questo punto di vista ma se non si fa un passaggio a livello nazionale sui punti che lo richiedono chiaramente non arriveremo mai da nessuna parte cioè laddove la competenza è comunale bisogna fare dei tavoli tecnici come quello che dice Roberto laddove la competenza è nazionale bisogna chiedere a Bergamo come Bergamo ha chiesto a noi fate in modo che questo dibattito diventi pubblico esca dal teatro e sia un problema della cittadinanza questo è un problema nostro dei comunicatori ma anche degli artisti e poi però bisogna dire all'istituzione ok e poi adesso andate in Parlamento andate dal governo a dire che non tu Luca Bergamo non tu maggioranza del Comune di Roma ma un tavolo cittadino che è interluguito con l'istituzione ha un problema justo non riusciamo più a fare il nostro lavoro che volevo fare? perché il punto è questo altrimenti ce lo rimpandiamo cioè quelli ti diranno io fino a qui non ci arrivo io fino a qui non ci arrivo ora io non lo so come si fa però il punto è secondo me visto che siamo in un mare di casini è individuare delle cose molto specifiche molto generali però che competono tutti e capire cosa va a posto come dire a livello nazionale e cosa va a posto a livello locale tre cose non di più poi il resto raggiungeremo ammesso che continueremo questo processo diciamo perché se no non se ne esce non lo so cioè temo che altrimenti tutti quanti andiamo a vedere quali sono le problematiche che sono tante però se ci raccontiamo le problematiche non troveremo le soluzioni però posso dire solo una cosa ma purissimo secondo me in testa tutta questa cosa cioè la richiesta a Bergamo di assunzione di responsabilità politica chiara e certa io capisco il suo discorso cioè capisco che la situazione la burocrazia sia andata compiegando sempre di più perché le normative si sono anche affastellate l'una all'altra in questo momento c'è un momento di durezza particolare c'era una sera all'orologio e lo so come è andata quella storia sembrava essere in Argentina il punto però è che lui è il nostro interlocutore politico e lui questa responsabilità politica se la deve assumere il discorso che lui ha fatto qua oggi per me è inaccettabile questo è l'apertura del nostro documento poi collaboriamo con un uomo che chiaramente è disponibile ad ascoltare ma è lui la nostra il nostro interfaccia e non ce ne è altri quindi questo per me è il primo punto dopodiché andiamo sul concreto sono 15 anni che ragioniamo sulle cose e le cose siamo riusciti soltanto a farle peggiorare 15 anni fa vivevamo una situazione di gran lunga più vitale artisticamente e più fluida liquida possibile in cui avevamo tutti speranza di poter fare qualche cosa in questa città tanto che stiamo ancora qua siamo riusciti solo a farla peggiorare prendiamo tutte sono mesi che ci si che Roberta Elisa e Alessandra si incontrano rispetto ai bandi prendiamo tutto quello che c'è e facciamo una piattaforma programmatica minimale alla quale però rispetto alla quale però aspettiamo le prime risposte e poi facciamo altri tavoli altro lavoro risposte concrete soluzioni perché se no qui tra a parte l'esilio a cui aspiriamo tutti tutti io per prima se le sto provando tutte ma moriamo moriamo di fame non ci abbiamo più niente da metterci quindi pochi punti in questa delibera 126 chiarezza che significa come si da qui a tre mesi che succede di questi teatri dopo di che se quello che succede non convince il teatro di Roma non convince noi basta si blocca non la fate abbiamo fatto così abbiamo fatto così per anni io penso che questi sono almeno la prospettiva dalla quale dobbiamo muoverci se no siamo qui a fare niente a raccontarci che ho fatto io che hai fatto te l'arte per carità ma va benissimo almeno in un posto dove finiamo e beviamo allora Lucia Calamaro no gruppo di silenzia artistica noi siamo il gruppo di silenzia artistica di Roma presidenza ci siamo sentiti con Milano siamo in piedi da un anno e mezzo è difficile dire a che categoria facciamo parte perché diciamo che noi saremmo gli under 35 però under 35 non lo so è una cosa che tra qualche anno non sarò più però la mia situazione credo che rimarrà la stessa quindi diciamo secondo me secondo me più o meno stiamo certo peggio di così la vedo molto quindi che cos'è la nostra categoria la nostra categoria è quella con quelli che dentro a Rialto ci hanno messo solo un piede e poi ci ho lasciato delle scarpe da ginnastica l'ultima volta che hanno messo i sigilli e sono dovuta andare via quindi non ho mai provato a Rialto non so che cosa può essere poi viene l'attimo tra quando lo giudo e quando lo vado esatto esatto non c'erano mai avuti questi spazi che qui stiamo cercando di rivendicare per me è la prima volta per noi è la prima volta cioè non abbiamo un passato a cui dire ah era meglio prima quindi proviamo ad andare dove eravamo prima noi siamo per quello che succederà e vabbè brevemente l'unico punto che avremmo fosse scritto nel documento consultivo di questa assemblea è la formazione cioè noi siamo insieme soprattutto per questo motivo perché in questo momento essere di anni a 35 vuol dire entrare in questo mondo senza sapere assolutamente niente di come funzionano le cose da nessun punto di vista dal punto di vista amministrativo dal punto di vista di lavoro ma no ci informiamo infatti ci stiamo auto informando però la questione secondo me è che cioè che si potrebbe avere una risposta dalla città da questo punto di vista no lo deve restare a voi la risposta da soli dai insomma va bene no infatti non puoi venire chi a dire dobbiamo sapere cosa no infatti no forse si è espressa male noi abbiamo due dei relatori che sono qui oggi Achilio e Grezzano graziani hanno partecipato ai nostri incontri di auto formazione che abbiamo organizzato l'anno scorso quindi il nostro tentativo è pratico ed efficace la nostra presenza qui è proprio perché noi ci incontriamo ogni mercoledì proprio per studiare assieme anche grazie ai nostri le nostre conoscenze delle persone della generazione prima con cui vogliamo parlare per informarci quello che è successo nella città prima di noi e per cosa potremmo fare in futuro proprio perché viviamo una generazione per cui il massimo della compromissione è un like o una condivisione su facebook ecco noi il mercoledì ci mettiamo una presenza allo studio e quindi insomma una di queste tavole che si andranno a fare sicuramente noi vorremmo partecipare chiaramente nel nostro piccolo perché ci stiamo ancora formando ma sicuramente perché dobbiamo stare al passo con quello che è già stato fatto e si fa andare a fare Alessandra Berlano ragazzi vi prego diamo un senso a questa giornata vi prego diamo un senso a questa giornata cerchiamo veramente di uscire con qualcosa di forte da qua perché se no se ne riparla tra gli altri 5 anni possiamo fare tutti i tavoli più dettagliati del mondo ma diamo veramente un senso a questo lavoro abbiamo ascoltato 10 minuti di discorso sull'arte è stato caponissimo questo atteggiamento nei confronti di questi ragazzi che provavano a parlare mi interessa voi avete dei nostri uno dei problemi della nostra generazione è questo atteggiamento che voi avete di no mi scuso, mi scuso di questa cosa però non si può neanche venire qui a chiedere informazioni ma non si può parlare di libertà e di democrazia no perché anche il intervento prima è stato cancellato e non esageriamo le cose appunto le stiamo chiedendo le stiamo chiedendo le stiamo chiedendo ma non si può avere la libertà se non c'è la città è quello che vi stiamo chiedendo allora mi troverete le ragioni andrete letto anche qui perché non sembreremo le ragioni viene qui a fare la delazione, non manca la cosa, scritta dove fate l'azione è stato giurato, è stato seguito, facciamolo non viene qui a fare la delazione perché ti accoste a persone la delazione non ti piace è normale, io e gli attori, voi prendete soldi, chiedete soldi è normale, noi e noi, a noi chi? a voi chi però? a voi chi? a voi chi? a voi chi? a voi chi? posso dire una cosa? allora, premesso che anche io voglio dire Andrea, scusami, ma insomma, mi assostro al discorso potremmo anche parlare un po' di più però, al di là di quello, cerchiamo di non generalizzare perché, se no, 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 ma lo dico cercando di tendere una mano alla tua, come dire non solo di senso, ma anche evidentemente di saggio rispetto all'andamento dell'assemblea scusa, aspetta, finisco di parlare, non ti sento dimmi pure di, di perché non ti sentivo ma io se ce l'avevo, scusa se sono avaro di congiuntivi in questo momento però se ce l'avevo, te le dicevo nel senso, stiamo qui per cercare di capire io, l'unico appello che ho fatto, e su questo sono d'accordo con Roberta anche se sono meno d'accordo sul fatto di, come dire, di porre il discorso in una chiave muscolare perché penso che tanto non ne capiamo un ragno dal buco però penso che abbia ragione lei su un tema cioè dobbiamo trovare delle cose dei minimi comun denominatori della categoria da porre subito soprattutto sulle cose che stanno rendendo questa città un deserto culturale quindi non lo so dobbiamo capire che cos'è che possiamo porre il discorso della burocrazia è una chiave abbastanza chiara non è un caso che l'abbia posta in maniera accorata un'operatrice non artista che se ne occupa e che evidentemente ci si deve scornare tutti i giorni poi c'è il problema degli artisti e siamo d'accordo Fabrizio Parenti ha fatto un discorso anche lì abbastanza accorato e accurato su quello che possono essere gli spazi e le risorse il gruppo Graga, ha parlato prima nasce in un certo senso se si riuniva attorno all'esperienza che doveva nascere a Rialto ma non è nata si è spostata a SpinLab che ha trovato comunque uno spazio dove non paga l'affitto evidentemente loro si possono formare perché c'è qualcuno che ha occupato uno spazio non perché questa città riconosce degli spazi dove la gente si può vedere e formare queste sono problematiche le sappiamo da 20 anni forse anche pure da 40 c'ha ragione chi ha detto queste sono un po' problematiche che vanno avanti da tempo dobbiamo scegliere quali sono gli elementi più importanti e cercare di fare delle proposte concrete ora è chiaro che però tutti quanti, quelli che si sono scritti a parlare porteranno la loro esperienza non è che li possiamo censurare leggeremo pure da questo posso suggerire questa cosa perché sennò addirittura si invoca la mancanza di democrazia non sembra un po' eccessivo spiego quello che è successo semplicemente Dario Giorgio ha mandato un intervento chiedendo a Valentina Salerno di portarlo io ho compreso che Valentina Salerno dividesse il proprio intervento con quello che è Dario Giorgio per cui finiti 10 se avessi letto prima Dario Giorgio l'avremmo tagliato lei la soluzione è stata questa se uscite qui dietro alla porta c'è una bacheca dove si è affisso oltre al pezzo di a Giorgio e anche un comunicato che chi non poteva essere presente oggi ci ha mandato via mail quindi è per tutti lo potete leggere è la soluzione più economica in termini di tempo Alessandra si sente? si allora io ho pensato un altro intervento ne faccio un altro allora intanto rispetto a quello che diceva l'ultimo intervento di Graziano volevo dire che c'è un'ulteriore dimensione chiaramente diciamo lavorativa ma non solo perché la dimensione meticcia è quella che vivivo io come un partito che organizza un festival che ha avversamenti multipli che quindi produce spettacoli e quindi veramente si scontra e confronta con la fatica di produrre un festival in Italia oggi e che è una fatica che mi accumula con tantissimi altri e detto questo credo che dobbiamo stare sul piano di concretezza in quanto per me parlare adesso di visioni di poesia vuol dire anche costruire un sistema culturale in cui tutte le espressioni artistiche abbiano diritto di cittadinanza e questo significa qualcosa anche in classe generazionale cross disciplinare che quindi c'è un sistema culturale vivibile e sostenibile per chi produce arte per chi un lavoratore è una lavoratrice dello spettacolo per i cittadini che usufruiscono per la città perché continuo a credere e a pensare che l'arte quello che noi produciamo quello che facciamo è qualcosa che comunque crea un benessere che è un bene comune una parola che abbiamo usato tantissimo negli ultimi anni e su questo credo che siamo chiamati tutti a cercare in maniera concreta e a cercare di trovare delle soluzioni e a dargli anche un tempo a questa cosa su questo questa città e questo va detto è già stato tracciato da parecchi c'è stato un grande percorso cioè Roma ha espresso oltre che delle eccellenze artistiche e dei festival che comunque ormai sono riconosciti a livello internazionale anche se qua faticano contemporaneamente gli artisti sono usciti a proporre tantissime volte in network delle proposte all'istituzione il problema è che questa capacità enorme che abbiamo avuto negli anni in tantissimi anni partendo dall'evoluzione dei centri sociali come se ne parlava prima della scena quella più radicale indipendente a anche quella apparentemente più vicina però non c'è mai stato è sempre stato molto meticcio in questa città abbiamo avuto la capacità di fare delle proposte anche sistematiche il problema è che le istituzioni non sono state al nostro passo cioè noi eravamo 7-10 passi avanti proponavamo e queste proposte non venivano ricevite quindi io sono d'accordo di se lo rilanciamo per l'ennesima volta e mi piacerebbe che non si riparta sempre da zero perché delle cose già ce le siamo dette abbiamo scritto abbiamo fatto documenti quindi magari rimettiamoci anche non so sarebbe bello avere una piattaforma web per poter mettere tutti questi documenti scritti e fatti che hanno fatto tanta fatica avevamo fatto dei documenti veramente ragionando tra spazi occupati artisti realtà indipendenti realtà indipendenti cose scritte che esistono quindi io propongo uno sarebbe bello avere una piattaforma web pubblica di pubblico dominio dove mettere tutto questo materiale sia chi è più giovane lo può vedere perché c'è stato un lavorio ma anche dove alcune cose si possono anche prendere e utilizzare dopodiché sui punti che si diceva io sono d'accordissimo con l'intervento che ha fatto Roberta prima nel senso che va bene non sono più molto disposta a fare l'autoformazione degli assessori perché l'abbiamo fatta a gratis perché ci siamo un po' rossi e paolo nel senso che per anni abbiamo fatto tavoli interassessorili assessorili a gratis su questo c'è ragionissimo Fabrizio abbiamo portato un sapere nome perché poi negli anni scontrandoci con questo roba polle siamo diventati anche dei grandi esperti anche in modo molto creativo secondo me questo ce lo dobbiamo dire che siamo stati anche tutti molto bravi a imparare molto e quindi abbiamo anche una sapienza grossa sulle prassi e così via quindi l'autoformazione degli assessori no fare un tavolo a me va bene però c'è un discorso di emergenza di urgenza tra un po' stiamo morendo ci sono degli spazi temporali che sarebbero i festival le rassegni gli eventi che comunque disseminano cultura in questa città disseminano fanno circuitare gli artisti disseminano eventi che tra un po' non esisteranno più perché ci hanno portato in una situazione che lo raccontava stamattina Giulio Stasi lo stalking burocratico che abbiamo avuto quest'anno da Roma capitale e il fatto che chi ha fatto le attività il 2016 adesso non può ancora rendicontare con la regione Lazio dobbiamo aspettare che venga messa una piattaforma su Geco Web dove noi possiamo dimostrare tutto quello che abbiamo speso ci abbiamo finito le attività io il festival ho finito il 30 ottobre non posso quindi è un problema di diritti anche non posso che ho fatto cioè stiamo alla follia allora su tutto questo io credo che quindi bisogna chiedere una presa in carico lo dicevo prima Roberta e lo rilancio una presa in carico politica fortissima dal Roma capitale e anche dalla regione Lazio che significa anche investire soldi risorse allora non si è parlato molto di soldi perché è un argomento che fa sempre un po' schifo io lo voglio dire cioè uso una frase che uso spesso mi ha stato gli assalti frontali ci dovete dare il denaro io credo che questo va detto con forza è un po' credo che dobbiamo riprendere un atteggiamento un attimo più forte un po' più battagliero anche nel senso questo è un po' mancato anni prima anni fa erano un po' più cattivi un po' più maleducati aveva mancato non mi tira pugni come i tassisti non mi tira pugni però insomma io credo che insomma è vero che questa situazione ci ha frammentato questa fatica questa mancanza di economia e questa traccarizzazione delle figure di noi come lavoratori ci ha frammentato bisogna un po' ricominciare a ricompattarci sulle risorse credo che nel momento in cui Luca Bergamo che io stimo e credo che abbia l'intelligenza per affrontare le cose però ti viene a dire che per i bandi c'è un milione slash un milione e mezzo mi si indirizza i capelli in testa nel senso che un qualunque altro comune grande ce ne ha 10 di milioni 12 milioni allora possiamo parlare quanto vogliamo però se non c'è una presa in carico che vuol dire risorse economiche e quindi più economie e meno burocrazia perché la semplificazione economica e burocratica è qualcosa che è strettamente collegato con le risorse perché noi questi anni stiamo morendo perché tra un po' non facciamo più di attività non faremo più nulla perché si sono abbassate le economie ogni anno e meno noi chiaramente tutti siamo cresciuti ma le economie sono sempre meno le burocrazie quello che raccontava Giulio è una cosa che non cioè vabbè lo sappiamo è una cosa folle una cosa folle e inaccettabile quindi presa in carico politica sulle risorse economiche per quanto riguarda il discorso delle burocrazie io credo che è un discorso politico non è soltanto un discorso è vero che è locale però il discorso delle nuove legalità che significa che io non sono non faccio strade è un'altra cosa non è possibile che per fare una performance di danza a site specifico urbano mi chiedono pareri di ingegneri carte migliaia di euro che vanno in pezzi di carta non è accettabile nel senso che il discorso di producazione diventa anche un discorso di estetica ma anche di politica su il discorso delle risorse voglio dire altre due cose nel senso che il comune dice abbiamo sempre meno economia c'è una partita enorme lo diciamo da anni che è quella dei fondi strutturali europei dove nessuno di noi può accedere perché solo per le imprese è declinato la gestizione di Lazio è declinato in un modo che noi non accediamo sono milioni e milioni di euro che scadono il 2020 è una partita ancora aperta allora se le istituzioni dicono ma non meno economie creassero delle chiavi di accesso all'esistente non è che non ci sono le economie non ci possono più la tutta staccazzata le economie ci sono il problema è che vengono messi in un'altra direzione adesso ho fatto un canale privilegiato nel cinema benissimo il cinema è importantissimo ma perché le arti del contemporaneo le arti sceniche del contemporaneo non hanno il diritto d'accesso a quei fondi non si capisce questo solo da noi ok dopodiché altro elemento sulle risorse altra proposta Roma capitale ha poche economie ma perché non riesce a fare in modo che dei privati investano in questa città nella metropole di Roma non è possibile nel senso che tutto il nord nord-est nord-ovest italiano allora Ligure e Piemonte lavorano con la compagnia San Paolo che è una passeggiata abbiamo appena vinto questo bando sulle innovazioni di Bandora linguaggi contemporanei innovazioni gli altri loro che ce l'hanno sempre era l'unico bando che avevano aperto a livello nazionale cosa? Fondazione Cariplo lo stanno dicendo l'altra è la Fondazione Cariplo tutti i nostri amici slash colleghi che vivono in Lombardia vivono grazie alla Fondazione Cariplo che fa progetti tra l'altro nuovi pienali e così via noi non l'ex milianese in Lazio non ha niente allora dico ok Roma capitale non hai più dell'economia ma cerca questo gancio cerca fai qualcosa questo è sempre a livello di proposte e vabbè poi ci sarebbero tantissime altre cose però chiudo perché il tempo è finito la cosa vi dico che è giusto mettersi in un percorso di dialogo dopo di che volevo soltanto dire che come si è citato ha citato prima Roberta di Pab una serie di festival in realtà che hanno vinto l'estate romana che erano 18 quindi anche tanto poco rappresentative tutti un po' del contemporaneo ci siamo incontrati visto che stavano allucinati diciamo dalle burocrazie di Roma capitale per il 2016 abbiamo fatto un incontro con l'assessore Bergamo eravamo tutti molto contenti non abbiamo visto nessun cambiamento per cui in realtà diciamo o c'è una presa di incarico politica e capiscono che veramente se no non ci sarà più proposte culturali in questa città oppure possiamo fare i tavoli che vogliamo ma non 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 si fa da sua parte credo che ci vuole che si rendano conto non so come che lo dobbiamo far capire che c'è un'emergenza vera e quindi parliamo però non abbiamo il tempo i tempi devono essere strettissimi grazie allora Gino ha il riso per il tarte c'è? per il tarte non c'è andiamo avanti e abbiamo Anna Maria Achilli ecco 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 buonasera funziona? sentite? che bene dunque questa è una piccola riflessione sarà molto breve in quanto artista e soprattutto in quanto presidente di un'associazione culturale di una piccola associazione culturale oggi ho chiesto di parlare poiché in quanto presidente di un'associazione culturale sono stacca di fare la burocrate anziché l'artista ritengo che le istituzioni pubbliche debbano andare incontro e non contro gli operatori culturali a Roma in questo momento per poter organizzare un evento teatrale partecipando a bandi pubblici ci è richiesto di risolvere problemi legati alla sicurezza e all'agibilità dell'elocation facendoci perdere tempo, energie e denaro che molto spesso non abbiamo e quindi costringendoci a rinunciare vivendo così in una sorta di costante frustrazione a mio avviso gli artisti dovrebbero occuparsi solamente della loro missione ovvero contribuire alla crescita culturale della società in cui vivono in una grande capitale europea quale è Roma pur nel rispetto dei vincoli storico architettonici dovrebbe essere l'istituzione pubblica a proporre e a mettere a disposizione dell'elocation la norma di legge evitando a noi associazioni e gli oneri della questione con l'enorme patrimonio artistico e archeologico che tutto il mondo ci invidia il comune e i relativi municipi dovrebbero sviluppare una politica che favorisca la fruizione del teatro e di tutte le altre forme artistiche sfruttando l'opportunità dell'indotto che verrebbe a crearsi questo a favore soprattutto delle piccole associazioni che proponendo progetti di altissima qualità purtroppo in questo momento storico lottano per la loro sopravvivenza a questo proposito chiedo all'assessore alla cultura di Roma Capitale l'opportunità di creare per le piccole associazioni un costante canale di confronto con l'istituzione che lui rappresenta grazie Carlo Salvatore buonasera sono Carlo Salvatore sono il presidente dell'associazione Teatri Interioni il mio intervento è una semplice conclusione scusate no sono arrivato da poco quindi ho perso tutto il resto la mia è una semplice riflessione proprio terra terra al di là delle diverse espressioni di malcontento di tutti mi sembra di vedere un giacquisto purtroppo finisce alle 18 e non siamo riusciti da quello che sento non siamo riusciti a trovare delle soluzioni delle alternative ci sono tutte sacrosante e lamentene io credo che siamo un po' troppo poco incazzati incazzati scusa del termine ovvero finito questo incontro torniamo a casa un po' troppo poco incazzati e non cambia nulla sento persone che propongono propongono allora io personalmente non mi fido dell'essere umano mi muovo in maniera individuale nel mio piccolo cerco sempre di portare avanti con coerenza con messi edificio con pochi soldi il mio voler creare il famoso benessere attraverso l'espressione artistica un benessere all'individuo e alla collettività e l'unica cosa che mi sento di dire è viviamo a Roma ci sono molti giovani e la loro ingenuità mi piace ci sono persone meno giovani e la loro ingenuità mi preoccupa che le cose non vanno bene è evidente ma non solo nell'arte l'arte è un'espressione della società e a monte la società che è malata tutto quello che viviamo questo malessere è in ogni settore serve veramente una rivoluzione fatta da individui io credo nell'individuo non credo nell'essere umano nella massa ma pensa deve anche parlare veloce ma ognuno parla come vuole madonna di libertà di espressione dirà meno parole comunque allora concludo perché evidentemente vada avanti fino ai 10 minuti io se volete ci sono per un progetto concreto e per me concretezza è soddisfare un bisogno credo che qui a monte a monte lo stimolo che poi stimola cioè che poi attiva ogni azione dell'essere umano è il soddisfare un bisogno qui dobbiamo vedere quali sono i nostri bisogni insoddisfatti che ci rendono così frustrati naturalmente essendo un'assemblea vince la maggioranza il bisogno che emerge di più vince e proviamo a risolvere quello che non è semplicemente risolvere problemi idrocratici economici quella è la punta dell'ice perché alla base c'è un malessere un malessere come individuo ragazzi quello che noi viviamo la società le dinamiche di una società sono delle dinamiche alimentate giorno dopo giorno da ogni singolo individuo sarà una riflessione banale già sentita però io credo che l'unica vera vera molla è quella di essere tanti e si può essere tanti se tutti questi tanti hanno un unico forte bisogno insoddisfatto perché ognuno pensa al proprio bisogno bisogno insoddisfatto il bisogno insoddisfatto dell'altro non gliene può frega di meno quindi io dico uniamoci siamo tanti ce ne saranno anche altri puntiamo su uno che è della maggioranza su un bisogno non soddisfatto e lavoriamo su quello che è il numero perché se no come individui riusciremo a fare poco o perlomeno continuiamo a fare quello che abbiamo fatto fino adesso ti ringrazio per l'attenzione buono grazie buono grazie buono grazie giuseppe artare è presente? no? noi le premiamo poi c'è un Accademia Popolare Antimafia e Diritti già sentivo oddio speriamo stava sentito vicino a me quindi quando ha sentito Accademia Popolare Antimafia e Diritti mi dice sai che due palle sono fortunatissimo perché intervengo dopo dei arre interiori e no 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 non ridete perché lo dico in senso concreto e non erotico perché al di là della fatica che ho fatto anche io all'inizio a capire che tipo di intervento era ha chiuso con una cosa che io condivido pienamente e che è quello con cui avrei voluto iniziare questo intervento cioè prima della declinazione dei sottotavoli e lo dico probabilmente da un ruolo che è un po' più esterno al vostro prima della declinazione dei sottotavoli io farei il tavolo sull'unico fattore possibile che è i cosiddetti comuni denominatori quelli che si studiavano in matematica perché ok il problema è la burocrazia ho fatto l'assessore per due anni nel municipio più grande di Roma non sono riuscito a fare un cazzo proprio niente cioè gli uffici hanno fermato ogni cosa mi si è venuta in mente di fare io che venivo da 10-12 anni di territorio e portavo l'energia dal basso l'associazionismo e via dicendo mi sono rimesso infatti prima di Marino ho detto no vabbè fatelo voi non mi interessa il problema però è che questa questione si genera secondo me lo condivido vedamente il motivo con cui concludeva l'intervento il rappresentante di teore interiore cioè che Roma è una città di tantissimi infiniti piccoli medie e grandi e quindi noi stavamo in cattedra ogni volta che cerca di difendere una questione di tipo verifiziale che accomuna noi e una comunità di riferimento rispetto al teatro dell'orologio e l'ultima e negli ultimi anni ne abbiamo attraversate infinite non troveremo mai l'assessore di turno disposto a fare un regolamento che ci permetta una progettualità di 5-6 anni perché questo impedirebbe alla politica di turno lo spoil system della cultura cioè impedirebbe che chiunque arriva possa poi a sua volta soddisfare la propria comunità di riferimento che è una comunità fatta di tanti più piccoli medi grandi orticelli e per questo che esiste un sistema burocratico con cui ci confrontiamo tutti quanti noi ci siamo confrontati da assessore e da associazione con cui da 10-15 anni cerco di fare cosa in territorio e per questo che esiste questo tipo di situazione noi siamo non fognati perché ci siamo pullati per una quindicina d'anni una relazione più o meno soddisfacente con la politica che ha governato il Comune d'Europa e la Regione Lazio e abbiamo avuto lo sfasamento e lo spandamento del periodo di Alemanno abbiamo pensato che con Marino potevamo rimettere in piedi qualcosa e stiamo andando a lo sfascello perché non se ne vede luce sul patrimonio sulla questione burocratica su dateci il denaro di Alessandra siamo tutti abbastanza d'accordo non sarebbe definita una linea a cui corrisponde il dateci il denaro quindi il tavolo principale dovrebbe mettere insieme gli operatori culturali della città di Roma e definire qual è questo minimo comune denominatore questo obiettivo che accomuna la maggior parte delle persone assumendoci il rischio che in quel minimo comune denominatore qualcuno di noi resta fuori cioè qualcuno di noi qualcuno di noi non trova soddisfatto il proprio individuale bisogno piuttosto che andare avanti ogni volta su una singola cosa e taglio vado corto perché le giornate così lunghe non avidono nessuno noi abbiamo avuto noi io rappresento l'associazione Via Libera per una decina d'anni siamo stati in officina culturale di Via Libera 70 posti stretti compresi quelli in piedi sempre sold out nel senso che quando fai un teatro che non è un teatro ma che è una stanza sulla strada e lo fai sotto un condominio ci fai venire la gente che normalmente non fa teatro e fai anche delle cose carine e la gente partecipa partecipa perché si incontra partecipa perché fa quello che diceva Veronica Cruciani noi siamo là tutti i giorni da 15 anni siamo stati là tutti i giorni per 15 anni la proposta che rilanciamo si sposa molto anche come tipologia con quella di Veronica perché noi stiamo aprendo una cosa abbastanza folle questa cosa che si chiama Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti altra cosa è che la riapertura di una biblioteca abbandonata per 10 anni in una scuola a Cinecittà all'inizio della Togliatti quindi a un angolo opposto rispetto al particciolo e una biblioteca di 250 metri quali che diventerà l'uomo di incontro di delegazione e un'aulamagna che è questa scuola al piano superiore da più di 200 posti che era un'aulamagna con una pedana su cui abbiamo messo per adesso un parco 6x4 un servizio di luce minimo con l'ambizione che diventi casa per gli artisti cioè che diventi residenza artistica noi ci immaginiamo di poter fare un minimo di programmazione però quello che vorremmo fare visto che il nostro obiettivo non è fare teatro o cinema o musica ma è fare contrasto dalle istruzioni scolastiche della ragazza giovanile e socialità in periferia perché veniamo più da quello che dalla produzione culturale fino a se stessa e condivido il pensiero di Carlo Infante dove la parola teatro viene prima dalla parola arte ed è quella cosa che facilita la cittadinanza ma questo senza nulla togliere a tutto il valore artistico di tutti i linguaggi creativi che noi abbiamo cercato di produrre in questi anni quello che noi pensiamo è che per fare un certo tipo di socialità in periferia e fare comunità e welfare comunitario serva l'arte anche prodotto a un certo livello quindi c'è uno spazio a disposizione che dal giovedì 2 marzo aprirà il titolo della prima serata e fino a qui tutto bene nel senso che non era sfondato che riuscissimo ad aprire sarà complicatissimo farlo andare avanti e per questo c'è diciamo uno spazio in più un parco scendio in più che se volete praticare praticiamolo ma fuori dalle difficoltà che noi stiamo avendo con città metropolitana che voi capite che se il comune di Roma non è un interlocutore politico città metropolitana non esiste perché siamo all'interno di una scuola superiore quindi di competenza di città metropolitana siamo andati lì portanto risparmi i nostri tempo e risorse per fare le migliorie e ci scontriamo col fatto che avete il nullo ossa per farle un incubo quindi tolta questa questione cioè di tutta la vicenda burocratica l'accademia si fa al di là del nome il trisolante antimafia e diritti l'accademia si fa se voi la attraversate se voi la percorrete questo poi generico di chi ha piacere e volontà di produrre questo tipo di percorso e poi ambisce anche a parlare alla città avere un'eccellenza artistica ma ambisce più di qualunque cosa a stare là tutti i giorni a tenere uno spazio aperto che possa essere attraversato dai ragazzi e dagli adulti tutto qua grazie grazie io sono un altro dei coracci under 35 non è colpa nostra volevo dire solamente che bisogna fare attenzione a chi si porta dietro in questo processo che si sta cercando di innescare tutto molto bello io sono estasiato non ho mai assistito a queste riunioni sono arrivato troppo tardi per il rialto come dicevano gli altri sono arrivato troppo tardi per tutto sono arrivato che era già tutto chiuso e siamo abituati a fare per noi stessi siamo abituati a formarci da soli siamo abituati a non chiedere spazi siamo abituati a non chiedere soldi siamo abituati a non chiedere nulla come molti degli altri che sono qui e quindi non siamo qui a ricriminare non siamo qui a offrire un'altra finestra nella galleria delle sfighe del teatro mondiale va bene non chiediamo nulla io almeno non chiedo nulla chiedo solamente che in questo processo che si sta innescando si tenga conto di chi viene anche torno di chi c'è dopo voi di chi c'è dopo quelli che già fanno parte di questo movimento di quelli che si conoscono e si riconoscono noi siamo dei noveppini non lo so siamo gli ultimi arrivati però in qualche modo probabilmente anche noi possiamo avere un ruolo in tutto questo ripeto noi ci formiamo ci sforziamo facciamo tutto da noi vi chiediamo solamente di ogni tanto non buttare un occhio solo all'oltre alle istituzioni che sono cattive che devono dare che devono organizzarsi e tutto quanto va benissimo dietro ci siamo noi che vi seguiamo e che forse potremmo anche esservi utili in qualche modo grazie 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 si diciamo aiuti a ci seguiamo ci avvicinano nel senso che se se il dipartimento del comune dove parlavo all'ala che è pure retribuito per pensare le cose non lo fa figura di noi non siamo neanche retribuiti anche prima nell'intervento di prima c'era come io sono disponibile come quelli che vabbè vogliamo uscire usciamo chiamate io ci sto sempre occhio non parlo tanto con Francesco quanto più con Carlo Salvatori cioè attenzione a questo atteggiamento questa è la mia personalissima posizione non parlo a nome di nessuno però è un atteggiamento per cui si comincia facendo le relazioni tutte le lamentazioni subite ma a propria volta lamentandosi non credo che sia mai un buon motore una buona benzina soprattutto quando poi la fine del discorso è comunque io faccio il mio lavoro io ci sto se si deve fare allora fatemi sapere attenzione a questo dal mio punto di vista le faremo sapere allora Guido Di Palma buonasera all'aglianina spontanea fino a 10 sto aspettando che si si sa allora sono rimasto esterefatto perché la prima volta è la prima volta dai tempi di Nicolini sì che sento un discorso condivisibile da parte di un assessore io non credo come? Bergamo io non sono a 5 stelle anzi detesto tutta questa cosa assolutamente però sono assolutamente esterefatto dal suo discorso perché il suo discorso ha proposto una dimensione politica al problema facciamo un esempio il teatro argentino non ha l'agibilità perché ha un portiere che ha un magnifico attico sul tetto invidiabilissimo e infatti si sa che tutti gli incendi in teatro sono avvenuti perché il ferro d'aschiro della moglie del custode ha preso fuoco e quindi tutti i teatri sono stati distrutti dai loro portieri l'uscita di sicurezza dell'orologio non c'è dall'inizio da sempre e perché adesso non è più sicuro perché fanno la programmazione no non è per far che fanno la programmazione perché c'è un problema serio e il problema serio consiste nel fatto che si chiamano i professorini nella Bocconi a scrivere la legge sul teatro i professorini non hanno mai mai capito saputo che cosa è il teatro i suoi processi di produzione e il suo valore non il suo costo attenzione nel suo valore perché si chiamano degli ingegneri a scrivere dei regolamenti di sicurezza questo di fatto significa che il teatro ha perso il peso della cultura che rappresentava e che personalmente per me per quanto io tanto sono in estinzione rappresenta questo è il problema più grosso io mi rendo conto ci sono dei problemi di lungo e di medio e di termini praticamente ieri però questo è il problema politico la burocrazia che ferma il teatro che ferma i processi produttivi del teatro un altro esempio perché volevo perché è molto significativo io ho molto meno problemi negli attori a via di centro perché 13 mensilità ferie pagate malattie pagate lavatore e schieratura me la passo all'università di Roma contratto a tempo indeterminato che è un privilegio ormai da WWF però abbiamo organizzato una serie di attività per gli studenti e il mio è un osservatore un po' particolare perché io vedo della gente che si iscrive al nostro corso di laurea che si chiama arti e scienze dello spettacolo che quest'anno ha fatto che ha complessivamente 1100 iscritti che quest'anno ha fatto 380 iscritti e io mi chiedo che diavolo ci fanno questi qual è il futuro di queste persone organizziamo dei laboratori perché noi siamo convinti che il sapere teorico deve essere coniugato con il sapere pratico io non ho più un posto per fare i laboratori se vogliamo parlare di spazi sapete dove abbiamo fatto l'anno scorso un po' prima dell'anno scorso dove abbiamo fatto il nostro laboratorio con uno che ha vinto il premio siamo stati ospitati e siamo stati ospitati dal Baobab guardate l'università di Roma la sapienza è stata ospitata dal Baobab e grazie al Baobab che io ho potuto fare un laboratorio all'università perché altrimenti non c'erano gli spazi cosa che è successa anche al Teatro di Roma perché il Teatro di Roma mandava a provare qualcuno a Rialto e allora si impone un discorso qual è la dialettica tra legalità e illegalità io ho mandato degli studenti in uno spazio illegale il Teatro di Roma idem ma noi abbiamo bisogno di questi spazi illegali perché questi spazi illegali di fatto costituiscono la cultura teatrale il Teatro di Domani se ci sono gli studenti che vanno a lavorare che vanno a lavorare in degli spazi assurdi pazzeschi nei pub in specie di piccoli magazzini e via dicendo tutto questo avviene al di fuori della legalità non ci sono spazi che hanno agibilità ma il Teatro si fa là e questo è sconvolgente se ci pensate e allora il problema però non è questo perché negli anni 70 negli anni 60 il Teatro si faceva dovunque ed è per questo che è diventato quello che è diventato il bene del male non ha importanza ma si poteva fare dovunque le cantine romane non sarebbero mai potute esistere allora il problema il vero interrogativo è chi dice che quei confini di legalità e illegalità devono essere quelli che stabilisce il professorino della Bocconi o l'ingegnere dei pompieri e poi siamo veramente sicuri che l'ingegnere dei pompieri sta applicando delle norme tra virgolette neutre siamo proprio sicuri siamo sicuri che tutta questa mentalità questa cultura strisciante che è la cultura aziendale che ha conquistato ogni parte della nostra vita si possa applicare al teatro il teatro è un'azienda dicevo il teatro siamo sicuri che il teatro è un'azienda allora forse valrebbe rispondere a Bergamo cominciando provando a organizzare dei tavoli che si provino a scrivere delle leggi alternative una legge alternativa che può essere una legge alternativa e l'idea prima di tutto di affermare a tutti i livelli prima regolamentari poi a regolamentari regionali poi di leggi scusate comunali poi di leggi regionali e anche di leggi nazionali che il teatro è qualcosa di diverso c'è un modo di dirlo io sono rimasto molto commosso dal fatto del video scartellini abbia lasciato un volantino come una cosa di attualità sul Vie Colombier il teatro di Coppò che cos'era il teatro di Coppò? il teatro di Coppò era un teatro d'arte e il teatro d'arte si opponeva ai teatri commerciali ai teatri di cassetta perché? perché rappresentava un sistema produttivo alternativo ai teatri commerciali allora il problema su cui riflettere è come facciamo a sottrarre il teatro e la cultura teatrale alla cultura aziendale si può fare con una legge si deve fare con una legge perché i meccanismi di cui ci ha parlato Bergamo che erano perfetti limpida finiscono con l'essere il muro su cui sbattono tutte le belleità degli benedetti artisti allora se io dico che il teatro è un'altra cosa io posso dire abbiamo finito sì posso stranciare la posizione del teatro dal contesto generale per esempio delle leggi sulla sicurezza perché il teatro è un'altra cosa se io riesco a stranciare il teatro dalla logica aziendale ma se c'è il rischio di vincendio come? se il rischio c'è il rischio garantito che sì si può fare esattamente come hanno fatto come ha fatto Berlusconi con come si chiama la sicurezza in quel momento incoscienti autorizzare che con il rischio di 100 persone non sono non è mi faccio finire no si possa stranciare la posizione del teatro rispetto al mondo del commercio del mondo del profitto il teatro non è profitto e quindi può essere valutato secondo delle norme differenti la sfida è pensarlo al di fuori di queste logiche della logica produttiva basta le start up basta questa logica aziendalista il teatro prima di tutto è cultura è un luogo di coscienza e come tale deve essere trattato il teatro non costruisce vitali un'osservazione non la devo fare voglio dire abbiamo sei interventi in meno di un'ora la legge di quegli spazi negli anni 70 è perché c'era tutta l'intelligenza a sostenere la cultura dai pittori i musicisti i cineasti tutti si sostenevano la cultura l'intelligenza oggi dove sta no 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 scusi abbiamo sei persone questa è la legalità il teatro la fonte c'è non c'è non c'è non c'è no passiamo avanti Daniela Barra c'è un deserto degli intellettuali eh vabbè qualcuno se ne va qualcuno torna Daniela Giordano c'era un bel cueco c'era Fraiano c'era Proviscialoia Achille Ferilli Giuliani Balestrini c'era un mondo qualche giuro che sosteneva la cultura basta basta siamo solo noi allora io riprendo un discorso il discorso che stamattina abbiamo affrontato in in forma scritta eh come facciamo la conta vale a dire come attori e attrici professionisti io ho sentito qui oggi parlare diciamo in modo dettagliato di spazi in modo dettagliato di imprese molta attenzione anche il professore adesso ha ultimato il suo intervento ponendo l'accento sul fatto che al teatro non può essere applicata la logica di impresa perché è è cultura anche Andrea prima parlava diceva facciamo un tavolo di poesia allora noi abbiamo posto oggi nel nostro intervento l'accento sulla questione che riteniamo fondamentale e la la riflessione che manca in questo paese prima di quali siano le strutture che poi esercitano l'arte è su chi è l'attore allora qui oggi io non ho sentito mai citare il ruolo dell'attore come un lavoratore questa cosa determina di fatto una mancanza totale di tuteli diritti per la nostra categoria che poi vengono declinate spese e come dire sbriciolate in tutte le altre questioni che sono le questioni dei mandi le questioni poi di creare comunque i contesti allora o si rimette al centro noi questo chiediamo come riflessione lo chiediamo come tavolo prego o rimettiamo al centro la questione chi è l'attore quindi qual è questa figura è fondamentale o no al processo produttivo l'attore questa è la domanda se è fondamentale al processo produttivo allora l'attore con tutto quello che ne consegue di diritti di tuteli di dignità perché noi ormai la situazione in generale passa dallo sfruttamento all'autosfruttamento e accogliamo in topo le stanze degli under 35 che hanno qui parlato perché loro patiscono sulla loro pelle in primis quello che è stata la politica degli ultimi vent'anni che ha completamente eliminato la trasmissione che per il nostro mestiere è fondamentale il nostro mestiere è sempre stato un mestiere intergenerazionale non è mai stato un mestiere per i giovani e per gli anziani non è mai stato così le compagnie sono sempre state formate di giovani e di anziani formazioni e già formati e i saperi sono sempre stati trasmessi le ragazze che qui parlavano prima dicevano noi non sappiamo niente ci stiamo formando con i critici ci stiamo formando con i critici ma perché non si possono formare con i loro colleghi come ho fatto io e ho diviso il palcoscenico con Mariangela velato con Erospagni con quelli più grandi di me dove potevo imparare a fare questo mestiere ma capire anche qual era la dignità per fare questo mestiere cosa che adesso a questi ragazzi nessuno sta insegnando per cui io ti dico tu devi imparare a chiedere perché questo mestiere che si fa con delle economie è una palla è una palla che questo mestiere si possa fare senza economie ci stanno sfruttando ci stanno riducendo al silenzio noi chiediamo come facciamo la conta un tavolo cittadino sul proprio perché Roma è la capitale d'Italia quindi diciamo potrebbe essere anche un osservatorio nazionale di quello che può essere una quella parte di legiferazione e di riflessione che manca l'attore lavoratore l'artista che sia essa musicista danzatore ma chi è a chi serve serve e allora se serve deve avere la dignità di lavoratore esattamente come un metal meccanico grazie allora io segno la proposta faccio scusate se mi sento un po' chiamato in casa perché in realtà anche se faccio il giornalista dovrei fare insomma secondo la rena è anche così perché non ci pagano neanche o i diritti d'autore quando facciamo gli autori nemmeno l'impg quando facciamo gli informatori ma vabbè insomma queste sono altre problematiche tutto giusto la dignità del lavoro insomma l'agibilità degli spazi ricordiamoci però io penso che lo dico come ordine pratico del discorso che siamo nel ventunesimo secolo cioè nel senso che ragionare su un tema di tutela del lavoro senza renderci conto che il lavoro sta subendo una trasformazione gigantesca rischia di diventare una battaglia contro il producente perché non si riesce a fare la tutela cioè che facciamo facciamo un albo degli artisti che devono ricevere il sussidio copiamo il sistema intermittente francese ma io perché ci trovo diventare il tuo interrogatore no io non voglio diventare il tuo interrogatore sto insieme ma non io sto ponendo degli interrogativi è legittimo ma dai dai sto facendo degli interrogativi posso basta se è inammissibile se ne prendi se è inammissibile dovrebbero arrivare le guardie e portarmi via penso che non succederà quindi tenderei a chiudere il mio intervento dicendo si no non lo sto sminuendo lo sto dicendo che è un discorso che andrebbe inserito magari in un contesto più ampio ok ad esempio in un contesto di reddito di cittadinanza tanto per fare un esempio perché noi è inutile che prendiamo fare una categoria una battaglia io sto dicendo la mia idea io credo che una battaglia sindacale di sindacalizzazione degli artisti nel ventunesimo secolo non solo è perdente ma è pure una cazzata posso dire la mia va bene ok non siamo d'accordo va benissimo ma pure ha parlato di sindacato beh nel senso che nel momento parliamo di tutela di lavoro di un lavoro che sta sul mercato ma chi decide chi è in grado di decidere quante giornate deve fare un artista ok se un artista non piace tutti i registi d'Italia e non lavora chi deve chiedere i soldi che mancano scusami perché c'è pure un problema questo è un settore un po' particolare non sei un metalmeccanico poca puttana sei un artista no? e quindi c'è un altro tipo di criterio di lavoro non si può lavorare in Russia si lavorava ci stava come dire il sindacato degli scrittori e il sindacato degli artisti che dovevano lavorare e forza ok? e guarda caso gli artisti migliori tipo Bulgakov non lavoravano guarda caso va bene lo devo dire io che in Russia non lavoravano allora io sto dicendo semplicemente che siamo in delle dinamiche che non sono più quelle del Novecento è una provocazione d'accordo però cerchiamo di ragionare sul fatto che accampare rivendicazioni sulla base di uno schema che non c'è più del lavoro secondo me è controproducente è un esercizio mentale che non porta a nulla ma guarda ma tutti io da giornalista avevo le stesse problematiche sono precarie a partita quindi non diciamo cazzate per favore tutti quanti viviamo questo problema chi lavora nella cultura che sia l'operatore che sia l'artista o che sia un comunicatore posso dire una cosa senza il critico il teatro lo possiamo fare posso dire una cosa senza il critico il teatro lo puoi sicuramente fare ma a me nessuno mi paga per fare il critico a me le pagano per fare il comunicatore che è un'altra cosa ma questo non vuol dire posso fare forse una mediazione tra le due posizioni perché stamattina avete visto che io sono molto vicina al vostro sentire io credo che in realtà questa tematica sia molto pratica perché qui si è parlato di tantissime cose storia del teatro insomma chi come noi da tanti anni pratica teatro sa benissimo che tutto è giusto ma bisogna guagliare l'avete detto voi per prima anche prima Andrea Porchedo usciamo fuori con qualcosa questa è una base fondamentale perché un conto è dare dei diritti come il metalmeccanico X all'artista perché l'artista giustamente lo dico qui fa uno spettacolo bello brutto oppure è un attore bravo non bravo è giusto che venga chiamato o non chiamato in base alle sue peculiarità al suo talento ma ed è quello che accade nel 90% dei casi e lo sappiamo ed è ipocrita dire di no ed è quello che capita soprattutto nelle realtà piccole perché sono schiacciate a cascata da tutte le cose che abbiamo enumerato oggi vengono scelti spettacoli vengono scelti artisti e vengono sottopagati o messi in condizione di non ricevere i propri diritti contratti senza data di scadenza che pagheremo quando sarà quando ci apremo i soldi queste non sono cose campatenarie né tantomeno sono persone che vengono scelte a priori da un sistema però nel momento in cui il sistema sceglie quell'attore quella compagnia quello spettacolo è giusto che quello spettacolo e quella compagnia venga tutelata come un diritto minimo di lavoro e sappiamo tutti gli scambi i favori io sono stata organizzatrice di festival quindi io parlo anche dall'altra parte io non ho mai messo che lo potete vedere ovunque un mio spettacolo nei festival e non nevo diciamo non giudico chi lo fa ma è una realtà è un atteggiamento etico io nei miei festival non ho mai messo un mio spettacolo ho sempre pagato gli attori ho sempre pagato i tecnici ho sempre pagato i costumisti e questo è questo che noi dobbiamo ritrovare perché è questo che ci mortifica a tutti e questo io penso si riferisca a questo penso si riferisca al discorso non fare il metalmeccanico col timbro tu sei attore devi lavorare tanto non c'è lavoro siamo pure troppi dobbiamo morire come diceva però chi lavora chi lavora deve lavorare secondo dei criteri di giustizia di diritto e di tutela e noi lo faremo da soli noi li apriremo da soli promettoci loro a tempo un organismo di tutela e forse faremo pure business perché la gente si iscriverà perché per avere tutela io pagherei domani e condivido con tutti voi questa cosa chi vuole non mi ricordo il nome dell'Ame facciamo la conta abbiamo intenti comuni uniamoci non disgregiamoci non è che ognuno deve attirare attenzione e farsi l'orticello lavoriamo insieme sfondiamo il sistema Roma può essere l'incubatrice per una serie di motivi adesso c'è attenzione su Roma per un discorso nazionale i sindacati nostri dove stanno un attore che fa teatro nei teatrini di 90 posti viene equiparato all'attore di cinema noto che prende 5.000 euro a cachè ogni sera a teatro non ci prendiamo in giro il costumista del cinema che prende 1.800 euro l'altro giorno mi chiama il costumista teatrale come fa quel sindacato a parlare di me che prendo 50 euro a nero perché la compagnia neanche mi paga da qui dobbiamo ripartire per risanare scusate ho fatto una mediazione questi sono argomenti pratici non è che voglio secondo me Virginia Picozzi e Silvia si fanno insieme e Silvia le fanno io volevo dire solo una cosa veramente veloce rispetto a questo incontro innanzitutto era molto molto ambizioso immaginare che da un primo incontro dopo tantissimo tempo che non ci si incontrava penso probabilmente dai tempi luminosissimi del teatro Valle Occupato non ci si incontrava in così tanti e per parlare di temi che ci stanno così a cuore insomma era molto ambizioso pensare di poter uscire almeno questo per quanto mi riguarda con un documento che ci trovasse tutti d'accordo probabilmente ci può essere una testimonianza su un incontro però cercano e mi sento di rilevare un forte problema che noi voi uscita varie volte è fortissimo esiste e ha tutte le sue ragioni probabilmente anche storiche per esistere però fondamentalmente noi oggi ci dovevamo vedere qui perché il noi è questo e il voi era l'assessore e chi con lui lavora in qualche modo e questo ci avrebbe aiutato per lo meno a chiarire delle questioni e personalmente la cosa che più ho trovato interessante e sulla quale si potrebbe lavorare ma questo anche fuori di qui direi è il fatto che c'è una generazione che è rimasta priva di collegamenti reali con tante cose che sono successe poco prima che questa generazione iniziasse a fare teatro e questo mi dispiace molto e mi preme molto e credo che sia una lacuna importante che dovremmo colmare anche tra le ceneri di questa città dopodiché io credo che se vogliamo cercare di costruire qualcosa di specifico che è diverso da un atteggiamento esclusivamente vertenziale cioè dobbiamo trasformare questa sede qualunque essa sia in un'assemblea e un'assemblea è una cosa un pochino diversa da quella cosa che abbiamo vissuto oggi un'assemblea è un luogo dove ci si riunisce e di fronte a dei temi si discute non è necessario essere tutti d'accordo perché anzi il senso di un'assemblea è esaminare da diversi punti di vista ciò che sta accadendo mirare in avanti osservando l'esistente cioè che c'è il seguente assessore non c'è più Borgia non c'è più Nicolini non c'è più quello che c'è stato prima e in termini di diversità perché la diversità non è un problema affrontare una tematica veramente urgente come quella di che cosa fare del teatro a Roma attraverso senz'altro le nostre esperienze ma non può essere l'autonarrazione di ciò che ci è accaduto e di ciò che ci sta accadendo in questo momento il centro del discorso grazie molto brevemente perché alcuni interventi in particolare sugli spazi parenti tamburrino hanno diciamo parlato bene di qual è la problematica sono molto d'accordo con quello che ha detto Giorgino adesso non mi situerò ma cercherò di parlare ovviamente da mio punto di vista attrice professionista di Medici militante ho avuto l'età per iniziare a fare la militante e credo che questa questa assemblea innanzitutto possa consolare Andrea perché ci sono stati invece momenti poetici altissimi mi permetto di dire svariati interventi e credo che questa sia appunto la ricchezza perché necessariamente la democrazia diretta è difficile richiede fatica richiede grande comprensione grande senso di supportazione ci saranno conflitti necessariamente ma questo è il percorso partecipato non ce n'è un altro o meglio sì i tavoli i tavoli sono senz'altro un'alternativa perché ovviamente rispetto a un esistente che non corrisponde ai nostri bisogni ai nostri desideri bisogna inventare alternative e cosa si inventa? i tavoli cioè li possiamo fare eccolo purtroppo i tavoli sono utili da un punto di vista tecnico di confronto per chi si assume la responsabilità di farlo e di rappresentare e quindi c'è un passaggio necessario c'è una delega e va bene si può fare il momento in cui si fa però ahimè quanti tavoli abbiamo visto fallire? quante esperienze anche molto più radicali dei tavoli sono fallite e assumiamoci anche il senso del fallimento perché serve a imparare e a guardare avanti per non ripercorrere gli stessi errori e presumibilmente mi sembra di poter dire che dai tavoli non mi sembra che sia mai sortito nulla di particolarmente efficace che abbia cambiato le politiche culturali di questa città né tanto meno a livello nazionale perché? perché il tavolo funziona come qualsiasi confronto se c'è un peso politico dall'altra parte se c'è una negoziazione se c'è una contrattazione e la contrattazione non avviene ahimè non può avvenire per sortire effetti solo a parole questo è stato dimostrato ed è stato dimostrato anche quando non avviene solo a parole c'è il rischio serio di fallimento nel momento in cui le agenzie non vengono tutte intercettate e io per agenzie intendo che se si parla di un problema di formazione non si può non parlare con il professore perché la formazione nasce da lì nasce dalla scuola quindi non si può ignorare il fatto che quando i professori manifestano o c'è un problema grave rispetto all'istruzione di questo paese noi pensiamo al nostro orticello perché il problema dell'orticello è che quello dell'altro è sempre in verde e questo è molto problema non un grande orto comune che sarebbe divertentissimo non si può non considerare il fatto che scusate non si può non parlare di reddito minimo garantito perché significa non analizzare la fase storica post-capitalista in cui siamo e un'analisi del genere va fatta e non basta una lotta di categoria perché la lotta di categoria purtroppo incontra dei limiti che sono anche sacrosanti perché i limiti vanno superati io mi permetto di dire questa è una mia posizione personale perché l'abbiamo esperita nel tempo quindi credo che intercettare le varie agenzie sociali sia necessario se è necessario al ruolo dell'arte se è necessario incontrarsi in luoghi in cui ci sia una trasversalità e mi sembra che questa occasione lo sia stata quindi bene e sia necessario sempre di più produrre alternative che credo non possano partire da degli incontri questo per me è un inizio di un percorso potenziale perché no non è detto che si sia sempre tutti questo accade ma accade questo nei percorsi partecipati in cui ci si incontra e ci si scontra e concludo dicendo che una delle domande che credo anche facciamo la conta se si sia posta nel tempo è come come si sciopera come si blocca un meccanismo produttivo che non ci appartiene che non risponde ai nostri bisogni ed è sempre stato molto complicato a parte gli stambionari scioperi del lunedì che tutti ci ricordiamo a teatricuso e penso che sarebbe molto utile immaginare e far parte di un percorso anche secondo me appassionante che è questo di non una di meno che sta immaginando uno sciopero per l'8 marzo in particolare per le artiste anche gli artisti naturalmente perché è trasversale c'è tutto ci sono tutte le informazioni c'è il va de mecom su una pagina facebook appunto e direi chiuderei con questo semplicemente perché è un lancio appassionato alla partecipazione vitale e desiderante che credo ci appartenga a tutti come artisti grazie mille intanto vabbè io non mi ero preparato un sacco di cose ma sarò molto di breve di 10 minuti allora io negli ultimi tre anni della mia vita tre o quattro ormai mi sto occupando di un progetto internazionale che si chiama Smart vedo tanti soci di Smart oggi e quindi sono contento che si stia arrivando anche a Roma e questa esperienza è stata per me professionalmente molto interessante perché mi mette quotidianamente a contatto con realtà simili in tutta Europa praticamente in nove paesi d'Europa e da questa esperienza io non voglio fare la pubblicità ovviamente ma da questa esperienza io ho parlato di un sacco di cose la prima di tutte è che nel posto di capitalismo i diritti si costruiscono da basso cioè la cosa che mi ha più sorpreso di questo progetto e vi giuro che neanche io ci credevo all'inizio che in Belgio oggi ci sono oltre 75.000 iscritti a questa associazione che si è trasformata in cooperativa che si sono autocostruiti in un diritto che è quello di essere pagati nessuno glielo garantiva tutti pagavano in ritardo se lo sono costruito da soli non solo se lo sono costruiti da soli sono diventati 75.000 hanno incominciato a dire ma sai che io non sono tanto famoso se lavoro solo in Belgio voglio andare pure in Francia e sai cosa faccio mi costruisco la Smart in Francia a 30 km da Bruxelles però intanto è andata così oggi in Europa siamo 95.000 il fatturato di tutto questo baradano chi non parla di impresa io lo capisco però lancio questa provocazione per mettere un po' in discussione anche questa cosa noi non siamo un'azienda il fatturato complessivo di Smart in tutta Europa supera i 130 milioni di euro all'anno e sono tutti progetti come i vostri io la prima l'altro giorno sono venuti dal Belgio abbiamo fatto i primi tre anni noi eravamo tutti un po' emozionati perché dovevamo dare i dati e combinazione il primo spettacolo l'abbiamo fatto ad aprile e poi il secondo dico a maggio quindi nella tabella ripivotativa dei tre anni c'era il primo fatturato di aprile che era 145 euro la prima fattura di Smart è di 145 euro oggi noi abbiamo centinaia di fatture da 145 euro e questo ci garantiscono la sostenibilità e riusciamo a pagare tutti gli artisti quando lo connettiamo per adesso al 10 del mese non come in Belgio che fanno ogni settimana ma ci arriveremo anche noi ma la cosa interessante è proprio il fatto di dire costruiamo una comunità che insieme decide quali diritti autodostruirsi e soprattutto in una dimensione di sostenibilità economica perché io lo dico sempre qualcuno di voi mi ha già sentito ma se noi facciamo uno spettacolo che è ben perdita oggi poi noi facciamo un altro che è ben perdita oggi domani dopo domani cioè prima o poi non mi farà lavorare non solo Smart ma nessuno quindi se volete fare questo lavoro dovete cercare di essere autosostenibili non diciamo non di autosfruttarvi ma di essere autosostenibili lo sportello sui diritti a Roma noi lo facciamo gratis due volte a settimana però questo non vuol dire che allora cioè quello che voglio dire è pensi che sia utile fallo e fallo anche come dire in concorrenza Smart perché la pluralità è sempre un arricchimento e va benissimo così cioè il messaggio che vorrei dare questa assemblea molto bella stamattina è che non bisogna fermarsi fermarsi davanti all'assessore di turno tra l'altro Luca lo conosco gli voglia anche molto bene e è stato anche molto bravo secondo me oggi ma bisogna dire ok indipendentemente dalla politica io che cosa voglio che cosa mi voglio costruire la forza di Smart io questa cosa la dico senza polemiche nei confronti di Luca perché appunto lui conosce Smart prima di me la forza della prima riunione noi abbiamo sapete perché abbiamo proprio la sede di Smart a Milano perché la fondazione Caricolo ci ha detto se metti la sede qui ti do 100 mila euro se no non ti do a Roma a me non mi ha detto nessuno ti do 100 mila euro cioè il 7 il 7 di ottobre è stata costituita Smart dal notaio io l'8 di ottobre avevo un appuntamento con l'assessore del comune di Milano e non glielo avevo chiesto io ma l'ha chiamato lui ok e la forza di Smart è stata a dire all'assessore del comune di Milano guarda se vuoi noi siamo disponibili ad avere ma se no noi il progetto lo facciamo lo stesso indipendentemente da te e questo abbiamo detto la stessa cosa anche la fondazione Carico se volete essere partner va benissimo e la fondazione Carico spende più di tutta la regione Lombardia in Lombardia se volete essere partner pensi noi lo facciamo lo stesso e questo non vuol dire però autosfruttarsi vuol dire mettere diciamo tutelare i diritti perché una cosa che noi facciamo è tutelare i diritti sempre non c'è nessuno dei nostri soci che non è pagato regolarmente e non c'è nessuno dei nostri soci che ha un giorno di lavoro in nero questo è fondamentale ma appunto creare la comunità significa riuscire come una comunità basata sui valori ecco questa è una cosa importante perché uno può avere stili diversi può avere anche stili artistici ovviamente diversi per fortuna ma alcuni diritti alcuni valori possono essere comuni e possono essere gestiti in modo collettivo una sorta di sharing economy dell'amministrazione diciamo così dei progetti artistici a tutti i livelli e in tutta Europa io penso che questa sia una delle soluzioni non è la soluzione ci mancherebbe però è una delle soluzioni a un sacco di problemi che noi tutti come diceva giustamente Nel Regalizio Grazie anche io c'ho partita riva io non sono uno stipendiato di smart perché io sono l'amministratore quindi l'amministratore è il peggio messo di tutti perché se va male è quello che paga tutto ma io c'ho partita riva questa diciamo la necessità di essere pratica naturalmente non è solo un problema degli artisti oggi è un problema del 40-50% della popolazione europea e vi garantisco che i tempi di pagamento in Belgio non sono diversi da quelli italiani non è che l'amministrazione pubblica in Belga pagano subito o francesi o danesi quindi cioè il punto è individuare un nuovo modello anche di diritti connessi al lavoro una delle cose che limita smart diciamo così è il fatto che bisogna rendimentare le giornate lavorate che è una cosa ottocentesca diciamocelo forse anche settecentesche noi poi credo non possiamo l'istituzione pubblica diciamo così deve rendicontare al ministero le proprie giornate lavorate non le può fare smart ovviamente quindi e questo è uno dei limiti che smart ha in Italia che stiamo cercando di modificare ok non ho finito quindi insomma vabbè avevo un sacco una lista molto grossa però quello che vi suggerisco indipendentemente da smart ah ma una cosa la volevo dire ad Alessandra non è vero che qui non investono non è vero che i privati non investono perché io ho un bilancio di 300.000 euro che investo a Roma e sono dal Belgio gli artisti come voi belgi che stanno investendo a Roma oggi semplicemente io sono solo capisci cioè non c'è nessuno che mi dice cazzo qui c'è un uno che sta investendo allora quasi quasi lo invito per dire anzi grazie che mi avete invitato oppure cosa? no 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 cioè però non dico te mi hai fatto vedere tu questa idea non è che la sto prendendo con te però il punto è anche questo cioè non siamo una società accogliente e non esiste una società non accogliente che si sia evoluta perché gli matrimoni tra cugini non vanno benissimo quindi o riusciamo a essere accoglienti nei confronti degli immigrati degli investitori di tutti non solo degli immigrati non solo degli investitori possibilmente oppure questa società morirà cioè l'impero romano è morto quando non è cominciato a non essere accogliente allora dobbiamo assolutamente cambiare proprio la prospettiva grazie 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 ancora l'ultimo intervento il domino pubblico qui qui capene per il domino pubblico ciao buonasera a tutti vi ringrazio dell'ultima bricioli di attenzione che immagino sia provata dopo questa giornata e noi siamo una realtà che si associa a quello che è tutto l'ambito dei giovani no? si ne è parlato un po' prima è una realtà che ho trovato anche una casa tra teatro argot e teatro orologio inizialmente poi anche attraverso il teatro di Roma che come sappiamo adesso si è vista mutilata quindi è un'esperienza che dopo quattro anni che cercava di costruire qualcosa di stabile qualcosa che desse la possibilità a questa generazione che non sa più dove sbattere la testa di poter dire sì ok si può fare no chiudiamo gli spazi togliamo i fondi non so dove andremo quello che insomma il motivo per cui siamo qua per cui abbiamo voluto fare questo intervento è dire non chiudiamoci facciamo quello step in più ci siamo parliamo e così le soluzioni come abbiamo visto sono molteplici intuizioni tante speriamo solo di riuscire a fare qualcosa assieme perché quello che ci è rimasto è una speranza nel futuro a cui aggrapparci grazie teatro del Lido l'ottima intervento dopo proviamo a fare una sintesi in ammesso sia possibile tutto ciò buonasera sono Chiara De Angelis dell'associazione di DL che è l'associazione che gestisce il teatro del Lido il mio non è un intervento purtroppo perché mi sono inserita un po' tardi sono arrivata tardi i miei colleghi dell'associazione di DL che erano qua che dovevano fare un intervento sono dovuti andare via appunto a Ostia al teatro a lavorare io non avendo neanche poi ascoltato gli interventi in particolare quello di Calvi e di Bergamo volevo fare solo una richiesta per cui sarò brevissima la mia richiesta come teatro del Lido è quella di se è possibile fare un incontro appunto col teatro di Roma e i teatri del sistema teatro in comune visto che appunto la delibera 126 prevede insomma che tutti i teatri del sistema vadano sotto il teatro di Roma la cosa che noi chiediamo è appunto che si faccia un tavolo un incontro su questa cosa visto che la delibera è uscita già due mesi fa e noi non abbiamo diciamo mai incontrato il teatro di Roma e non ci siamo mai confrontati sul progetto che si pensa di avere ma invece abbiamo incontrato l'assessore Bergamo tutto qua grazie a questo punto dobbiamo provare a chiudere è un po' difficile io ho esaurito la lista che nome scusami non ho stato io non ho questo nome sinceramente nome va bene dai se riesci a stare in questi tre minuti perché diciamo dobbiamo usare l'ultima mezz'ora per fare una sintesi per forza di cose posso dire posso dire buonasera a tutti mi chiamo Fabio Corlini faccio spettacolo da un po' di anni dei primi del 90 anch'io anche se in un ambito diverso sono un clown musicista quindi abituato a un approccio diverso al discorso spettacolo diciamo si va come freelance ai delle agenzie e quindi diciamo questi tipi di problematiche sono diversi so che dalle 11 ho ascoltato per capire un po' la situazione di Roma che adesso sto conoscendo per quanto romano visto che sto adesso a Roma mi sto guardando intorno ed ho colto questa occasione fantastica tra l'altro il mio invito io visto che c'è un grande fermento grandi proposte io vorrei soltanto fare un invito sulle competenze e su quello che è interessante come risultato finale mi spiego qui sembra che siamo un'acuropati che andiamo dalla Lorenzina a chiedersi il permesso per i nostri prodotti la situazione è paradossale da una parte siamo artisti da una parte stiamo proponendo delle cose che in un certo senso portano un tipo di comunicazione di intenzione dall'altro aspettiamo che ci legittimi la stessa situazione che sappiamo in un certo senso di non considerare ideale allora il mio invito è semplicemente quello di far di attingere dalla forza creativa nostra cioè nel senso di usare quello che noi facciamo come artisti cioè di spostare la creatività dal palcoscenico a quello che servirà per ottenere quello che vogliamo mi spiego io ho iniziato a lavorare nelle strade americane di New Orleans e periodicamente qui a Roma ho fatto l'offe nel 94 come clown però periodicamente vado in piazza e continuo a fare spettacoli in piazza per sentire allora pochi giorni fa un signore anziano con gli occhi lucidi mi ha detto vedere il suo spettacolo mi fa credere che ancora non sia tutto perduto e questo non perché sono bravo io ma per non sottovalutare il tipo di appoggio che ci può dare la gente se noi non facciamo io credo che il tipo di appoggio che hanno avuto i metano meccanici e tutte le persone che hanno voluto manifestare questo disagio se fosse rimasto qui non avrebbe saputo nessuno allora io credo che dal tassista all'occupazione ci possono essere dei modi diversi creativi facciamo degli happening calendarizziamo mille persone in un posto dove tutti gli artisti danno il conto noi siamo fatti per questo allora con queste performance con queste maniere questi happening troviamo i fondi per pagare chi si deve occupare di istituzioni paghiamo gli avvocati che ci proteggono paghiamo le persone che sono fatte per quelli qui nessuno è un esperto legale qui abbiamo un critico un giornalista siamo tutti artisti stiamo parlando il linguaggio loro mi sembra sai la favola della cicogna e della cosa qui siamo tutto in campo loro qui parlano il politichese qui parlano di burocrazia qui parlano di cose stiamo così un po' rimpoglioniti scusatevi il francese allora io dico facciamo in maniera che si occupino di queste cose come Berlusconi riesce a salvarsi perché l'avvocato li trova al chiavillo troviamo anche noi il chiavillo che ci riconosca ma facciamolo fare a chi sa farlo altrimenti ci tengono impegnati così allora noi facciamo spettacolo non ci danno lo spazio andiamo a circomassimo mille persone lo riprendiamo mi ricordo un'affermazione che fece una delle organizzazioni cilere prime grandi manifestazioni anti globalizzazione abbiamo usato gli stessi loro mezzi quindi in un certo senso anziché stare così ad aspettare perché poi è un'altra cosa che sembrava un po' sovrapporsi da una parte ci si dice artisti con tutti i belli onori di questo e dall'altra parte però invece ci si dice lavoratori cioè nel senso se uno fa un lavoro artistico ti devi mettere in testa che certe cose te le devi accollare cioè non puoi fare Indiana Jones salaghetto dell'euro se la devi rischiare non vi fate ingannare io sono in una casa occupata alla cardatella per citofonare devi avere capito? allora il punto è il punto è la visione qualcuno ha detto il dovere morale degli artisti di mantenere la meraviglia nel mondo allora io quello che dico faccio il clown prima facevo filosofia pensate un po' la capoccia dove mandatela proprio per semplificare la semplificazione mia è che ho provato a fare politica ma mi incattivisco e allora sai che ho fatto? ho unito le due cose ho fatto spettacolo in Palestina ma non sono bravo capito? stavo lì con le scarpe grandi però non facevo politica però c'è un tipo di intenzione allora quello che io dico la visione se le persone non sanno chi siamo se le persone non sanno che cosa si stanno perdendo perché siamo a teatro vogliamo essere capiti da una parte diciamo che l'arte è per l'umanità è per sollevare lo spirito da un'altra parte ma a me non mi capisce nessuno è tutto il teatro è un foto chiarito? allora bisogna un po' decidersi io dico mi sembra questa triade artista istituzioni pubblico allora noi vogliamo andare dal pubblico ma dobbiamo passare di qua giusto? allora io penso che se sono medico e non si alza lui gliela porto a casa io se mi sta a cuore la salute di quella persona non aspetto il benestate delle istituzioni per arrivare al pubblico allora giriamo dall'altra parte facciamo delle che cose organizziamo delle performance appeni ferie organizzate non fricchetonate tutti in costume montiamo nelle piazze di Roma situazioni dove le persone possano vedere di che cosa stiamo parlando perché non ci viene tutta questa gente al teatro stiamo parlando che è così quindi noi facciamo gli artisti gli avvocati fanno gli avvocati grazie grazie io non so se è possibile sintetizzare tutto quello che è uscito da questa giornata probabilmente sarebbe il caso di lanciare un nuovo appuntamento non lo so ripeto prendo le parole che ho segnato sui vari tavoli alcuni mi sembrano come dire scusate sarò arido questo è stato d'altronde il mio ruolo quest'oggi più difficili da proporre diciamo in un ambito di dialogo con l'istituzione ma insomma possono rimanere invece una proposta di dialogo tra di noi altri invece meno la burocrazia che ha proposto di cui parlava forse più nei dettagli Roberta Scaglione ma anche Diziano Famici ma anche Alessandra Ferraro che tutto sommato è un tavolo già attivato mi sembra sul tema dei festival ma che potrebbe essere esteso anche sul tema degli spazi come abbiamo visto il discorso degli spazi degli spazi dei più indipendenti diciamo che sono comunque un altro tipo di risorse che possono dare diciamo mettere in circolo delle risorse che non vengono ritenite attraverso bandi attraverso dialogo con le istituzioni perché sono gli spazi stessi a darle agli artisti a Brizio Parenti Silvia De Santi Le Fanti scusate ne hanno parlato il discorso che avevo detto un po' chiamandolo così di governance del teatro ovvero che cosa succederà ai teatri pubblici quello Antonio Calvi forse ci deve dire anche se è stato chiamato in causa per varie volte se è disponibile a fare un ragionamento con diciamo per capire che cosa diventerà questo nuovo circuito il tema delle risorse sempre Alessandra mi sembra sia l'unica Alessandra Ferraro che l'ha tirato fuori in un certo senso parlando di fondi europei di fondi privati però anche Stumpo a suo modo diciamo da un'altra prospettiva l'ha tirato fuori io dopo di che le altre parole che sono uscite fuori sono l'esigenza urbana dall'intervento di Carlo Infante che propone un tavolo su questo il tavolo della poesia con un lancio lirico di Andrea Porchedo il mediciato che penso possa essere steso a un'idea di contemporaneo dell'arte che diceva Alessandra la piattaforma web pubblica cioè mettere in circuito tutto quello che è anche il patrimonio delle discussioni di questi 12 13 15 anni che ci precedono ma che hanno sostanzialmente ragionato degli stessi temi il tema legalità illegalità sul quale paradossalmente mi sembra che siamo quasi tutti d'accordo compreso l'assessore Bergamo va bene perché in realtà quella è una polemica di tipo giornalistico di tipo social cioè quella cosa in cui tu devi polarizzare tu fa tassa illegale allora sei un criminale sappiamo benissimo che tutto il centro di Roma non è a norma dal punto di vista della sicurezza dovremmo chiuderlo impacchettarlo denuclearizzarlo e trasferirci tutti in una frosinone costruita da Renzo Piano probabilmente per poter essere a norma non lo so comunque sia io penso che se almeno su un paio di questi temi effettivamente si possa ragionare e si può abbiamo incassato questa disponibilità di ragionamento da parte dell'assessorato alla crescita culturale ma anche del vice sindaco potremmo cercare di svilupparlo non so se in caso che ci accogliamo tutto quanto noi che abbiamo promosso questa giornata direi che è una responsabilità che potremmo condividere anche con le persone che sono più avanti in questo ragionamento di noi come Roberta come Veronica ad esempio sul tema degli spazi anche Stefania Vinciullo per esempio magari fate pace prima e dopo cercate di proporre no 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 sono divergenze è chiaro sono divergenze questa è la sintesi quindi io ripeto credo che alla fine sono tre o quattro i temi centrali ovvero le risorse gli spazi la burocrazia e il circuito dei teatri pubblici che si disegnerà che sono hanno diciamo diversi tipi di urgenze ma sono tutti abbastanza urgenti come vogliamo procedere c'è qualcuno che si offre per ognuno esatto allora viene a fare una proposta Stefania scusami un osservatorio partecipato sulle politiche culturali questa è un'altra proposta che fa Giulio Stumpo ci sto allora Stefania diciamo il tema circuiti teatrali io propongo di iniziare con un incontro con il direttore del teatro di Roma perché ci ha detto l'assessore che ormai sta tutto in mano al teatro di Roma la patata è passata direttamente qui dovrebbe essere imminente ormai l'uscita del nuovo contratto dei servizi ma prima che esce il contratto dei servizi se ci vogliamo vedere parlare ogni spazio può proporre il suo modello insomma cominciamo a far circolare un po' le idee perché quello che abbiamo detto quattro anni fa è stato che dall'alto ci hanno calato il sistema se siete d'accordo se il direttore è d'accordo costruiamo insieme un sistema per replicare Antonio Capri magari insomma è stato ascoltato tutta la giornata io mi pongo già di cominciare io ci sto per cominciare anche domani pomeriggio se volete sono attiva domani è domenica lunedì pomeriggio come? i diritti dei lavoratori diciamo quello sono sempre risorse facciamo un discorso sui diritti dei lavoratori una sintesi non dovrebbe essere nata su queste cavole di identità con l'identità che si vuole rimettere in moto come la troviamo questa sintesi ancora mi surge la metodologia grazie noi vogliamo fare una proposta dico noi impropriamente noi siamo artisti 7607 io devo dire che dobbiamo portare una buona notizia noi come dire siamo artisti siamo riusciti a far chiarire la legge in modo che gli artisti possano scegliere di far tutelare i loro diritti connessi quindi ogni volta che viene riutilizzata un'opera in televisione gli artisti prima c'era solo un ente che per 30 anni non aveva funzionato come saprete molti di mai ora semplicemente abbiamo consentito agli artisti di scegliere prima domanda quanti di voi lo sanno? in parecchi perfetto no ce ne sono molte di mani abbassate per dire che abbiamo ottenuto un diritto che in molti casi ancora non viene esercitato ed è senza nessuna polemica un diritto si può scegliere ma bisogna dare un mandato la buona notizia la proposta che volevo aggiungere prima della sintesi finale è che parte di questi diritti che noi gestiamo che è composto di tre voci eco compenso copia privata e eco remunerazione alla voce copia privata uno dei motivi per cui siamo orgogliosi di aver ottenuto questo cambiamento istituzionale perché eravamo artisti ora siamo artisti che hanno avvocati legali commercialisti siamo accreditati alla presidenza del Consiglio dei Ministri operiamo in tutta Europa raccogliamo i diritti da tutto il mondo parte di questi diritti li possiamo e li vogliamo e li dobbiamo rivestire per cinque parole studio e ricerca sostegno formazione e promozione del lavoro degli artisti allora noi siamo tutti attori è la prima volta che c'è una collecting society si chiamano così in Italia solo degli attori perché tutte le altre sono di musica e audiovisivo e questo tra l'altro complica un po' come dire e altre alcune rappresentatività io sono qui a fare una proposta concreta la faccio anche davanti a Luca noi abbiamo delle risorse da mettere a disposizione degli artisti quindi non abbiamo da lamentarci di nulla ce l'abbiamo fatta ci abbiamo messo sei anni siamo autorizzati a mettere a disposizione dei fondi c'è un'unica grande questione da affrontare con grande maturità da parte degli artisti come mettere a disposizione queste risorse perché veniamo da un passato dove a parte la natura dell'artista che ritiene che il suo progetto valga sicuramente tanto quanto quello dell'altro e se lo dai a un altro non la prende bene non crediamo nelle commissioni che decidono eventualmente la qualità perché a nostro avviso si ha anche il diritto di sbagliare di provare di confrontarsi con il mercato però dei criteri bisogna trovarli e noi veniamo da un passato in cui un ente che ha chiuso 140 milioni in cassa perché non trovava gli artisti di rimaglie è stato chiuso proprio sul tema dei soldi che dava agli artisti a nostro avviso è stato un pretesto per ben altri è stato un pretesto alla luce del fatto che sono stati scagionati tutti quei finti artisti che avevano avuto accesso a quei fondi ma abbiamo un bel problema abbiamo riportato a casa dei soldi degli artisti dobbiamo trovare dei criteri equi maturi e condivisibili oltre che indipendenti per ridistribuirli vi lancio questa sfida dobbiamo trovare dei criteri abbiamo già cominciato a dialogare con Smart per trovare identificare delle forme di reinvestimento che vanno principalmente a fare uno studio di fattibilità perché tutti noi siamo feriti dalle commissioni che decidono qual è un bel progetto e quale no però di sicuro deve essere un progetto che deve poter stare sul mercato quindi per la prima volta quest'anno Artisti 7607 per i propri mandanti è in grado di mettere a disposizione delle piccole cifre ma stiamo cercando di creare un circuito virtuoso quindi io chiedo anche alle istituzioni e a voi di accettare di fare non un progetto dove ci dobbiamo andare è tutto fatto ragazzi dobbiamo solo trovare dei criteri per cominciare a sviluppare un sistema virtuoso di rinvestimento che magari quest'anno dà la possibilità di fare 10 progetti il prossimo anno se siamo bravi saranno 20 e poi saranno di più noi siamo pronti chi di voi vuole cominciare a e va sicuro e va sicuro e direi che gli interventi sono chiusi perché abbiamo 15 minuti e stiamo cercando di andare su una sintesi dei tavoli quindi sentiamo la risposta di Antonio Caldi sul tavolo per quanto riguarda il teatro pubblico poi cerchiamo di discutere degli altri 3 o parra 4 che sono rimasti allora io sono come dire con una non so se le notate un leggero fumo che esce dalla testa perché è stata una giornata molto intensa cose che dicevo in un messaggio adesso perché arrivo da un altro pianeta purtroppo e e cerchiamo di ragionare perché Roma è a questo punto permettetemi di fare proprio una riflessione finale e perché non ha mai avuto una politica culturale vera e perché il senso civico questa città non ce l'ha allora questo circolo vizioso di una politica inadeguata e degli operatori che non ce la fanno va spezzato definitivamente ed è il momento opportuno proprio perché dai vostri interventi si percepisce una sofferenza che ha toccato un livello molto alto e anche un'istituzione pubblica come il Tato di Roma che si è fatto carico in questo anno di accogliere una parte di voi la pressione che subisce non è più sostenibile qui non è nato il primo teatro pubblico e secondo me nasce tutto da lì cioè è nato in un'altra parte e non avendo un teatro pubblico forte non si è creato un sistema teatrale intorno al teatro pubblico per come dire per gemmazione o per contrapposizione e oggi siete siamo non ci metto anch'io perché il decreto Franceschini è un decreto molto complicato che rende ancora più fragile l'istituzione questa massa di vitalità così frastagliata così divace deve trovare come dire dei canali e deve avviare dei processi nuovi siamo a un punto zero abbiamo un'opportunità di un sindaco assessore che viene da una meditanza e credo che non possiamo non essere fiduciosi e costruttivi quindi vanno benissimi tavoli io dicevo vengo da un'altra non ho voluto stamattina riferirmi alla città da cui vengo che è Milano perché questa città diceva Paolo Grassi scusate se lo cito mi sono chiesto spesso perché a Roma non si è dato prima che a Milano un teatro stabile e perché quando è stato fatto nascere abbia sempre vissuto in condizioni precarie sia economiche che politiche e spesso in modo del tutto artificiale lo certifico è stato scritto questo appunto negli anni 50 e 60 la risposta l'ho trovata nella considerazione che Milano ha un senso del municipio che Roma non ha Milano è una città stellare che ha il suo centro naturale Palazzo Marino mentre Roma è un agglomerato immenso di località estrane luna alle altre allora Paolo Grassi ha un limite probabilmente che è quello che percepiva già questa metastasi sociale e metastasi urbanistica direi io ma questa metastasi deve trasformarsi in ricchezza allora se qui non è nato questo come dire difetto originario se qui non è nato il primo teatro pubblico poi ne consegue che nessuno sia preoccupato né di stabilizzato meglio il teatro pubblico teatro di Roma è quello che ha cambiato più direttori nella storia è nato nel 64 quello nel 47 io sono il decimo in tre anni il mio mandato è di quattro che cosa potete pensare che si possa cambiare e io mi domando già che cosa lascerò in eredità al prossimo direttore sarà distrutto un percorso che cerca di aggiustarsi strada facendo per come evolve la società per come evolvono le stanze degli artisti allora da quel vizio nasce appunto questa desterfiliazione e questa emergenza perché non ci sono le convenzioni teatrali qui io sono arrivato a Milano a dirigere il settore spettacolo e ne ho trovato 11 lo lasciate nel 14 per venire a giocare un'altra scommessa in questa città che sto giocando allo stesso modo vostro cioè battagliando giorno per giorno e quando sono andato via ne avevamo 32 di teatri convenzionati e i teatri convenzionati che avevano garanzia per tre anni del loro contributo in base dei parametri avevano l'obbligo di mettere in residenza delle compagnie indipendenti e di seguire per tre anni ora mi domando perché il teatro di Roma non ha una convenzione col comune per tre anni io non so quanti soldi avrò l'anno prossimo come faccio a progettare il futuro invece ci vogliono delle convenzioni che abbiamo parlato con la sessore che è assolutamente come dire permeabile a questo perché il vascello non ha un contributo del comune e così gli altri teatri è vero Roma ha una massa di teatri cosiddetti di intrattenimento e commerciali che altre città non hanno però c'è tutta una costellazione di teatri che hanno svolto una funzione pubblica accanto al teatro pubblico che spesso troppo ha coinciso con come dire le visioni di un artista ecco perché sono contrario alla direzione dei teatri pubblici da parte degli artisti perché è chiaro che scusate non è un insulto agli artisti perché il nostro compito di direttori tra virgolette tecnici possibilmente plurali possibilmente aperti possibilmente aggiornati è quello proprio di creare le condizioni migliori perché gli artisti possono lavorare ecco perché abbiamo immaginato una compagnia stabile che però è stata subito eliminata dai nostri progetti perché i contributi nel giro di 2-3 mesi sono stati decurtati tremendamente e ho battagliato per riavere i fondi deportati dal comune appena sono stati insediati lo stesso giorno che sono stato eliminato sono stati eliminati un milione e due da un contributo ridicolo noi siamo il quarto teatro d'Italia finanziato dal ministero perché questo teatro è così umiliato ancora oggi non è il secondo dopo il piccolo di Milano per quali ragioni vi domando noi prendiamo dal ministero un milione e sei e il piccolo quattro milioni e tre vi sembra normale questo no per cui le battaglie che facciamo noi sono le stesse vostre perché un teatro pubblico sano può essere ancora più allargato e di conseguenza come dire germinare altre situazioni per cui concludo le tre necessità sono le avete tutti il problema degli spazi il problema delle economie e il problema delle regole questa città ha una mole di spazi che possono essere destinati legalmente alla creatività contemporanea quindi l'assessore Bergamo si è impegnato di censirli di fare un regolamento per la loro assegnazione le economie non si può con un bilancio così ridicolo così ridicolo è la stessa proporzione che accade a livello ministeriale tra fondazioni limite 14 180 milioni di euro e nelle vite proprie ci sono 20 milioni di euro in più per 14 entilidici per ripianare i debiti degli entilidici tanto che in ultimo incontro con il ministro ho detto ma se gli entilidici non fa bisogno così importante è inutile alzatelo definitivamente per sempre portate a 250 milioni e non 64 milioni di euro tutto il teatro italiano e la danza compresa vi sembra normale? c'è un problema comunque a monte e forte e allora come diceva l'assessore se il 92% del suo bilancio è assorbito dalle istituzioni principali che politica può fare? quindi è evidente che deve moltiplicare raddoppiare c'è qui una assistente Floriana quindi spero che poi lo riporti deve assolutamente fare una battaglia che dobbiamo sostenere anche noi che il fondo per lo spettacolo e per la cultura in generale per la cultura vivente nelle attività deve crescere perché non può essere destinato il 2% e l'altra cosa non capisco perché si debba procedere per sostenere gli artisti per bandi legati a delle occasioni cioè manca solo il bando del carnevale il bando del capodanno e il bando dell'estate no non si sostengono così gli artisti io ho diretto per 7 anni il settore spettacolo del Comune di Milano e un artista che entrava in quell'ufficio usciva con il doppio delle intenzioni e delle previsioni perché gestivo 23 milioni di euro di cui 10 erano alla scala il piccolo 10 alla scala il piccolo e gli altri venivano dati senza necessità di bando sulla volontà di un progetto e sono andate tantissime cose perché qui non si può sostenere una compagnia o un piccolo teatro con un fondo al di là di un bando oppure si facciano dei bandi anche per le attività continuative per le attività come dire annuali per la gestione i bandi per bisogna camuffare un sostegno che non può essere diverso non capisco per quale ragione e questo non è un problema di questa giunta perché quando dirigevo l'Eliseo avevo un progetto sul genocidio di Rwanda il signor Reistroni mi ha detto di no ho dovuto ipoticarmi la casa per portare in Italia uno spettacolo di 8 ore con 10 sopravvissuti fatto in 5 città italiane quindi non è un problema di questa giunta è un problema antico e sono passati 40 anni dal signor che tutti ricordiamo Nicolini è stato importantissimo questo intervento di tipo politico ci ha ricordato come le arti sociali soprattutto il teatro la musica quelle delle relazioni servivano in quegli anni 77 e 78 che erano anni di piombo in Italia e la città si è ripresa e è diventata palcoscenico ma da allora quali sono le politiche che sono state fatte se anche il teatro di Roma non sa quali soldi deve prendere allo prossimo quindi regole economie spazi molto semplici e questi sono tentabili per me da porre e credo che Berger-Modli possa condividere per quanto riguarda le tigate di cintura che sono pochissime di cintura uno si immagina uno ogni minore con la corda anulare con le uscite teatro quarticciolo teatro sono due tre poi di fatto e ognuno ha la sua specificità allora è vero quello che diceva Paolo Grassi visto che questa città è una massa molto diversa è chiaro che ogni teatro che è radicato sul territorio deve avere la sua identità per cui noi siamo stati molto chiari con l'assessore non ci sostituiamo la pubblica amministrazione per fare i bandi ma vogliamo concettare certo essendo un'istitura pubblica ci mettiamo al servizio delle necessità della città dei suoi artisti e della visione che finalmente un politico esprime quindi da parte nostra c'è il dialogo più ampio possibile la disponibilità però non ci vogliamo sostituire a dei dirigenti che non vogliono mai rischiare per fare un bandico questo deve essere chiaro la pubblica amministrazione è un compito noi ne abbiamo un altro quindi il tavolo come dire verrà fatto fine che dire appunto il grado di Roma c'è io mi domando ogni giorno come cambiare il nostro modo di operare in una città così complessa e in un'azione così allo sbando il modello della stabilità pubblica è finito e mi interrogo continuamente come trasformarlo forse questo disorientamento di Roma è il momento giusto per discutere anche insieme a loro e agli osservatori su come veramente approfittare di questo momento critico nelle crisi possono nascere come dire nuove prospettive nuove visioni e quindi da una parte sono impressionato di trovare questa appunto dicevo vengo da un'altra penata dall'altro voglio essere fiducioso che questo è il momento giusto per iniziare un percorso che sia accelerato che non ci faccia fare passi falsi e che però ci faccia guardare molto lontano perché abbiamo il dovere di appunto permettere alle ragazze di oggi di avere delle condizioni migliori per poter operare grazie grazie Antonio Caldi allora Stefania Veronica stavo dicendo proponendo a Sergio Locatta anche ad Andrea chiaramente di utilizzare poi anche i nostri blog le nostre testate per dire per raccontare come andranno queste interlocuzioni anche in maniera molto sintetica e Roberta ci vuoi dire che cosa è successo invece dal punto di vista del tema burocrazia chi c'era? tu Alessandra voi però vai al microfono vai al microfono sono l'accordo piuttosto di andare avanti per dire che cosa è successo nel senso che c'è già un tavolo sono delle persone che scusa questo ne ha forse anche quello va si sono già i tanti che sono al lavoro su queste questioni quindi semplicemente adesso ci possiamo raccontare anche con voi come vogliamo rimanere per un eventuale altro appuntamento non so forse anche un po' di stanchezza un po' di confusione in testa quindi sul tema diciamo più ampio della burocrazia io lo affretterei un po' nell'emergenza delle cose che ci sono non tanto ma che ovviamente ci interessa l'emergenza ma perché può essere da cartina torna sole anche su delle azioni future quindi siamo già in tanti che stiamo lavorando ci si può allargare sono d'accordo però anche con Giorgina che forse si pone anche un po' il problema della rappresentanza cioè in questo momento è stato un primo incontro probabilmente bisogna anche arrivare a una sorta di assemblea un secondo appuntamento in cui ci si anche dà delle idee per cui più che dire io e altri di noi che adesso Roberta, Elisa, Claudia Alessandra Giulio stiamo già lavorando su questi tavoli quindi ci siamo e continuiamo sicuramente quello che chiedo anche a voi seguiamoci in questo percorso chiediamo un altro appuntamento in assessorato penso che possa essere interessante discutere su uno straccio di un prossimo bando per non ritrovarci nelle stesse situazioni ma come anche la gestione dei teatri di cintura perché sì è vero che in qualche modo riguarda il teatro di Roma riguarda le strutture che ci stanno dentro ma anche se si utilizza un bando sarà aperto saranno gli stessi interlocutori che dovranno non lo so c'è anche un po' di confusione su questo quindi e poi fare un secondo appuntamento non so da qua a un mese con un'altra assemblea in cui si portano già dei risultati cioè noi perché la tempistica comunque è breve dico piuttosto non soltanto per risolvere un'emergenza che sicuramente ci interessa ma perché crediamo che questo lavoro sul campo su una questione specifica ci possa dire aprire sicuramente spero sul futuro quindi non so praticamente come si può fare noi siamo tutti in contatto quindi chi non lo è e adesso possiamo ragionare grazie Roberta un punto di vista operativo noi abbiamo come avrete capito così stiamo alle conclusioni anche perché un po' ci cacciano ho cercato di immaginare questo come più un tentativo di creare degli inizi che non di mettere dei punti quindi quelli di voi che si sono prenotati alla mail che abbiamo lanciato tramite l'evento Facebook di cui lui era il nostro rappresentante noi abbiamo i contatti altri contatti li abbiamo presi all'ingresso avete potuto segnare potete ancora farlo uscendo questo perché credo che sia anche per rispondere a quello che diceva l'assessore prima o Carlo Infante anche prima cioè per cercare di renderla viva questa comunità in vista di un secondo incontro che potrebbe non essere qui facilmente non è necessario che sia qui noi abbiamo avuto questa interlocuzione di cui ancora a nome di tutti sicuramente ringrazio Antonio Calvi e tutto il teatro di Roma però deve essere una forma di azione di controazione comune che si sta dividendo per tavoli tematici alcuni sono già in piedi da tanto c'è un poco già vivo come dicevo all'inizio cercheremo magari di animare sicuramente la proposta di Graziano insomma sicuramente di animare quegli spazi di informazione che già sono attivi su Roma e fuori Roma è una proposta che probabilmente verrà bagliata e molto facilmente accolta dopodiché sappiamo che per esempio i social media sono un buon modo per tenersi in contatto cercheremo quantomeno di aprire una pagina strutturata oltre all'evento che avete tutti in maniera molto generosa condiviso a questo punto volevo rispondere soltanto un attimo ad Antonio Calvi allora Roma è a medaglia d'oro della resistenza questa è una cosa che viene spesso dimenticata perché il discorso di Paolo Grassi ha profondamente a vedere con Milano città della resistenza solo che era un'altra resistenza una resistenza diversa da quella del CLN di Milano una resistenza diversa dai partiti che si erano organizzati nell'antifascismo fuori Italia era una resistenza fondamentalmente spontanea fatta da soldati da artigiani da operai voglio dire che per lo più militavano nel partito comunista quella di Porta San Paolo per così dire allora questa caratteristica questa caratteristica di dispersività che solo in determinati momenti arriva a 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 diciamo di 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 unione a Roma voglio dire cioè è parte effettivamente della natura anche della natura degradata come giustamente hai detto tu e come probabilmente pensava appunto pensava 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 Grazi di questa città questo però ecco questo per questo oggi all'inizio di tutto questo discorso ho cercato di distinguere accuratamente tutto ciò che riguarda voglio dire l'aspetto qualità in quanto prodotto e tutto ciò che invece riguarda i processi artistici allora sono convinto e mi assumo qui la responsabilità che questa città negli ultimi dieci anni ha prodotto molti più processi artistici interessanti che poi sono anche in parte diciamo sfociati in eventi spettacolari altri non lo sono chiaramente affatto di quanto non abbia fatto qualunque altra città italiana di ricompensa Milano questo è perché altrimenti sembra che voglio dire l'impressione è che qui dobbiamo diciamo distruggere una qualche continuità che sarebbe soltanto una cattiva continuità ma qui non si tratta a fa qui si tratta invece di rivendicare proprio la continuità cioè mettere la frutta come? mettere la frutta bravo ok si tratta certo si tratta appunto di mettere la frutta e di riuscire a vedere la responsabilità di qualcuno che abbia l'etica del cuore che si rappresenta e sappia che ha portato a oltre e sappia fare un ponte con l'istituzione sono d'accordissimo d'accordo però la cosa che più mi preme diciamo di tutto di tutto di tutto questo discorso è di dire non siamo non abbiate l'illusione che siamo all'anno zero potremmo essere invece all'anno zero di una riorganizzazione di tutta la teatralità diciamo romana questo è un altro discorso ed è questo forse il dato migliore che è uscito da questa assemblea allora dividerei diciamo i due questa assemblea fin dall'inizio fin da stamattina si è dovuta porre il problema di alternare il dialogo al conflitto il dialogo al conflitto di solito voglio dire non si alternano c'è chi dialoga e c'è chi invece entra in conflitto ora però qual è il problema il problema è che quando tutto è lasciato soltanto al dialogo siamo nella compiacenza e diciamo nel consenso come si direbbe oggi e il consenso è la nuova maschera diciamo dei rapporti dei rapporti di forza laddove lasciamo tutto al conflitto cioè ci riconsegniamo a una marginalità che questa città ha già sperimentato in questi anni come forma proprio estrema di sopravvivenza quindi è evidente abbiamo tentato una sconversa che probabilmente era impossibile da questo però almeno due cose sono uscite la prima è quella della disponibilità su cui vi prego voglio dire proprio per essere insieme dialogico e conflittuale di inchiodare l'assessore Bergamo di inchiodare l'assessore Bergamo a quello che ha detto in questa sede voglio dire quindi qui oggi siamo tutti testimoni di questa disponibilità siamo tutti testimoni del fatto che Bergamo sia impegnato ad aprire dei tavoli su dei temi che avremmo che questa assemblea che è soltanto un inizio come dice giustamente Sergio Locatto avrebbe indicato e questa è da una parte l'altro però dato è che questa assemblea deve trovare dei momenti di prosecuzione voglio dire perché come ha detto giustamente molto giustamente Sergio qui abbiamo semplicemente prodotto un inizio quindi non si tratta di dire adesso non perdiamoci di vista perché forse non saremo noi quattro a diciamo fare a promuovere le prossime assemblee perché si tratta di prenderci oggi alla fine di questa diciamo di questo incontro un impegno voglio dire perché le cose non rimangano qui a proposito di questo in maniera che volevo chiedere Bergamo è un precedente questo è un produttore pubblicato il teatro di Roma attraverso la missione di Calvi tutti i più presenti però faccio una domanda più pratica operativa chi si occupa di contattare per esempio Bergamo cioè chi è che parla con lui allora facciamo una legge cioè direi che rispetto alle proposte che sono state fatte a questo punto chi ha fatto delle proposte se ne deve anche prendere la responsabilità cioè penserei che appunto diversi responsabili che sono proposti da Roberto o da altri che ci sono voglio dire siano quelli che poi formano una sorta diciamo di comitato che viene delegato per così dire da questa assemblea per appunto riprendere quel contatto se siamo d'accordo io Roberto non so se voi avete previsto però potreste fare questa giornata che non mandate all'assessore dicendo questo sì parte l'ha seguito parte c'è a Cristiana e sicuramente riporterà però diciamo una ma se il suo assessorato perché poi non si tratta solo di un'assessore sarà contattato per poter proseguire come dire in un tavolo di analisi del bando eccetera cioè aspettiamo un pochino il vostro report su cui magari le singole gruppi perché non direi delle persone ma singoli gruppi che sono interessati a diversi temi possono poi interagire anche che posso dire io all'assessore il giorno di mani lo strato io dopo questa giornata voglio dormire per quattro giorni allora guarda aspetta vabbè c'è domenica già sono allora noi faremo un report sintetico chiaramente all'assessore che peraltro ha chiesto anche l'audio visto che abbiamo registrato tutta la discussione che glielo faremo assolutamente avere probabilmente è il caso di lavorare d'anticipo nel senso che questo passaggio verso Bergamo che dovrà vedere tutti i risultati e esprimersi su quello che gli abbiamo sulle richieste che comunque ha detto di voler accogliere di fare dei tavoli di confronto probabilmente se noi stabiliamo il momento in cui ci rivediamo anche a stretto giro possiamo arrivare quando lui ci avrà dato una modalità che potremo condividere anche chi è che va tecnicamente fisicamente a fare questo tipo di confronto quindi se vogliamo stabilire un secondo appuntamento forse arriviamo da qui a un mese con delle cose concrete insomma che dite dice io penso che conferrebbe darsi comunque un appuntamento assembleare eh questo tipo da qui a un mese io dicevo un secondo appuntamento assembleare qui al teatro india c'è Antonio Calvi come dice che vorrebbe fissare un appuntamento perché comunque una ricchezza è il fatto che siamo tutti e a volte non è semplicissimo proprio penso che aveva tutto un lavorio grosso per riuscire a creare questa risposta quindi utilizzerei questi ultimi minuti sì c'era una proposta dell'Angelo Maio da questo punto di vista qualcuno ce la riporta nel dettaglio c'è poco da riportare io non so dell'Angelo Maio però dice l'angelo Maio va beh niente questa la prossima l'Angelo Maio sarebbe secondo me un'ottima occasione uno spazio diciamo tecnicamente idorio che storicamente è anche significato se non lo sgombrano no non lo sgombrano stavano e anche a livello simbolico soprattutto uno spazio molto molto importante quello che ha prodotto in questi anni se ci sono le sedi di sicurezza a norma va bene l'Angelo Maio tra un mese ok allora diciamo sarà la fine di marzo alzate la mano se siete d'accordo ci siamo tutti possiamo considerarlo sì va bene allora chiaramente dobbiamo verificare con lo spazio ci sarà anche il teatro di Roma all'Angelo Maio sì chiaramente Antonio Calvi insomma ti invitiamo e speriamo che segui il intero processo assieme a noi come li creiamo questi tavoli come li creiamo questi tavoli e io direi chi è stato attivo sulle proposte li porti avanti quindi io ripeto no 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 ma tu in quel senso tu e Veronica sul tema del teatro pubblico potete anche cominciare a dialogare col teatro di Roma così così no 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 a dialogare in modo che riportate alla prossima assemblea quello che ti facciamo perché sono le disponibilità ok una delle questioni cruciali questa è l'ultima battuta riguardo alle torne della partecipazione attiva i casi rischiano di non funzionare molti di voi lo sanno che spesso sono delle foglie di finto perché funzionino dobbiamo arrivare a questi tavoli con delle leggi a compiute e mi occupo e rilancio la proposta della resilienza urbana ovvero dimostrare come il teatro la performance possa aiutare a rigenerare questa città o perché questa città è in metastasi ma non da adesso da quando è stata assonda la portafia e i montesi hanno dovuto fare rendita immobiliare chiusa la parentesi occuparsi delle forme comporta anche il fatto di non stare seduti intorno a un tavolo ma magari muoversi anche a alcuni tratti di la città per parlare di come intervenire in alcuni spazi urbani c'è rigenerare allora grazie ora ringrazio a tutti per la pazienza è stata molto lunga ringraziamo il teatro di Roma per le vostre carità i tecnici che ci hanno dato una mano in questo casino le maschere che ci hanno dato una mano a dare la parola a tutti grazie 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 a tutti